Musica Bella rilassata La casa è la tua Lei si chiama Speranza House of Hope Sono qui star non per il martello Perché tanto non lo libero Orfeus Perché voglio scorchiare il collo a Raphael Ammetto Oga qui è venuta di pura vendetta E basta Forse posso aiutarti liberandoti da chi ti sta facendo del male The figure shimmers brightly Your words seem to have piqued her curiosity I hope so But it is a faint hope Just like me I can't leave I could only suffer But I'm supposed to do that in silence Everyone here hates me for what I am I'm the thing that kills you And the only reason you're alive Made by a promise And done by the truth A handshake A hug The first beat of a newborn's heart I am hope What little is left of her A guttering candle in a universe of night Raphael's driven her mad Poor soul I'm not much of a friend to anyone anymore But I could use a friend myself Do you want a friend to guide you through this madhouse? I hear the chiller It hears me It'll call Raphael Make every question count Make some of them count twice Madonna Sono qui per uccidere Raphael You brilliant beautiful maniac I'll hold him down while you trim his arteries Except he's not home I'm indisposed and you're in hell Don't waste any more words Or we'll both be sorry The house is home to many things Most will kill you One can save you The hammer The hammer that breaks the chain You must steal it You hear a sound like the rattle of a chain And an agonizing scream in your head As hope flickers from view momentarily Quiet There it goes Everyone here is mad Even you Especially me And that makes them dangerous But it also makes them stupid But I'll make you seem as ruined as the rest of the people here A simple glamour to make you a terrible wretch Now whisper your questions little wretch But really quiet And very clever Concentrate Ma che bella sta roba Dio Cristo E cos'è questo? Madonna Ricorda il silenzio della tua anima Dopo che il giuramento è stato brutto Ma questo è per celare La propria presenza Remember Quiet as a mice Dov'è Raffaele? Behind you Skipping across the planes Spinning plates Making deals Of jokes And devils He's a busy man A busy Ness Man But not a man at all Of course He'll be home soon And you better find the hammer before he arrives Minchia ma lei è schizzata veramente male Porca troia Dove si trova sto martello? The same place you'll find your sorry little soul When Raphael rips it out Discovered an ancient geth prince in need of a saviour The Orphic Hammer is the perfect tool for breaking all infernal chains In the archive down the corridor Past the debtor Oh the debtors They won't like you But I like you I know I do I think I do I hope I do I just need to ask one question And I'll know for sure Sì è come se ogni tanto gli entra tipo Raphael la gamba tesa Cioè è come se si infonde con qualche risata incontenibile De che si tratta? Can you see F.P.? Please 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 Se posso lo farò come posso farlo? All right You have to listen very 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 closely I will say this only once Find the key Take the hammer Smash my chains Find the key Take the hammer Smash my chains Find the key Take the hammer Smash my chains But be careful When you take the hammer The fire will come And Raphael You must run 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 But don't forget me Please 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 I don't want to burn Not again We won't We'll get you out I promise The rattle of chains echoes louder from unseen places And without a scream or a sigh Hope disappears Adoro questo gioco di parole in realtà che hanno fatto Sia in italiano che in inglese House of Hope La speranza sparisce Questa non sta bene Sarebbe che chissà che cazzo gli ha fatto Raffael Durante tutti sti anni Vabbè tanto la boss file finale sarà qua Perché ci stanno i pilastri delle anime Quando usciamo dobbiamo affrontarlo E lì è dove ci abbiamo chiacchierato la prima volta Madonna Con quale quadrino Andiamo a destra come dice Berlusconi La casa delle speranze Prese Vaffanculo Che infarto Ma sei scema Non è piccolissimo ma neanche enorme È il giù Deve esserci qualcosa di utile no? Oh there is There is If you stare into the corridors long enough You're mind Starts to do cartwheels And tricks you into thinking You're falling into a horrible Yawning void It's one of my favorite ways to pass the time But you have no time to waste Or time will waste you E' perché questi sono i portali con cui lui viaggia Portale per Laskan Mephistar Menzon Beranzan O come cazzo si nomina Portale per Baldur's Gate Sulla creazione del martello orfico Una solita tagliata del martello orfico che descrive la forza lavoro infernale che Raffa l'ha impiegato per localizzare ed estrarre i materiali larari utilizzati per la sua creazione e lo scopo a cui è destinato Il martello non è un'arma è una polizza assicurativa La sua funzione è specifica ma la sua utilità è limitata Nessuna catena forciata da mani infernali può resistere al suo potere perché il suo nucleo è un composto metallico che combina l'essenza più pure di tutti e nuovi gli inferni Se mai dovessi aver bisogno di liberare i prigionieri della città di Ferro e di Disle Di mandare gli infrantumi sotterranei di Nargus o persino liberare il figlio di Git Il mio martello sarà all'altezza del compito Beh è vero Questa è la solita cosa che vi ho detto che i contratti dei diavoli sono stronzi ma sono scritti letteralmente nel fuoco e nel sangue E c'è scritto che lui se tu fai una determinata cosa deve annullare il contratto Deve annullare il contratto E quindi il martello orfico è nascosto ma serve per questo Figa come cosa Dio Cristo Sai cosa succede in quella stanza? Va bene devo mostrare un invito per entrare qui dentro Quella è una stanza segreta E ho capito Prima una prova su saggezza Poi una prova su intelligenza Oga Sì sta implodendo il cervello Oh il contratto di molle l'ho visto Che culo Come il contratto di molle? Aspetta 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 Contratto di molle Non posso leggerlo Posso solo usarlo Forse perché devo attaccarlo per romperlo Non lo so 660 va bene Allora proviamo ad andare sì ad esplorare meglio a destra A meno che non devo fregarla qualcuno l'invito Per entrare là Ah no è vero l'avevo vista Ho detto ci andiamo dopo Me la son dimenticata Come gli zingari dal balcone Scusa ma la porta magica Tutto il Cristo E poi gli entro di lato Ne stanno più a prendere il culo E invece sì E invece sì Entro di lato A lost little mouse Is running through the house Oh gods What the fuck have I stumbled into? A thief in the night Greedy And here to take Why are you here little thief? Arlep O P Pensavo fosse qualcosa Sei tipo Raffael al contrario Eh no no è vero È Raffael È il nome Suo mischiato È il suo nome mischiato R A P È tipo una sua versione Infatti dicevo ecco perché c'è la stessa voce Hai un aspetto molto succinto Raffael? Ha No You will have a far Crueler master Than Raffael Se But Mi sento molto Insoggezione È stato un incidente Un Peredrasporto sbagliato Do not lie Cresci Di nuovo Ma This Is your last chance Sto cercando il martello orfico Raffael All but Spent himself To get that hammer And you Want to take it off him? This is very naughty Whatever are we to do Why don't we play a game? You win I give you everything you desire But you'll enjoy yourself more If you lose Perché penso che questo sia la persona che si faceva Raffael Raffael si faceva se stesso Di che gioco si Non guarda non c'ho sbatti Di gioco a cotte onestamente Comunque quando hanno creato sto modello gli hanno chiesto quante vene vuoi sul corpo Sì Di che cazzo si tratta su Ma col cazzo Te lo dovevi scopare Harlock Te lo dovevi scopare Ne sono abbastanza certo di questa cosa Te lo dovevi fare fortissimo Ma magari avresti giocato a uno Che ne sapete Allora vedendo Raffael vestito in nigeri da BDSM Tutto con le vene Stava lì proprio col pacco così Lo stava presentando Stava facendo Lo vuoi il capitone? Non credo Non penso volesse giocare a uno E invece aveva qualcosa di figo Guanti del crepuscolo inferno Ah c'ha il set del crepuscolo E l'intimo Ma se chi lo trovo rimane nudo? No meno male Grazie per l'intimo Il Kamasune Ce l'ha anche lui il libro Il Kamasutra Il Kamasume è letteralmente il Kamasutra Di questo mondo Le pose fini della trama O piano di transizione Presa del bugbear Soffocamento dell'underdark Ah marcatraia Appunti di Raffael Delle monete dell'anima Gli attori hanno finalmente raggiunto Badosgate Quindi posso iniziare il prossimo atto della mia opera Hanno scoperto il segreto del primo astrale Ma io dirò loro che ho la chiave Il martello l'orfico L'unica cosa che mi può spezzare la cadena del principe Il martello sarà tenuto al sicuro nell'archivio Protetto da una parola d'ordine Quale userò? Quale usare? Forse dammi il desiderio del mio cuore Mi raccomando Raffael Scriviamo la password Sotto la tastiera La prossima volta Non si sa mai che funziona Salve Oh 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 No Ho letto una cosa Oh Ma perché cazzo siete qua Tu è quel cane di merda Perdonate Dio Cristo Corri Perché tu ti distrai un attimo Ti metti a guardare direttamente il gioco E non ti accorgi che uno stronzo rimane dietro Il cane rimane là Non me ne frega niente Non lo voglio portare Guardate che vi suono Vi suono Peccati divini C'è una trappola Cappola Porca 35 Porca puttana Se qualcuno mi dice Hai rubato qualcosa Apro la borsa C'è un cazzo io Perché me frega a me Pezzi di merda Un altro 20 Oh Fufu Lancia Meno male Buccio di culo Questo Ma che cazzo è questo Così A secca Butta l'accampamento Tanto Oga è stata dietro che fa le cose Esatto Puoi fare il rispetto E le fai delle porcate Perché risparmi In sé sa quanti punti Ovunque È devastante sta roba Esci da parole magiche Dammi il desiderio del mio cuore Si stanno tutti abbandonando la casa Con le risate Perché qualcuno ha osato rubare a Raphael Bellissima come cosa Ah Ci sarò? Aspettami Così incazzati siete Cinghiale vendicativo Madò È resistente anche a Cristo Redentore Ciao lupo Ah mo salti figlio di puttana Il shill se n'era andato per un attimo È tornato L'ho ripreso a stadion Facciamolo No me ne frega niente Raffael Lo ammazzo io Tu shadow art Adesso che tutti stanno fermi a farsi i cazzi loro Corri di qua Prima di andare C'ha sta velocità suoga Carlak niente Carlak niente Astario non vieni qua perché vedo che ci sono Che cos'è quello? È Dobby? Hanno una debitrice Doppio colpo Uno lì Uno lì Morti entrambi Quale è però? Dei due Vanno bene Vanno bene Carlak adesso hai in realtà tanta via libera Vai vai cucciolona Attacco minaccioso Ah è spaventato Pezzo di merda Godo Easy Easy Laggiù c'è un altro imp Che non posso raggiungere Però posso fare questo Astarion Vieni qua I posti di qua dovresti essere a portata sia Dovrebbe esserci in realtà anche un imp bastardo lì in mezzo Eccolo infatti Non lo puoi prendere l'imp? No perché fuori portata è dentro il signorino Va bene No problema No problema Eliminiamo prima lo spectator Che ci vuole? Easy abbiamo un'altra azione Raffaele sto arrivando per il tuo culo di merda Free I never thought I would be believed I could be Hoped I might be Kids will rule I look how we must Dress The holyfant in the room You can see How you avoid looking at me I must be so terribly mutilated After all these decades of torture Don't hold back Tell me how bad it is Oh guarda che posso dirlo Sei bellissima Speranza Guarda che cucciolina Seriamente non c'è nulla di sbagliato in te Non dal punto di vista fisico Quanto meno I hope that was a compliment We'll carve our way to the entrance hall And chop Raphael into messes That's the hopeful version of course The likely version is that we are the messes And he is the chopper Onward Guardatela Harddodentipods che corre Dimmi che ti Ok se faccio Che correva There are many things in your world That I loathe Litters of kittens Chattering children The noise And the chaos of it all In my world In my house There is order And there is decorum You came here uninvited And you stole from me In doing so You brought the chaos of your world into mine I will not abide it Proviamo a coercizzare anche Gorilla You think I'm on your side The only reason you're here Is because Raphael allowed you to be I permitted you the freedom to decide your own fate You could have been smart Selfless Saved the world Instead you came here And risked everything It's the fatal flaw of mortal kind Take away their free will And they call you a tyrant Allow them to indulge it And they become tyrants You would have been heroes If you'd only dealt fairly with me Instead you're not so different To doomed Cassus Overreaching your limits And burning your world to ash Wrong, wrong, wrong They will save their world And smash you to smithereens It's this charming naivety That makes your company Such a joy to me, Hope I'll even forgive This little rebellion Once you're suitably chastised This isn't a rebellion It's a revolt I'm revolting Then Hope dies Today Commander You can salvage a trophy From these insects When I'm done with them Hope It always burns you in the end Little mouse Now Down comes the claw Sows go to their dooms In flame Forever more Hell, hell Hell has its laws Hell, hell Effect and the cause Curtain falls But hold your reward Squirm, squirm For now down here Cut the claws Cioè ho preso comunque Raffaele è diventato Era un bardo in realtà Ma senti là Ma raga ma questa è sborra Tanto bello come parlare tutte le cose Si Raffaele che canta la sua host è geniale Bellissima Ma è devastante sta Ma poi parte normale Minchia loro qua volevano proprio che tu ti fermassi Sentitisi due minuti e mezzo di host Dio Cristo Poi c'è la versione quella strumental da fight Però l'inizio è come se Frollo sta cantandole veramente Le cose di Notre Dame No, no Ce la facciamo in un turno ragazzi Sta laggiù Raffaele Padrone di casa Madonna Sentite l'host che continua Ok è un'altra azione Eh sta freccia poteva andare molto meglio Allora Carlac Tu devi fare delle cose molto specifiche E cazzo se dobbiamo stare attenti Prima fra tutti Ok Prendi Astarion Lancialo là dentro Vi fidate del vostro caro Leech Devi questa Perché mi serve un'azione extra Mi serve Dio Cristo Lo devi uccidere Carlac Non l'omissare Piano ragazzi Piano Con parsimonia Si fa tutto quanto Si fa Non c'è problema Non c'è Il fatto è che tu Oga Ti prendi un paio di attacchi d'opportunità Però se riesci a killare questo Hai un'azione bonus Che possiamo usare per mettere il globo Ma comunque ci rimangono I restanti attacchi Da poter poi sferrare su Raffaele Quindi becca le due botte Fagli fare quello che vogliono fare ste merde Che a breve esplodono Bravissimi Bravi bravi I cuccioloni No Nostro Per l'esecutore Perché comunque gli serve il movimento Per potersi rinfilare Non posso farla andare là Perché poi non c'ho per tornare Vi faccio capire anche Quello che cazzo sto facendo Questo serve la concentrazione Quindi perderemo la forma di gigante Però Onestamente Meglio di morire come degli stronzi Secondo me C'è sta Le figa di legnate Che si sta per prendere In realtà 55% Non è così facile Che gli entrino Le Le I grit Però il primo Sicuro Te lo prendi Avevo fatto uno No No Beh Ma sai che c'eravamo vicini Me la fossi giocata anche meglio Eravamo molto vicini Ah Fanculo Se me l'ero giocata meglio Potevamo essercelo fatti In un turno In realtà Veramente Devil May Cry De botto Oh che resisti Ha resistito Ha resistito Porca troia Hop Tu non usci da quella cazzo di bolla Dio madonna Rimani là Sto punto lo sapete che facciamo Ce la prendiamo safe qua Perché tanto abbiamo vinto Abbiamo vinto È vinta Non è Non c'è sta altro da fa' qua Abbiamo vinto Mi lasciate sta Riperdere Hop Dio madonna Mi sfondo il cranio Dio cristo Sto 50% Non dà una mano Fanculo Fio di puttana E Raffa L'è andato Dovesti averla ancora La tua carica No Ce la fai a tornare da Hop Ce la fai a tornare da Hop Madonna Il movimento di Carla Che tutte le persone Ma perché l'hai L'hai buildata così Per questo Perché Carla Che se n'è andata da Raffael E poi è tornata Da so In un turno Dio cristo Per questo Perché l'adoro la mobility Su D&D Ci sta l'assoluta Con la gocciamina di sudore Si su quel cervello Di merda Mi aspettavo Che facesse più resistenza Diciamo che credo sia stata deflagrata Dalla bomba Dalla bomba che è caduta Su Hiroshima Perché c'è stato un momento In cui quelle cose Sono esplose Io ho visto proprio Il nero Ho visto l'oblio Al centro dello schermo Vabbè Ha fatto la sua scelta Quando si è schierata Con Raffael For the first time Che farai adesso? Speranza è finalmente libera Ha intenzione di dare un vero Ha intenzione di dare un vero significato Al nome Casa della Speranza Allora Io ho scassinato Tutte le porte del creato C'era dietro un cadavere Questa mi sono cagato Il cazzo L'ho aperta così Ci stanno sette ragni morti C'è stato il Vietnam Dio Cristo No Questa è tutta roba Dell'Underdark Lilith Perché quello è un caddovè Quel nano bastardo morto Questo è un Dwergar Mo immagina l'odore Sì Che sbratti Un'infestazione A quanto pare Che cazzo stavano facendo i draw Minchia ho paura Se qua sopra c'è questo Là sotto Che cazzo ci sta Civil War Ah c'hanno pure i nomi Perché giustamente Se sono ragni di Loth E non so soltanto ragni Non so bestie Sono persone Eh la madonna C'è pure un Mind Flayer Le figi di Sendai Che si scisse in molti Se a cosa serve La sua molteplicità Si chiedeva una guerriera Ma fu solo il suo sangue A impregnare il terreno Al di sotto Si trova una firma Esagerata Schietta con il Vabbè Orin immaginrà Che tipo Kira quando firma Mentre ride Come una matta in culo Ma la shottate tutti lei E dall'altro Figata È sempre lei Era una draw Che si poteva Dividere Non so Mo se c'è sta qualcosa Perché non è che so tutto Però è sempre lei Ha ucciso tipo Più lei Ma poi guarda Che cazzo di mattanza Ma questa è una roba Che me la immagino Molto DnD Esca Cioè lei che scende giù E carica Cioè che sgozza Persone a destra e sinistra No questi luoghi Sono soltanto per farti vedere Quanto cazzo Per farti temere Orin Che è partita In rage kill Bombasto Ah ah Arda lì Damaruncune Questi sono tutti avventurieri Sto cercando un posto In cui alloggiare Per una volta Un pasto caldo No mi faccio un long rest Alto che salvadina Alla taverna Accanto a figo Il foraggiamento È un ricordo del passato Per acquistare le scorte Da campo Necessare per riposare bene Passare casi al portello Io ci stavo pensando Dio Cristo Ma veramente Siamo nella taverna Ma io mi metto a piange Guarda che ognuno C'ha il suo angoletto Ah 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 Guarda Guarda che c'è anche L'angoletto Per la ulvea Madonna Il cuscino sta dall'altra parte Però Dio Cristo Che dormi come me Fra un po' Tamburello Andiamo a parlare con Tamburello Ma scusa C'avete due gatti Non fanno un cazzo Piacere mio In realtà io perché ti voglio Fottere tutto quello Che hai là sotto Ma a dettagli Eeeeeee La madonna di Cristo Redentore Venditore Veramente Di tutte I kebab del mondo E ho capito Ma io non posso Far esplodere tutto Dio madonna Non posso far esplodere Il canto elfico Me li mettono apposta Sti figli di puttana Dominare bestie Credo da un circo di due Di una notte Di luna piena In cui gli insetti Iolmi E il vento Sussanate Si unirono in concerto Accompagnando L'invisibile caccia Delle fiere selvaggi Impossibili ad omare Vogliamo notare Come dei topi di merda Mi hanno dato un anello Che c'aveva una descrizione Unica comunque Vieni qua gatto di merda Oh no no Troppo troppo Onda tonante sul gatto Per fare una citazione Oh la crissa Ma lavori come host Oddio ci sta alfira che fa da barda Non pensavo che saresti finita a lavorare in una taverna Mi sei mancata da grissa È bello rivederti Bello come i tifling per una via o per un'altra devono sempre essere molto che frittano Oh eccolo alfira Che belline loro due E infatti glielo dico E infatti glielo dico Siete molto carini insieme Ma lo sapete che forse c'aveva veramente le guancia rossate Madonna la grissa quando ci sta provando Madonna gli entra proprio a gamba tesa dietro Ogni volta Boom Con i complimenti Vediamo se posso risuonare di nuovo con lei Mettiamo pure a starion già che ci sta Donna ste cose che son be' Chi cazzo è salito? Chi è? Oddio Ah no Mi immagino le persone Che cazzo è sta cosa? E cominciano a far parkour per salire Allora so che sono già lì che ci dovrei andare a parlare D'altro guarda che ci hanno sempre innescata il pronto a parare Sta cosa mi dà un fastidio Da DM parlo Che voi non avete idea Questa zona ho sofferto Eh vedo Danno informazioni utili O è la solita roba delle Ah ah Siete dei pezzi di merda vi attacco Perché se è la solita cazzata che mi devono dire No voi state col mind flayer Li sto un po' male O parlare con i morti grazie Mi piace questa piccola vena da assassina grazie Partita l'imboscata Tu c'hai la resistenza leggendaria avevi detto? Tu dimezzerai tutti i danni che ti entrano Nome stavi a di E l'hai pure di mezzana di brutta vacca Taci tua Barbara Barbara vai piano piano Buono buono Maia Che grande il suo collato italiano Ok Action surge Botta bonus I gate sono duri perché hanno tutti quanti la parata di merda molte volte Quella è una cosa che mi dà tremendamente l'urto Comunque colpo minaccioso Che poi il fatto è che forse che dimezza soltanto i danni fisici Pure pure c'ha senso No 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 Li dimezzano tutti e poi sia esatto Lei zel non la prende come abilità È un urto È proprio messo Sono quelle piccole aggiunte che hanno fatto alla Larian Che da una parte posso pure capire E lì c'è una roba da aprire Tutto questo sta sotto la taverna eh Spada dell'imperatore Immune allo spavento Protezione illitide Se possiedi un giro Ma inflegio E tieni più né di salvezza su intelligenza Saggezza e carisma Ma in realtà Sì è molto molto bellina Però bello Madonna Quanti cazzo di dettagli Quanti cazzo di dettagli Ovunque Quanto amore Cioè c'è veramente amore In ogni roba di questo gioco È una roba incredibile Ma basta pensare anche alle cazzate Delle descrizioni degli oggetti Che è una roba veramente neanche terziaria De più Che le persone vanno magari a notare Però ce stanno E non certo They say that home is where a person can be their truest selves Without guile Without pretense You did well to see off the Githyanki who had invaded mine And now that you have seen where I come from You know all there is to know about me At least, all that matters The flavors of my favorite fiddlehead suit Should you wish to experience it for yourself The very first reward I gifted myself on completion of my first adventure The garments with which I concealed And later constructed my appearance as the Emperor We spoke of my relationship with Duke Berlin's still name A story I have told no one else I have no more secrets from you No need to resort to subterfuge We are true allies now Working towards a common goal Comunque è un vizio suo il presentarsi prima in armatura e la scena dopo in Nigeri L'ha fatto pure quando era trasformato ancora Perché mi hai raccontato tutte quelle menzogne? The only way we were ever going to get close enough to the brain to destroy it Was by working together But few would trust a mindflare So I did what I had to To convince you I studied you Your motivations Your actions Your desires I deduced the best way to align your goals With my own E che hai scoperto? Qual l'audio? Madonna di Cristo è salito furtissimo Che hai scoperto? That you are complex And full of contradictions It was no easy task But I had to persist I needed your absolute dedication to the cause I anticipated the challenge And I anticipated your resistance What I didn't anticipate Was how much I would Enjoy Your company Your mind Sometimes I felt almost like we were dancing our way Towards something deeper E alla fine dei giochi Come per tutto il gioco Qualsiasi persona mi si voleva fare Giustamente Anche l'imperatore Guarda Oga è talmente confusa Ce stai a provare per caso? Certo che no Pervertito Preferirei che ci limitassimo A un rapporto Professionale Good instinct The elder brain's hive mind Has grown to monstrous proportions And through the crown's magic It has complete control Over each and every member It was intelligent before But now With its hive mind established Across the city It is well on its way To becoming indestructible We must stop it While we still can Before we too Become in slaves As you drift into sleep You feel a certain Disappointment The mind flare was very quick To abandon its attention On you Si è scopato qualcun altro? Comunque Quando partono ste cazzine C'è l'audio Spammato Dio madonna Finchè non finisce sto host Ragazzi È altissimo Esplora il segreto Taccimi E quando non scrivo le cose fatte bene Che cazzo vuol dire Esplora il segreto mo Andiamo a vedere Beh è vero che c'era La cantina di merda Oh porca troia Ho trovato la sana Da strega cazzo Bonnie No Maschina della vendetta Ma addio madonna Oh no Ho detto che stasera Avremmo esplorato Ma come cazzo è possibile? Ma perché sta qua? La piratessa in realtà è È Ethel Quella vacca Ethel Quella vacca Ethel Aspetta Minchia da l'altro Guarda che ti ci mettono i funghi qua Perché effettivamente Come fai ad avere 145 HP? Però effettivamente Hai anche poca intelligente saggezza C'è un parassita? Sei l'ora vero la madre della bambina scomparsa Che cazzo sei tu? Ah ok E quella della strega credo no? Sei l'ora vero la madre della bambina scomparsa? Yes Her name is Vanra Stupid useless fist Said she had a lead But she must have been stuck in dream mist or something Madam Tell me You said She was Taken from a tavern? Yes The blushing mermaid Down by the docks I told you a hundred times Why aren't you listening? Gli ha fatto una fattura E non può dire Collegare E fare determinate cose Dimmi cosa è successo Credo che ci sia una leggera in città Potrebbe avere qualcosa a che fare con lei A hag in Baldur's Gate? Preposterous Don't scare me more than I already am What would a hag want with my Vanra? She's just lost That's all Pot I'm so afraid And so tired I've been looking night and day Everywhere I could I've no family And Vanra's father isn't around A flame and fist Were my last resort Ti aiuterò a ritrovare tua figlia You will? Thank you I haven't slept To read Since she disappeared I'm terrified Something has happened to her Her name is Vanra She's seven years old And it's right there Like me We were in the blushing mermaid When she was taken Just up by the docks Ok Ecco come la ricolleghi Infatti è stata rubata nella taverna Non nel canto elfico Nella sirena timida Sono qui per una bambina scomparsa Va andrà Oh Not this Claptrap again Listen Laura was here Alright Knocking back pints Like there's no tomorrow But she was alone I saw head nor ass Of this So cool kid And when we tried to kick her out She pulled a knife On my front man But she didn't tell you that bit Ha Non è che tutta la taverna È È un'illusione Come faccia a sapere Che non stai mentendo I run a bar What use would I have With some little one Running around Crying And shitting Look I know Laura From my pirating days She ran with Bart Blackdagger's crew Heard they tossed her overboard When she gutted the bosun Over a game of cards Now I had no beef with her before this All are welcome in the maid But threatening my staff Claiming we took her kid She's bonkers Dangerous Next time she pulls a knife on me or mine Someone might die Something has to be done È scomparsa una bambina Voglio solo arrivare in fondo alla faccenda Gods Do I have to spell it out for you There is no child Laura is mad as a box of frogs She's dangerous And I couldn't call myself a captain If I stood by and did nothing I hate that it's come to this But I'll pay a horde of gold To whoever scuppers her Permanently No You're no fun I wanted you to stain your soul With the blood of an innocent mother Oh well Yes I'll just decorate the room With your insides They'll match my new carpet beautifully Etel 2 Quindi quelli sono tutti Redcap pirata Hello Petal Miss me? C'ha la pancia da gravida Perché c'ha la bambina Un trio di waifu Ti guarda male Che cosa fai? No preparati ad attaccare La bambina Nimue qua È questa la bambina Scusate domanda Perché io non ho La boccetta di merda La cosa da tirargli no? Oh Petal She'll thank me for it Vendor sits in my belly Growing fresh with power In time I'll vomiter up And have myself A fresh young hag To train Unfortunately That leaves me In a pickle For while I'd love to Rip your guts out I shouldn't L'exertion Is bad For the baby You know So Walk away Walk away And let me A fine hag Make Nessuna offerta Vantaggiosa Per me Magera Nessun incentivo Sono quasi delusa You want to Negotiate You lost That privilege When you killed Me You little Shit Stay and die Or walk away And live Lascia andare immediatamente la bambina Or what? You kill me Touch me And the girl dies And I'll simply return Stronger than ever A woman In my condition Should be relaxing And the Bad Not Dealing with this Nonsense I'll leave you To my crew Matey And should you Somehow survive Stay away Or Vanna Will suffer Brutta vacca Brutta Stronza Di nuovo Porca Troia Mi sono dimenticato Che è la bambina Aspetta Non Non critaglielo Ho fatto 31 Ho tirato 31 Aspetta Facciamoci un attimo Un paio di conti La pizza che gli sto Per tirare 47 danni Per 2 94 Da 4 32 Grazie Oga Che me l'hai Ricordato Perché io Sono un Coglione Bastarda No io Voglio solo Osservarla Te prego Oga Fai un Sorrisetto Sadico Carlac Deflagragli Il buco Del culo Per favore Ah 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 Bello Rispone Ai funghi E io la feci E viscerei Da serio Con il coltello Da burro Ma si può fare Puoi estrargliela dal ventre Ovaia Macabricissimo Ma figo Ma che bello Dio madonna Ma brutta rincoglionita Ma non spawnarti Dietro agli avversari Ma sei scema E' un po' E' un po' stranita E' sei varra vero Mi manda tua mamma Ma 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 Guardala come corre Porca troia Mamma Ma si ravviscono Affrontare quella Meggera Era compito mio E alla fine Il vero pirata In tutto quel puttanaio Era lei St'arma è sbroccata Satana Prova a ribattere Per uscire da questa situazione Allora Visto che E' una situazione Molto sopra le righe Siamo post mezzanotte La farò a modo mio L'intimidazione Dovevo metterci la voce Da romano Tipo De sdrumo Però Che cazzo sta succede Zia Non so se te ne sei accorta Che me la stavi Adatto la roba C'è una lampada Peculiare Una trappola intelligente Ma la mia entità patrona Farà molto di peggio Che vincolarti a una lampada Liberami Ma scusate Mi ha appena intrappolato Dentro la lampada Vorrei che rilasciassi subito La persona all'interno Della lampada Per favore Sì a stare una prova Perché ormai E' diventato Punto caotico Buono Ho detto vai E' molto più Da quella parte Rilascia immediatamente La mia conoscenza Allora o muori Ma guardate che lui Veramente è una citazione Al genio di Aladin E qui Fuori stanno menando Ah vabbè Fottiamo io tutto Nel mentre Che va bene Che cazzo c'è Scusate Scusate Non abbiamo un problema Non abbiamo un problema Figata Ecco perché te ce la mettono Dentro quella cosa Bellissimo Dove è la lampada Ecco perché ti ci mettono La pergamena del Quasit Spostala Mi immagino Immagino il Quasit Padrona perché mi hai lasciato Qua dentro Puttana Bastarda Raga dovevamo usci In qualche modo Da quel posto Di me Vicino proprio qua Ecco In questa casetta Ci sono i genitori Di Gortash E' letteralmente Davvero L'unica casa In cui Non sono entrato E' qualcosa Non so come cazzo Sia possibile Me l'ha detto uno di voi Fammi vedere la mercanzia No giustamente So calzo là E quindi vendono scarpe Finchia se voi Scuogliate le persone Questi sono tutte scarpe Fatte di pelle umana Come minimo Avviliamo una connessione You search her mind But the psionic forces That control her Are different Split somehow Your own consciousness Slips into the gap Help me Gods help me Enver's ruined my mind He's taken my body I should've slammed the door In his face But I let him in And he ran Some kind of worm In our eyes I'm here But I can't speak I can't act I'm trapped Mchia che inquietudine Dio Cristo E perché vi ha fatto Questo? He said he wanted To make us Powerless Still bitter After all these years But we did What was best For him For all of us We had debts World ending debts Trying to keep This cursed shop afloat Dangerous lenders Who said They'd bury us all If we didn't pay Then a warlock Offered us A pretty penny For him For service He was a smart boy Too smart He was Give him up And all of us Live or refuse And die What choice Did we have? Ok Ecco perché Gli ha rifatto sta cosa Perché gli girava il culo Forse non era Tua intenzione Ma hai creato Un cazzo di mostro He was always A little monster Nasty to the core He would have Torn me and Truffo apart With his Whining His demands The never ending Racket of him You may disagree Enver did But we don't Deserve This This Torment You're the first Person who's Heard the real Me In months A parte che Amela Non cade mai Troppo lontano All'albero Se vuoi Posso porre Fine alla tua Sufferenza Come again Soon Perché sta cosa Che cazzo Di inquietudine Perché è proprio Gli ha messo Le frasi standard Cioè Gli ha messo Gli ha fatto L'intelligenza Artificiale Ma il fatto Fiorella è che Non so neanche Che cazzo fare Perché Perché dovrei Ammazzarli Perché sti genitori De Gortash Perché hanno venduto Gortash Nel senso Cioè Da una parte Se lo meritano Forse è l'unica cosa giusta Tra virgolettoni Che ha fatto Gortash Una coda di lettere Da due corrispondenti Ma tutte scritte In un codice sconosciuto In fondo C'è un foglio Intitolato Testo In chiaro Decifrato Da G La tua proposta è intrigante Dimmi di più Sulla corona di Cartus Ah beh Eletto di Baal Eletto di Bane E' stata creata Per esaltare E trasmette Il domino Del suo creatore Ma durante la follia E' stata invertita Rivolta Da verso l'interno Ora chi la indossa Non domina più gli altri Ma viene da E si è dominato No aspetta Boni 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 L'eletto di Baal Questa non è mai Nella vita Orin Orin Stava scrivendo Schizzava tutto Col sangue E la merda Secondo me Continua a dirlo Il Darkurge Era il vecchio Eletto Di Baal Utile Mi piace Come stai citi questo dominio La corona Ha tre gemme incastonate Sono il furco di tutto E possono essere rimosse Tre Ecco perché i nostri signori Vogliono che Mirkul Si aggiunga alla congrega Con la corona Sulla testa giusta Governeremo dall'ombra Ma come la otteniamo? La rubiamo a Mephistofeli In persona E io so chi può portarci lì Una diabolista di nome Elsick Mi sa che il Darkurge E Gorta C'erano amichetti Ne erano amichettoni Tanto si è vero Eletto in un'eletta Il Darkurge Canonico È quello che tu scegli Quando prendi il background Quando tu prendi il background C'è il dragonide Bianco Col sangue Quello lì È il Darkurge Prova a ribattere Per uscire dalla situazione Che mi aspettavo Forse sono stato coglione Dovevo andare in furtività Ho forse la faccia Di un'assassina Mi hanno cresciuto Meglio di così Cioè scusa Se uno c'è il carisma alto Può uccidere gente a cazzo Ma tra l'altro Ma io perché ho fatto La persuasione Ma io potevo letteralmente Fargli Perdonate la bestia Io potevo letteralmente Fargli Guardate Sdrumo E non mi diceva niente Sì quando ti arrivano Vaglia I carabinieri Tu stai là che li guardi male Che cazzo vuoi E se ne vanno Date via Che devo rubare Non c'è niente Dove va quella Va a fottersi La roba dei cortas Di qua c'era Una bambina Che lottava Chissà se ci possiamo interagire Ecco Era quella lì C'è una bambina Che lotta Incazzatissima Come una faina Stop a moment Right You look harmless enough The commander keeps an open house So you may pass Grazie nobile sentinella I'm not a centipede I'm a guard Cucciolina Ma do Ma che bello sto posto Aspetta conosco già Ada Sono appena tornato in città con lei Questi sono tutti I cuccioletti Che ha adottato Ecco perché infatti Dico Cazzo è la casa D'endruido Dio madonna È la casa D'endruido Guarda che puoi Specificare che te la volevi fare Se forse non così Nima come speravo Siamo alleati Abbiamo combattuto insieme Contro Catering Thorne General We'd heard of the cult army Heading this way I assumed She died Trying to stop it But She's alive Everyone She's alive Bring her here So we can kill her Vedo che vi ha passato Il suo umorismo Vabbè c'è stai Avrà fatto pieno infarto Dio Cristo No Lilith Il fatto è che molti Si sono lamentati Anche il fatto che Non puoi fare la romance Con Jaira Però Molti non sanno neanche La backstory Cioè Jaira Ha avuto due matrimoni Finiti Male De morte Morte pure brutta Quindi ci sta Secondo me Il guarda Passo a sto giro What a surprise Smells it too Uff Quanto adoro che sono tutti Dei piccola Jaira C'hanno tutti Quella Quella lingua Molto punzicchiosa Questa casa è bellissima Credevo che Jaira Vivessi in una grotta Da sola Andiamo a Cesare Quel che è di Cesare Non ha detto sei Ha detto sette Perdoniamo Incontrato Affascinante Eroina Nelle terre Maledette Dall'ombra Le preposizioni Non contano come parole Vero C'è il tuo messaggio Stoico Stoico Sì 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 Cazzo volete da me, no capito? Io ho portato solo la mamma, poi fatevi gli affari vostri. Non in questa vita. Cazzo volete da me, no capito? In realtà bellissimi questi dialoghi perché sembrano... Cioè, sì, ci sta l'amazzolano perché sono un po' incazzati, però c'è anche tanto che ti fa capire quanto siano stati cresciuti da Jaira. Minchia, bellissimo peccato che non gli puoi dire a Jaira quando dice quanto sei fastidiosa. E gli puoi dire, ebbè, più o meno è uguale a te. Praticamente te in versione mini, quanto cazzo li adoro. Ammetti, l'avevi solo paura di Rion. Of course I was. Nartro, cazzo ma è una gucciolata qua dentro, Dio Cristo. Cazzo. 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 Però bello come effettivamente Jaira è proprio la definizione della mamma del party. Cioè, proprio a tutti gli effetti. Tra l'altro tutta sta roba in realtà rafforza anche molto un sacco di dialoghi che fai con lei, in cui lei... Porca troia la stanchezza. Perché comunque lei non è che dici, è la classica avventuriera, no? Cioè, non è Oga che non ha la famiglia, che partono. No, lei ha gente a casa che l'aspetta e se stira lei, perché da quest'anno Rion e compagnia. Però, abbiamo spessato la maledizione che attanagliava le torri dell'alba lunare da più di un secolo. Come down stairs and fight with your sisters. Wait. Here. I was... Keeping this safe. My Harper pin. Oh. Was a certain little sneak thief playing down in my sanctuary? No, no, no. Bella però come casa, è molto, molto druidica, con tutti i rampicanti, le hamache. Uno scuro libro illustrato per bambini con una serie di amici animali che si aiutano a vicenda per sopravvivere una foresta proibita. Proprio nei momenti in cui sembra che i cattivi siano in vantaggio, una mano infantile disegna una vecchia elfa che li picchia con un mazzo. Io, io, madonna, me metto... Ah! Me metto a piangere, Dio, madonna. Madò. Jesson discovered an old family tree in my study. We haven't had a moment's peace since. Tithurian nobility. You might be royalty, Jahira. You don't want to be queen, of course. And Rion curses too much, so it would have to be me. Careful, girl. They have a habit of taking against tyrants there. Huh! I'm not a tyrant. If anyone calls me one, I'll have Fig chop their head off. I take no responsibility for your plants. You know I'm more of a mushroom man. You've let my study turn into a thicket. Is this what I am hearing? I tended to it. I just let it thrive in its own independence. You know, same way you raised us. I raised you to be a sweet and kind boy. What happened? I watched what you did instead of listening to what you said. This house has taken in a lot of children over the years. Mother dear was sometimes more commander than, well, mother dear. Per quel che mi riguarda l'ho trovata severa, ma giusta. Ha! You see? This one is well trained. I have no need for you anymore, faithless boy. Oh, save your fangs for someone who thinks you might actually use them. I've only ever seen her truly angry once. We were down the market when I was about nine years old. Some merchant started in with the usual. Yes, but where's your family? Whose son are you, really? When mother was done with him, Well, let's say he won't have any sons of his own to worry about. Hm. Nature's law in action. Bello. Questa è una figata, perché effettivamente se ne è parlato poco. Però i mezzorchi non vengono visti per niente bene. Come un po' tutte le mezzerazze vengono schifate da un belle parti, a maggior parte delle volte. Cioè, scusa, tutta sta cosa si poteva disattivare con una casa. Orco puttano! Oh, quanto forte sto odio di merda. Perché le disattiva lei. Va bene. Un tasso gigante! Cioè, lui addestra i topi per farli andare in giro per Baldur's Gate e già era, poi gli dicono le cose. Un mattone. Cioè, un cazzo di roba nel mare davanti a Baldur's Gate. La fabbrica non sta là, sta sott'acqua, Dio Cristo. Ah, dato che mi hai proibito di scrivere poesie, quest'anno ho dovuto essere creativo. Ho rintracciato un mago di guerra, Cormiriano. In pensione conosci un metodo magico per trasferire le immagini mentali sulla pergamena. Il primo marito, sì, Dio Cristo. L'arte è imperfetta e forse più adatta allo spionaggio che ai regali di compleanno. Con tutto il mio amore, da una distanza di sicurezza, Calid. Sotto il biglietto una piccola immagine inchiostata di una coppia sorridente. Le loro bocche si spalancano troppo, le giunture si contorcono leggermente, ma sotto le sopacie distorte si intravedono in una geira molto più giovane e un uomo barbuto che indossa una spila d'arpista. Il rituale... Ooooooh! Ma che cazzo dici? Una di sé confusa di simboli criptici messi insieme dalla stessa mano, apparentemente per anni. Notazioni precise impongono ordine agli schizzi. Cato dice scrivendo un qualche tipo di rituale a druidi. Ma tooooooh! Però bella questa roba qui, ragazzi, per darvi un po' di contesto. È che in D&D il druido, la classe del druido, mo non mi ricordo a che livello, ma tipo al 17, a quei livelli là, sblocca una cosa che si chiama corpo senza tempo. Essenzialmente è una passiva che vi dà un per 10 a quanto dovreste campare. Quindi, che ne so, un umano deve campare a 80 anni, quando arriva al 17 da druido, ne campa a 800, in circa. Quindi immaginate sta cosa messa a un mezzelfo, a un elfo, grepe. Ho trovato una strana pergamena nel tuo santuario, qualcosa che ha a che fare con un corpo senza tempo. The threat of spanking never kept the children from poking through my things. Why should it deter you? It is a ritual, or it describes one, at least, practiced by druids of certain esoteric circles. If they be learned and powerful enough, the practitioner of this ritual might slow their aging, extend their life well beyond its natural reach. In greener days, I might have been strong enough to do it. I might be yet, with the right preparations. Però bello, la cosa... Lo apprezzo molto il fatto che l'abbiano canonicizzato. Cioè, non gli hanno dato semplicemente il arrivi al 17, boom, no, te te senti più figo. Gli hanno dato proprio effettivamente il fatto che è un rituale molto potente, molto complesso, che giustamente un druido del livello di 17, che vuol dire che è un arci druido, cioè vuol dire che è mei coglioni, non è un druido del cazzo, può farlo solo lui. È incredibile, Jaira. Cosa posso fare per aiutarti? Do not look at me like that. I have been content to see the span of my natural years. The privilege far too few in this world can claim. I do not speak of clinging to life for its own sake, I just look back on that life's work and I wonder, is it done? The dead three plague the world still. The city still falls prey to small minds like Gortash or lost souls like Orin. It is every Harper's hope to be a light that drives out darkness. But I've lived long enough to see so many of those lights burn out while the shadows cling stubbornly on, knowing that. Isn't it our duty to burn on if we can? To fight for as long as we are able? Immortality is only as good as the life you are living. An eternity of luxury sounds a lot better than an eternity of struggle. I'd have thought time would dull either. But I suppose I should know better than to argue with an immortal. But in realtà è bello sto discorso. Perché dà molto peso a come le creature nei Forgotten Realms vivono il tempo, quanto sono attaccati più o meno alla vita, cosa possono fare nel tempo che gli viene dato. È molto bello. Ed è anche uno dei motivi per cui gli umani nei Forgotten Realms sono così tanto visti, tra virgolettone, di buon occhio. Perché tantissime creature che appunto vivono uno sbrego d'anni dicono Cazzo, questi campano 80 anni. Ma intanto i più grandi eroi dei Forgotten Realms sono umani. I più grandi imperi che sono stati forgiati sono umani. Diciamo che dicono con quel poco che hanno fanno Cristo e Dio davvero tanto. No, lei non è che è immortale, Fiore, lei è una mezzelfa, quindi campa circa più di un umano mi pare sui 200 anni, massimo forse, ma non mi ricordo. però essendo un druido ancora di più è la stessa cosa mi pare che ce l'hanno pure i monaci anche se un po' depotenziata. Continueresti a vivere a ogni costo? In truth I have put this ritual from my mind until last light trapped in that darkness I turn to my research again What if I was a little stronger as fast as I once had been then you came and made the question moot but I kept this just in case I told myself a final resort Perhaps you were not the savior you seemed I had learned better than to think of life as some simple tale after all There is no guarantee of happy endings or true heroes I believe that still But when I look on all that we have achieved since I wonder perhaps it is not heroes we need only people who are willing to try I do not know what manner of story that makes but I do know that without an ending it would be no story at all so I will accept mine when and however it comes bella 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 come frase questo è proprio il il vecchio eroe che passa la torcia al nuovo eroe bella dio chris è stata probabilmente bella tutto sto dialogo che fa lei di cui parla e compagnia è proprio un personaggio che si è vissuto due Baldur's Gate tanti tanti anni ha fatto tante tante cose però che nel mentre comunque manteneva sempre quelle piccole possibilità no il e se tutto va scatafascio e serve una luce nell'oscurità io la pergamena me la lascio lì perché magari un giorno io sono vecchio e decrepita da una parte ma cioè sto solo io faccio il rituale torno giovane e carico bello però ci aggiunge anche quella cosa mo passo la torcia a te cioè lasciamo lo spazio alle nuove leve non te la creverai così facilmente Jada ti voglio al mio fianco ancora a lungo I have no plans to lie down and die well perhaps a little lying down when all of this is done but I do not plan on going anywhere just yet and besides you still have a tadpole in your skull you are almost certainly going to die first ooooh sul pomolo di questa pregiata spada è ancora visibile anche se sbiadito il marchio di un mastro forgiatore di Karathur deggera come l'ara di un petti rosso e rapida quanto l'arguzia di un ognomo quest'arma ha segnato la disfatta di molti avversari e continuerà a farlo se brandira dalle mani giuste ooooh mentre indossi il dono di Khalid se sei già era non puoi essere maledetta regalo bizzarro aumenta la saggezza di più uno no arguing just tell me you're well I am well and Minsk we're working on it you'll get him back I owe him a kicking for showing fig how to throw hatchets so this cult what's our plan? I'm not fool enough to think I can change your mind but if you're staying I don't want you taking up arms there are other ways to fight really like what? lei penso sia la persona che più assomiglia già era però vedete quella roba che vi dico che magari Minsk appunto non è che è l'amante però ci ha viaggiato talmente tanto ci ha fatto talmente tante avventure che è diventato quasi un po' il fratellone il papà quello un po' spirituale perché stava con loro là a giocare magari prestatevi come guaritori potresti trasformare questo posto in un ospedale come back, mother go away you have work to do aye, aye, commander wait one more thing there are doppelgangers on our trail one even went so far as to steal my face huh all right then if you turn up looking for hugs and kisses I'll be sure to shoot first that's my girl Jaira te serve una terza moglie per caso guarda me faccio tortura pure dal dal BBG di Bandus Gate 4 te serve per caso una terza moglie that's my girl bellissima ma guarda pensi io ti dico cazzo sì fatelo tipo una serie di fumetti qualcosa che bella va bene questo è il parco giochi e lì c'è fuori ah no mi sa che era la segnaletica che diceva fatti i cazzi tuoi c'è una cosa per andare dritti non sono nato ieri grazie Carla che l'avevo vista la trappola vaffanculo vostra madre quella grande puttio che infarto mi è rientrata una palla allora mi sa che questo non è lo scandinato di una giardineria è bello che in tutto l'esplosione c'era Carlac c'è una trappola all the coin seems to be there if a little bloodstained you lot are enthusiastic about your lord's work our lady we serve only the absolute oh silly me we zenterim are so long past our own godly roots I'm afraid I forget the half of them but you I know when did you start worshipping gods did they give your wee rodent a worm friend too rotent enough you will show the stone lord proper respect and you will return to the guild hall and do as we have paid you to of course I only thought wait and suddenly another presence looms in your mind another tadpole some sneak thief lurks nearby the same one I sensed in the counting house I can taste your thoughts coward come out so I may spill them on the ground ma veramente ho trovato l'unica entrata che mi porta a dire ma scusate ma dal giardino che cazzo vuol dire io sono entrato in un buco ah perché ok non ci ho pensato tutto trappolato e compagnia questo era l'entrata per un hideout degli zenterim ok infatti questa è la nanetta che sta anche nel capitolo 1 in realtà in tutte le zone in cui ci stanno i zenterim tenta di mascherare la tua mi chiama che tra l'altro lui ci ha percepito così forse perché c'ha una mente più semplice quindi va un po' più a bragetto e mi sto nascondendo dall'imperatore non da Minsk che cazzo vuol dire scusate però vaffanculo ma non mi fate una roba del genere e poi parte il fight dio madonna cioè e poi questa stronza come una maledetta sale su no stendi la tua protezione per includere anche lui è un amico di già era fallo no i will not be coerced into protecting him you do not see what i do his thoughts his mind pure chaos the mind flare pours poison in your ear i think tell it i will tear the prism from your grasp and throw it into the deepest lava pit i can find long after our bones are dust and ash the walls of its prison will still be burning now help my friend she bluffs surely she would not risk the fate of all for one simple life non mi importa aiutalo fine have it your way his mind unfolds beneath yours a still lake pulls you down into its depths images flash by battles fought and friends fallen his rage grows colder burrows deeper as a familiar face crystallizes before you jahira you killed her you are being dramatic the instant's hesitation is enough with a sensation of terrible rending something vast and nameless falls away from his mind there it is done jahira i do not understand good that means you're back to your old ways we have a lot to discuss but first you have someone to thank in the sudden silence your minds merge once more more memories sensations but passing too quickly for you to track in the same breath you share everything that happened to you the nautoloid the absolute the chosen of the dead three you you saved Minsk while he danced like a mind the flare's meat puppet why? però bello in realtà perché quello che abbiamo visto adesso in lui è quello che sarebbe potuto accadere a noi perché lui si comportava in quel modo da attaccare a compagnia perché non aveva la schermatura dell'imperatore noi paradossalmente potevamo essere al posto suo c'è una battaglia in arrivo bisogno di braccia forti che sappiano come maneggiare una spada then you have two and as many more as I can rip from enemy shoulders but I have more than Minsk alone to offer he is he is where is he? THE Minsk part of the crew who saved the city from Saravok all those years ago don't know who the stone lord is or what the hell he's got himself into but that man is a legend zio ma è sfum- ma scu- zio dove cazzo stai andando? guardalo che bello perché sta cercando il suo amico madonna my friend from our brief sharing of skulls I know you have faced many strange beings but none like this whatever happens show no fear and stay your hand trust in Minsk mi fido di te credo Minsk finds that the less thinking he does the easier the trusting comes wait you gaze into Minsk's soul and see his foul crimes you smell this stench of evil upon him pointy claws primed ready to scratch out his eyes I am sorry my friend I am at the mercy of your faultless justice now if you must burrow through my blackened heart I am ready no you are certain such boundless compassion you are all heart and whiskers and cute little nose you are right of course there is still much evil for boo and Minsk to stamp out but we need not fight it alone I have a new face to show you but it is not a villainous one for the clawing understand you this is boo and boo meet you no it is a hamster a miniature giant space hamster fear not you will learn the difference the difference in time those villains locked boo away lest his righteous gaze cause their temple to flee in terror now we are together again all will be exactly as boo why do you use such language once more my hamster proves himself my greater half and makes the path clear when my mind is fuzzier than his tiny bottom he says we will join with you and cleanse boulders gate of evil together e pure che ha musica beh vabbè non mi tradirai di nuovo signore della pietra ma questo te lo dici se c'è un personaggio che è coglione no? sarebbe un onore andiamo you have a great many companions already there is no room for little boo or slightly larger Minsk intimo di Minsk aderenti aerodinamici e fabbricate per garantire la massima traspirazione l'umidità non fa bene ai criceti minchia se boo ha visto delle cose che non criceto soffocato al sottopalla in terapia vita lo tiene nelle mutande si immagino bo kyle con la torcia dentro al culo di Minsk che fa andiamo che continua mentre fa squeak squeak quando le nostre venti si sono mescolate ho visto qualcosa di strano the mind of Minsk is a simple place of what strangeness do you speak the memories resurface a lifetime of battles blurring into one a single constant is Minsk launching into the frayne a matter the foe be that god monster or man it seems just the barest glimpse of what the man before you has seen and done but enough to know that he has no right to still be alive ah wait that look in your eye I know exactly what visions of Minsk you have seen to cause you such wonder my pants try slaced in the roshamore style so that a berserker might split skulls without fear of splitting bridges too they are fintishly complex but fear not for Minsk with training he has learned to master the many little knots so Mercer is a really me co because originally he was the doppiatore so me co bravo lo sta ripiglia bene 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 ma tra l'altro sta roba come devo interpretarla è un idiota ma è simpaticissimo è un barbaro per quanto non sia un barbaro però hai capito devo interpretarlo perché erano quei momenti in cui andava in ira quindi caricava gli dei però non se lo ricorda ma donna mia ma perché sta cattiveria lascia peda dei tuoi calzoni hai camminato tra i piani hai combattuto contro divinità as have you know do not forget that when you gaze into Minsk Minsk also gazes into you we both fight evil wherever it is found the who and where are less important than the hamsters you meet along the way on this matter of sharing memories I see no reason for us to worry at one another 's if there is more we wish to know we can simply ask no guardi tutto sto puttanaio è la prima volta che sento una frase così semplice e vera bro chiedi e ti sarà detto naturalmente un guerriero dice ciò che gli passa per la testa non cerca di leggere quella degli altri exactly so if must peer into the mind of my enemy I use an axe for friends there is ale no my friend if you fear you have a question that Minsk cannot answer then you can simply ask boo allora queste sono quelle frasi che gli devi dire per sbloccare le altre le quindi fai presto a chiamarmi amica certo che siamo amici amico si ci vuole un attimo che parte boh per sbaglio fa uno squeak troppo agudo troppo basse a fine ha capito devasta il ferun lui va ma perché c'è ma scusate io continuo a dirlo secondo me la 2 non ha senso quale personaggio se non lo dici per il meme per il joke ma non credo dice una roba del genere quando stai a che fa da inizio il gioco chi parassidi cavo c'è l'assoluta tu stesso hai fatto col prismino davanti a lui per toglierlo che cazzo vuol dire rispondimi onestamente cosa di così speciale quel criceto e infatti no aspetta bono io ho bevuto la pozione io so parlare gli animali perché lui non riesca a capirlo can you not do you not see his nobel bearing the deep wells of wisdom that are his eyes boo speaks of much perhaps one day you will be ready to listen che tanto lui dice che è un criceto spaziale quindi chissà se lei zelle c'ha qualche cosa da dire a riguardo se magari effettivamente lo riconosce infatti non è un animale normale per quanto ne possiamo sapere è tipo un dio reincarnato nel colpo di un cricetino che ha scelto Minsk come campione no Minsk ha detto la mia stessa cosa le ganassotte del criceto che sta succedendo ah beh beh che probabilmente è un altro dei quei casi in cui Minsk ha caricato a testa bassa però a sto giro diciamo che i dadi non hanno girato tu sei l'unica a cui Minsk ti ascolto non ricordi mo lasciamo perdere che appunto me ne ha parlato già era ma già era tu sai com'è fatto Minsk quindi hai viaggiato anni e anni non credo che mo cambia però andiamo di persuasione di un'altra Comfort to me that my faith made this fool all the easier to lead. The point remains. You meant well, Minsk. But you exposed the city to harm. You helped the cult spread. And worse, perhaps, than any of this, you forced me to leave you behind. But this is where Minsk falls short of the understanding, Jahira. What else is a berserker for if not to charge into danger ahead of his work, Lauren? Wick Lauren? Minsk, I am not your witch. You are not my bodyguard. This is not some high lodge of your homeland. Bo agrees you are a queer kind of witch. But this city is a queer place. And Minsk, you may have noticed, is sometimes strange himself. The titles matter not. Only this. When Minsk does as Minsk does and charges in to make a mess, Jahira does as Jahira does. And finds a way to save us all anyway. Sì, questo è più più che altro uno sfogo dei Jairi, anche un po' un ritrovo di party. Cioè, diciamo che è quella discussione che molte volte magari si fa post, situazioni molto brutte e compagnia all'interno di un party di D&D. Il roleplay, no? Molto figa come roba. È una cosa quasi dolce. Però bello. Cioè, il fatto è che Jairi ci vuole veramente poco a malinterpretarla. Perché uno può sembrare che fa la scazzata, la cidella, che è molto sempre sull'attente, è molto spinosa. Però in realtà c'è sempre dietro proprio l'amore materno. Perché lei mo' ha fatto sto sfogo perché ha detto se tu non avessi... Ok, lasciamo perdere tutto il ferune che esplode, no? Perché quella... Cicinino di roba piccola, ma appunto sono sempre quelle cose che vanno quasi in background nelle sessioni di D&D. Se voi ci pensate, i quattro avventurieri del cazzo che tiranno i dati, fanno le puttanate, ridano e scherzano, poi alla fine della situazione salvano il mondo, no? Cioè, siamo a quel livello. Però... Bello. Veramente belle le cose che fa già Jairi. C'hanno un sacco, un sacco di lettura che ci puoi fare dentro. Che a te è successo? T'altro bello, questo è un Dwergar stregone con discendenza draconica. Ha fatto un PG che Dio Cristo perché ha le scaglie in faccia. E chi t'ha ucciso? Donna pazza sexy rossa. L'uovo che aveva mutato alla stronza si è schiuso e l'ha sgozzati. E perché ti hanno ucciso? Che stai a via fa? Il codice Ptariano, trascritto a mano da questo stronzo. Giustizia e bene, al di sopra di tutto. Onore e fedeltà al re, diventato Warhammer. Onore rispetto alla giustizia e innocenza. Giusta e innocenza. Onore e dovere nei confronti dell'equilibratore. Kalenvor, del misericordioso. Il madre del giustiziere Bahamut. Onore e protezione ai confronti delle specie minori. Onore e correzione ai confronti dei nemici della giustizia e del bene. Onore e terroganza per se stessi. Cronaca della società e della genialità raccontata dai suoi membri. Una descrizione dell'incontro originale tra Omellum, Gra... Madonna, tirano le consonanti a cazzo sul tavolo quando fanno si nomi. Grazilax, Blurg, Slupidup, Ypsilon e Scris. Che ha portato alla fondazione della società della genialità. Seguita dalla descrizione degli incontri successivi, sono presenti anche le dichiarazioni e le testimonianze dei nuovi membri che si sono aggiunti nel frattempo. Va bene, Dio Madonna, questo era un party di D&D. Urna del parassita rotta. Incastrata sul bordo scheggiato della generale, infrante il cadavere o lungo del girino e ormai privo di qualsiasi pericolo che potesse costruire o di qualsiasi uso che potesse avere. Il bambino Git ha riconosciuto il parassita, ha rotto l'ampulla e l'ha lasciato morto qua per terra. Figa come cosa. Scusate, che cazzo è uscito? Già cresciuto. Però vedete, vuol dire che allora in realtà è passato tanto tempo da quando noi siamo nel capitolo 1 al 3. Perché cazzo, lui 2, l'abbiamo visti che esistono i bambini Git. Quindi lui perché è già versione matura, mettiamola così. E tra l'altro, credo che sia proprio un errore di traduzione italiana. Perché la narratrice in inglese ha detto a Gityanki Git, l'ha specificato. Non ha detto un Gityanki Gizrei, ha detto un Gityanki Git. Quindi secondo me è la lingua italiana che ha fatto qualcosa di particolare. Piacere di vederti, Gityanki. Anche Esther era gattiva? C'era un'altra, come un padre, lacking in moral fiber. Non era vero. Non era innocento. Sui pensi erano impure. Suchi vissi possono solo essere curati in un modo. Con dolore. Con tormento. E se non funziona, con morte. Sì, ma questo non è in Git normale. Gli hanno fatto tipo qualche cosa per il quale si è mischiata. L'indole Git molto rigida e delle robe che gli hanno insegnato. Ho cercato di esserla anche se ho fallito abbastanza spesso. Sì, magari sono uno dei tuoi fallitori. Sì, lo so quello che hai fatto per me. Vedo la memoria. Sì, lo so. You stole me from my people Gave me to that woman Unhatched Defenseless You let me be brought here so father could hurt me You are bad You must be taught A lesson Non ho capito ma si è ciulato il parassita Questa me sembra roba psiga A meno che non sia in realtà un ghizrei Potrebbe Ti ho dato quello che la mia entità patrona ha dato a me Una possibilità di avere qualcosa di più You were trying to save me I I don't understand Father saved me I was nasty Evil thing But his treatment made me good I I'm cured T'ha mentito nessuno nasce malvagio But But why would he hurt me If I didn't need to be cured The code is flawed And I am a monster As he said I was I cannot be trusted What have I done Ammazzaturelle di Esther Allora Vi ricordate quel cazzo di libro che abbiamo preso Che c'era scritto il codice del sto stronzo Era il codice del sto stronzo Bambino prodigio git yankee De livello 12 Questo era un toro da tirare giù in realtà Cioè quelle robe che noi abbiamo letto Cioè praticamente il mago ha cercato De infonde dentro a un bambino git Gli insegnamenti De molteplici divinità Che abbiamo letto Che ci stava Il dio della giustizia Quello delle lacrime Cioè quindi Ha creato un mostro Perché praticamente l'ha infuso Con i voti divini Cioè il devi fare il bene o il giusto Però lui non è che come una persona normale Ha preso Vabbè Se hai rubato una mela Non te smaito in testa direttamente Magari Ne parliamo No no Lui ha parlato che esiste praticamente Bianco e nero Ha imparato Ma non è una mezza razza credo È semplicemente che è stato infuso Magicamente Con Tra l'altro non è un git È un gizrei C'ha le macchie sulle mani È un gizrei Crescita innaturale Ecco com'è cresciuto in fretta Vabbè non lo ammazziamo Però ci aveva addirittura L'arena È un classico eroe di Sekai Ma magari fosse un classico eroe di Sekai A me avrebbero i poteri spammati Ma un attimo di logica Lui è giustamente confuso Perché Se ha le conoscenze Come posso dirlo Ha i valori morali di Kelenvor C'ha i valori morali Di un paladino di Kelenvor Ecco sei sbagliato Te mazzuolo Sei giusto Vai avanti Per questo stava già per partì Essenzialmente sì Dav Perché lui C'è grande Fisicamente Ma è piccolo mentalmente La madre superior Ofshat Figa come cosa E tra l'altro sì Un cognome importante Harlock Comunque c'è san cazzo da dire Ledroso Tutte Tutte waifu Non puoi dire niente Scala segreta esposta Come se prima fosse nascosta Però dettagli Guarda che bello Tutto in stile Shadr Certo anche sotto a sta casetta C'è sta roba eh Ma questo non è che dici niente Minchia se laggiù c'è un fight Quella è una fottuta arena di merda Si prende l'ostia Sì sì L'ostia è una martellata qua Che ti arriva They already heard How you disgraced yourself Before Lady Shah How she marked you As the enemy But it is quite another thing For them to see it For themselves I am very glad You decided to return A cautionary tale Such as yours Will be studied By Lady Shah's initiates For years to come But perhaps I can make a case For some Small measure of mercy Give me the artifact e posso almeno fare questo più rapido enough non ho risposto a te non più sono qui per la mia famiglia è certo lo sai che hai fatto e non sarà più rapido questa è tua famiglia e ora hai avuto la tua vita l'artifacto era la tua ultima chance per provare te stesso e tu lo scordi è molto bella che un personaggio di una determinata famiglia come lei sta qua perché tra l'altro proprio anche il fatto che sia donna dice molto 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 perché per chi non lo sapesse nell'underdark della società Drow è una società matriarcale cioè personaggi come Mintara come questa Viconia e compagnia sono tipo me coglioni faccio parlare lei e il suo momento da personaggio principale oh vedi questo minchia qua puoi tradirla cazzo ma così brutalmente era anche in Madur's Gate 2 figata non la sapevo sta cosa ecco perché è così un po' più vecchiotta allora ovviamente corcazzo quanti stradio madonna siete vaffanculo tra l'altro favorito della signora oscura ogni volta questa entità usa incalanare divinità così sicura da 7 a 56 HP niente crit ok doppia freccia quello lo paralizziamo un'altra doppia freccia Karlak salta all'acqua ascona questo si prende tutti i crit sui denti eh zi bezzo di merda i dati non stanno a girare perché potremo fare molti più danni ma non li stiamo a fare purtroppo che figo lei ti scanna vede le tue paure e ha evocato dei lupi d'oscurità a svantaggio i tiri salvezza su saggezza e gli attacchi di Viconia contro di essa saranno sempre colpi critici la condizione termina se questa entità rinnega il suo cuore di belle accogliendo Char e aiutando Viconia in combattimento ma che figo minchia se i tiri di dado non stanno entrando bene stiamo tirando veramente di merda tecnicamente da qua io potrei prendere ok comunque 40 danni a tutti quanti poco non è poi guardiani spirituali di livello 6 su cato il cazzo merda oh ma che cazzo di mazzettata ti ha tirato glifo di interdizione del tuono di livello 4 Carlac ti stai per prendere la pizza e il primo l'abbiamo fatto il fatto è che madonna stanno gancando fortissimo Carlac si diamo una mano a Carlac che diventa anche resistente non l'ha salvata ah no perché sono un coglione vedi questa però è una cosa che devono aggiungere perché fino ad adesso Carlac si è presa danni necrotici quindi non li può recuperare però il fatto è che mettimelo sulla barra cioè mettimici un'altra ho sprecato tutte le azioni come un pirla mettimici un'altra barra sopraverde perché se no io non è che me posso stare ricordo quanti danni necrotici ho preso ho sprecato tutta l'azione per sta roba ma lei adesso posso vederla zia tu lo sai che io adesso ho 6 attacchi e tu hai appena menato mia moglie letteralmente lo sai che io adesso te apro il buco del culo così vi ho imparato a mename Carlac figli di puttana vai a dare una mano alla nostra cara Shadowheart uno due un cazzo veramente una mietitrebbia questa donna anche perché comunque ripetiamo se presa c'ha 157 HP Carlac mo ce ne ha 4 sta ancora in piedi sta donna salve a lei ce la fai da arrivare lì si sempre per rispondere a quelle persone ma perché l'hai fatta per la mobilità perché Carlac dio madonna è partita da qua ha fatto 18 attacchi ed è arrivata fottutamente qua giù dai che forse stai pelo pelo dio madonna ecco perché l'ho buildata sulla mobilità sta cazzo di donna ascoltare il magico rotentivo emesso da questa veste offusca i sensi pensieri sentimenti tutto se lo si sta a sentire troppo a lungo si potrebbe quasi udire le urla di un migliaio di ragni divorati da uno squida sempre più feroce e affamata quasi infatti questa in realtà è una tunica di Lolt non è di Char è di Lolt questa bella come dettaglio che devo strappare una tour per edità se l'unita rimodellare perché diventi la campione se l'oscurità ecco perché non voleva farla diventare perché l'avrebbe sostituita shadow art avrebbe sostituito viconia poi porca troia e questi sono i crimini infiniti della vergine della luna un estratto da i crimini della vergine della luna della liga antilunare guai a chi si mette con selun ha quattro modi per ingannare gli occhi di tutti primo può farti credere che tuo marito sia un lupo mannaro quando ha solo dimenticato di radersi secondo cambia sempre rendendo difficile ai pittori più lenti catturare le sue sembianze terzo le maree siano dannatamente maledette le maree perché è la luna va bene quarto la gente continua a associare la luna alla femminità e francamente siamo stufi di leggere sempre la stessa poesia e questo è tutto la colpa di quella celestiale baldracca di selun cosa cazzo che cos'era questo era l'angoletto delle puttanate non ho capito cioè erano in quel momento in cui pur di convincere le persone comincevano di sai il mare che c'è sta la marea è colpa di selun vieni con noi questo che cos'è un rifugio di una persona un piccolo rifugio perché questo posto mi sembra grotta dell'orchidea notturna era il rifugio di shadow art è il tuo piccolo rifugio ecco perché ti piacciono le orchidee notturne perché nascevano qua un altro vile trick no no non c'è nulla è lei Genovelle Gen nostra piccola moon maiden grace è tu io sono qui per farvi di qui sono tutti è finito 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 ci è finito è finito non è finito Ficata sta roba Però bellissimo il fatto che i genitori Giustamente lei è una mezzelfa Il papà è elfo puro E la mamma invece è umana Figa come dettaglio Ignora la cuore oscuro Sta solo cercando di rovinare la tua vittoria Victory Your victory is but a guttering candle in the dark Temporary Inconsequential I'm taking my parents away from here I'm taking them away from you You cannot We are still bound to you You cannot both free us And free yourself from her curse The moon maiden needs you More than she needs us You are the future You must return to the fold We are the past And our duty is almost done Eloquently put His mind stood up well to his time here The same cannot be said for your mother Such brief Fragile lives humans need This is my final lesson I leave you now to dwell on your mistakes And make your choice Shahr's parting words make your flesh crawl There is no lesson to be learned here Only a family's torment A spiteful goddess's whims And an unspeakable choice to be made She's gone I don't understand Shahr will never admit defeat Not until she has stolen one last thing from you We cannot allow your future to be her last prize Not after all your mother and I have endured To see you again Your companion understands, I think Help her, please Help her see what must be done Devi scegliere un cuore oscuro Libera i tuoi genitori O libera di dare la maledizione Shahr No, I can't I came here for them And you did You found us All these years That dream kept us going That you would break free No matter what they made you do to us We knew you were still in there I knew the Dark Woods wouldn't frighten you You were always such a brave girl She was And still is You've saved us Now save yourself You'll be out of Shahr's reach And we'll be at peace I only just abandon you again after all this time I can't lose you again We'll still be with you By the moon maiden's grace This will never be far Please Please, Jennifer But now she's called Jennifer That's a great name That's a great name Rispetto al cuore oscuro Pensavo che la crucifissione fosse passata di moda E invece Shahr è ancora vecchio stampo È la madre È una vecchia baguca Perché purtroppo è umana Infatti l'ha detto Shahr Il padre Beh non male Ci sta ancora da testa Ma la madre È Giustamente È invecchiata Perché tecnicamente Cioè Lei finché L'unica cosa che gli rimane È che ci avrà sta ferita Sulla mano A vita natural Durante Credo È quella la roba È che ogni volta Deve soffrire Come una bestia Tramite la ferita Sulla mano Questa è una scelta tua Shadward Non hai bisogno Che sia a dirti Ciò che è giusto Is this truly What you want It is what we need All of us You were meant to be A guiding light For Saluna's faithful But they robbed you from us Now that can be right And we Can rest Help us Jan I can let go Now I've seen your face again Goodbye Not goodbye Not even close Bellissima come cosa Ha usato il potere De Selun Per prendere le anime Adesso le anime Andranno nel dominio Di Selun Credo che puoi salvarli Si Dav È quella la cosa Che dico Magari è che poi Però Shadowheart Deve stare costantemente Con la ferita Sulla mano Che esplodono male Ma qua Ho pensato anche A parte che l'ha fatta La scelta Però la cosa che mi viene Anche da pensare È molto il Loro comunque Sono stati tipo qua Per chissà quanti anni Torturati La madre morirà Tra qualche anno Perché è vecchia Vecchia Il padre Dovrà soffrire Perché la moglie Lei è morta Piuttosto che Li mandiamo da Selun Nel dominio di Selun E si fanno i cazzi loro Una cosa Come dovrei chiamarti ora Cuoro scuro Genevel Beh praticamente è diventata Riku di Kingdom Hearts De peccato però Un po' mi è dispiaciuta Perché sta quest finale Molti feels Molto simbologismo Molta lore Spiegazioni Però No ma infatti Come dico Spesso si darda Quella è una cosa Che da una parte Capisco E da un'altra Mi dà il cazzo Perché il fatto Che quelle tipologie Di scelte Lì nei videogame Sono messe Perché appunto Giocare a Baldur's Gate Non è giocare a D&D Cioè In D&D Quando ci sta Del roleplay Con il master Con un PG Appunto perché un party Do queste dovrebbe essere Quattro persone Che ognuno fa le sue scelte E compagnia C'è quella roba Di Botta e risposta Qua purtroppo Non lo puoi fare E capisco anche Da una parte Mi intriga il fatto Di lasciare Tutta quella scelta Allo sviluppo psicologico Dei personaggi E tra l'altro In Baldur's Gate Si può fare Perché in base a tutto Quello che tu affronti Loro arrivano a fare Delle scelte Per cazzi loro Se ti fidi Vengono semplificati i tiri Però dall'altra parte appunto Capisco che ci siano Queste robe Cioè è una roba Che purtroppo Nel medium Del videogame Deve starci Il Tra virgolettoni Sviluppatore Ti chiede Bro Che cazzo stiamo a fa Ti capisco Perché la stessa cosa Che mi colpisce a me Come con il fatto che Non ho fatto ruolare lei Con la tifling Con la sua amichetta Perché se lei Di primo passo Non va là E non si infila Io non gli do il cucchiaio Perché infatti In tutti i momenti buoni Importanti della trama I personaggi Quando c'è sta qualcosa Che è importante Che gli serve Fanno il passetto avanti E infatti Ripeto La cosa del Fare andrei di flow In Baldur's Gate Si può fare Per Castarion Gale Will Carla Shadow C'hanno tutti E talmente tanti Dei bei sviluppi Psicologici Come si approcciano E compagnia Che quasi Quasi Gliela farei fare La cosa che si Loro prendono Una decisione E al massimo Ti ci metti tu in mezzo Per persuaderli Cioè per fargli Cambiare la cosa Ma quindi Io qua Che cazzo Devo fare Che sono andato In flusso di coscienza Eh Gesù Cristi Eh Se la è la Madonna Ragazzi Datemi dieci minuti Che qua devo capire Non cederai nessuna parte Di te stessa Invento una falsa offerta Per ingannare lo specchio Oh oh Adesso Sbucasciar Che me fa Mi Qua Però me lo metti Il dito meglio Arrivato di inganno Non cederai nessuna parte Di te stessa Invento una falsa offerta Per ingannare lo specchio Adesso mi esce fuori Quaranta Non sembra come Niente Che è stato qui In un tempo Perhaps People lost faith Or Forgot about it I wanted to come here To see if I felt Anything that I hadn't done before Now that I know What I know Now that I know Who I am E provi qualcosa Loth Actual loss Not shah's oblivion I had my family For too short a moment Now they're gone By my hand Hai fatto ciò Che era necessario Hai liberato loro E anche te stessa Why does freedom Have to feel like I've lost everything Perhaps I could have saved them Or perhaps shah would have helped me forget them Instead I've neither Ecco Così sfogati Quanto vuoi Ci voleva no Spare a long time Since I've shed a tear I don't even know How long E adesso Quindi come dobbiamo chiamarti ora Cuoro scuro O Genevelle O Genevelle Shadowheart She's as much a part of who I am As Genevelle Can't just forget her It's not what I do anymore Besides Shadowheart still suits me Even better than before perhaps You can't cast a shadow without some light Bella però sta roba Credi potevi magari salvarli? Magari se li facevi mantenere in vita Se l'un ti dava una manina Che mi dici Ti ricordi che ti sono stati presi? Most are lost forever Some may creep back into my mind If I encounter anything That helps clear the fog Then There's what shah did restore to me Memories of pain Suffering Both my own And what I inflicted It's Overwhelming Like a lifetime's worth of nightmares Inleashed all at once upon waking I can barely untangle one moment from another Not that I even want to I just know that my heart sinks If I let my thoughts wander to them E noi Ti ricordi ancora tutto quello che abbiamo passato? Of course From the first time I laid eyes on you right until now That's all safe I wouldn't surrender even a moment of it Però domanda C'è l'esta di Se non c'è qualcosa che glieli fa tornare Ma io ho qualcosa per farglieli tornare Cioè tecnicamente sti funghi di merda Non servono a quello Lo devo tirare in bocca Mi serve quello Utilare solo nel lato 2 E' proprio peccato che adesso che ha chiesto sta cosa Tu non gli Cioè se non perché me li fai vendere al tizio? Perché l'alchimista la li vende Se tanto non li posso usare? Perché Shadowheart proprio non se lo può Forse perché se magari interagisce con lo specchio Può riprendersi i ricordi Sento volo It's not a lie If you would just listen I could explain You have done quite enough explaining Volotham Kadam You have poisoned the very hearts and minds of these good, kind, gentle citizens with your lies Your delusions Your conspiracies Though you hide behind a mask of stories We have seen beyond the veil We see what you really are Fearmonger Hear, hear Attention seeker Hear, hear Agent of chaos Your parasite stirs in recognition This man is infected Rack in the hells follow Today citizens We rid ourselves of this cankerous sore Today we burn away all falsehoods Today we will be divided no longer For today we rise in truth Don't you stand there? Help me, God damn it Help me We're not gonna let this happen, are we? Volo's... Well, he's Volo Cioè, è cretino ma ci serve Dì, ma io vorrei sapere in realtà Come è finita attaccata una batteria De barilotti esplosivi E io tra l'altro ho visto una roba bellissima là dietro Non me la ricordo come cazzo si chiama Ma quella è la dea degli oceani È la dea che venerano i marinai Le cose perché appunto hanno paura delle tempeste Volo non ha fatto nulla di male Tu invece servi l'assoluta What's this? Another heretic in our midst Another mind clouded by the disruptors' lies Another soul to cleanse Well, we are nothing if not gracious Let's see if we cannot lift the veil From their eyes too Allora, dobbiamo salvare Volo Carlac, tu hai tanto movimento, no? Quascona, vai Pergamena di porta dimensionale Ah, che bello poter fare queste cose Quanti siete? Ah, vabbè Madonna, me credevo chissà chi cazzo foste Oga, smashagli il buco del culo adesso, vai Niente esecutore perché è già un crit automaticamente Smiting C'è gritta Smiting Niente grit Niente grit E poi, e poi Oga salirà qua sopra e finisce pure quello Madonna Di Cristo Non lo shotterà però, credo No, volo VOLO Ma non andare verso la bomba, Dio Cristo Si chiama legge The Darwin, eh Io ve lo ricordo Dove vai? Vieni qua Gli dottos I really thought I was done for I suppose Thanks are an order Again What's an heroic story without a little Risking of one's neck, eh? And you know what they say The bigger the story The more people want to kill you for it I'll tell you all about it But not here Too many eyes, ears And where ponds about Meet me at your camp L'ultima volta mi hai cacciato un occhio dall'orbita Te ricordo Ma dettagli Io prima di questo gioco avevo stima per volo Eh, ma il fatto è che quando cominci a conoscere i tuoi eroi a Stolfo È brutta la situazione It is splendid to see you again, my friend If you hadn't saved me from that mob I'd be penning a guide to the afterlife Based on first-hand experience Perhaps You would hazard a guess As to why the mob turned on me Onestamente Potresti aver fatto talmente tante cose Per cui l'agenda ti vuole morto Che non saprei neanche dirti Ho dato per scontato Che decenni di bugie e disinformazioni Ti si fossero finalmente ritorti contro Nonsense It is my dedication to truth that endangers my well-being And I have uncovered the most startling truth imaginable The lord of murder has returned As he did a hundred years ago Baal has set his accursed sights on Baldur's Gate And his temple runs red with the blood of the innocent Orin is his chosen And like Saravoc before her She is able to take on the savage form of the slayer If the slayer is not stopped It will slaughter every living thing in this city As one of those things I'm particularly eager to stop it And there is a way I have a study of the beast Penned by the wizard Irenicus himself It contains all the knowledge needed to slay the slayer Now I just need a brave adventurer Willing to face Baldur's Chosen And to put the knowledge and to practice Penned zoe Wonderful I can scarcely think of anyone more suitable It will serve you well A study of the slayer penned by John Irenicus It's one of a kind So do try to keep it away from the inevitable bloodbath Cozai carnipice The dream eater It is said that children of Baal are claimed throughout their sleep Ever disturbed by visions of a life of bloodshed and terror Once they have seen too much Once these dreams drive their minds to break They are beset by the slayer It is a beast of unspeakable violence that consumes all in its path Including the soul of the one who is host to it Ho già ucciso l'eletto di Myrkul Posso farcela I am a living witness to Baal's defeat those hundred years ago So I know Your battle against him is not futile He can be stopped But not all of those who stood against him survived And those who did were never the same again I wish you luck my friend And I hope that when I see you again you'll be in one piece Two or three at most Nicchia bella come cosa Te la buttalline così a caso Però ti dice Oh cento anni fa io c'ero È inumano comunque Sulla superficie Anche se questa progenie di Baal finora ha sprecato il dono del suo sangue empio Sembra che la frusta di Baal sia ineluttabile Il dio dell'omicidio ora le ha concesso le sembianze del carnefice Bestia e profeta E quando si trasforma la sua mente è distrutta Più di quanto tutti i miei tormenti possano mai fare Ho passato tutto questo tempo a mettere alla prova la progenie prigioniera Ma aspetta Ma sto stronzo Perché io ho giocato poco poco Cioè sta parlando dei figli di Baal Quelli dentro alle gabbie del che? Del duo dell'uno Cioè quando proprio tu starti il gioco e stai dentro la gabbia Che non ti ricordi un cazzo È quella roba lì Ma toh Perché ragazzi io appunto ho giocato poco Ma che figo Bellissimo Questo è proprio l'inizio di Baal's Gate 2 Tipo una roba del genere Cerca di estrarre altri doni di Baal Messa assunto l'aspetto del carnefice Sembra che quella semplice si manifesti In momenti di puro odio Un odio divino che chi ha sangue mortale non può comprendere Quando una progenie di Baal odia in un modo che piace al suo signore Baal stesso scende su di lei come suo avatar Nonostante tutto ciò che la progenie di Baal di Candlekeep ha fatto per impedire la rivolta di Sarevok Sembra che il padre la ami davvero molto per intervenire personalmente in suo favore Forse se continuo ad assorbire tutta l'essenza divina coestratto mentre la progenie era mia prigioniera Potrò forzare l'accelerazione della magia di Baal nel mio sangue Ingannando lo scioccolo di lui e facendo di credere di essere uno dei suoi figli Così potrò domani la bestia per usarla personalmente Il libro prosegue con un resoconto dettagliato dei tentativismi Roba Altro gigantesco amore questo eh Questo è altro fottuto amore per le proprie opere Non ci sta un cazzo da dire Tanto che è bello perché è fatto con le scaglie tipo di pesce Tanto questo è il canto di Baldur's Gate Che figo dio madonna È il potere Ma io voglio quest'abito Ma guardala Ma che è una cazzo di sirena dio madonna Questo lo voglio per le cosce in fiamme di Karlak dio cristo Guarda che cazzo di bellezza che è sta statua Cioè so che dovrei pensare alla figa in questo momento ragazzi lo so Però In realtà questa è una divinità caotica malvagia però È stronzetta giustamente perché è la regina che fa le tempeste e così I marinai gli fanno per favore Non mi ammazza dio cristo Minchia quante l'hanno chiamata in tutti i modi in cui chiamano Amberly L'hanno un po' storpiata però Amberly c'ha anche il nome della Beach Queen Perché giustamente se inghiotta le navi le cose Però questa è bellissima Stare è diventato un cazzo di un paloom panel Mentre me sta guardata al basso dei suoi 40 centimetri d'altezza probabilmente Però bellissimo perché lei giustamente essendo mega devota Se sta trasformando piano piano in un pesce C'ha tutto il blu, le cose, le scaglie La mia arma per vendicare la sua morte Da bravo paladino Chi stiamo celebrando Hi ha giustamente Madonna, lei quanto mi piace esteticamente. Me la cava a uccidere le bestie e forse potrei aiutarti. La queen of the depths is generous to those who serve her, and her favor is far less deadly than her wrath. Find the master of this poisonous beast and slay him. Then one of her most precious gifts shall be yours. L'abito sexy? Vabbè, vedo che posso fare. Salt kiss your brow, we await your return, and the beast's master's demise. Soffocare un bambino, Matt. Lo voglio mettere attorno alle cosce di Karlak, quel cazzo di abito. Forse pure di sciapure d'astario se gli gira male. O posso... Aspetta, non so se è un po' brutto. Mi immagino anche il funerario. Perché la nonna sta volando, dio madonna? Dovevano fargli invagli domande. Posso salire? Ci proviamo a sto punto, voglio vedere se sono in grado di tirarla giù. Ma peccato, non è che ho provato neanche a passare. Mi stavano a guardare male e mi hanno attaccato. Peccato, mi avete fatto vedere le rage di tutti i personaggi. Ci stanno le donne di Baldur's Gate, hanno un urlo di rage. È l'odio. È qualcosa di incredibile. Tagliare i deboli. Sei resistente ai danni taglienti. Sì, 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 sì. Sicura? Oh, porca puttana, poi esplode. Senti, che bordello. Ma ho capito. Ma pure meno, dio madonna. Ma potrà dropparla quella me... BASTA! Oh! Oh! I miei timpani, dio Cristo. Karlak, prima che muore come una stronza, per favore. Ci provi a disarmarlo? E che da zingara che corre via! Vittima del protocollo. Questa entità ha attaccato una sentinale alta e le stanno dando la caccia. Datemi la caccia. Sto a casa io. Allora, fatemi vedere che cazzo ho appena... Ma si può usare sta merda? Oh! No! Però siete dei figli di puttana la Larian. Ne fate tutta... Cioè, guarda! Gli hanno fatto pure tutta la grafica. 3D10. Tutta sta cosa. E poi non la puoi usare. Ma no! Ma dai! No, solo dalle sentinelle. Sicuro? Ne faccio un altro, visto che ci stanno inseguendo le sentinelle. Però possiamo affrontare delle sentinelle. Bella sta cosa che puoi disarmarle e fottertele. Ci hanno pensato. Però vedi, questa è una figata perché tu puoi disarmarli per fotterli, per venderli, per farci delle robe. Perché invece se esplodono come delle stronze, non lasciano niente dietro. E anzi, probabilmente le merde esplodono proprio per non lasciarsi... Vabbè, 65 monete d'oro sta roba a me sembra una ladrata, eh. Esplodono per non lasciare niente dietro. Però infernale. Costa più questa merda che la balestra sana. Dai che qua dietro ci sta qualche passaggio segreto. Fatto esplodere delle sentinelle. Cazzo stanno arrivando i guardie, stanno arrivando i guardie, stanno arrivando i guardie. Allora, sono confusi. Aspetta, aspetta, che forse non ci hanno visto. Furtivi. Che cazzo però, Dio madonna. E non andate a cagare che devo esplorare sta nave di merda. Via, su. Vaffanculo. Quando succedono ste cose, la sapete quanto mi ricordo divinity? Sta cosa quanto mi ricorda divinity. Voi non avete idea. Wow, wow, mate. This is the last place you need to be. Clear off, yeah? Perché non posso stare qua? Two words. Guild. Business. Only an idiot gets between them and their shipments. Te spezzo le gambe. La rifrasa. Easy, mate. We're humble smugglers. All right? So just... Just take whatever you want. No, visto che mi hai cagato la wallera, dammi tutto quello che hai subito. Not enough that the guild will have my head for this. You want to leave my little ones copperless too? God damn it all. Fine. Here, take it and go. Così la prossima volta, piccolo nonanetto del cazzo, ti impari a rompere i coglioni a una tifling di due metri in full plate con uno sbadone che pulsa fatto di carne, dio madonna. Well, well. If it isn't the city's next celebrity, you star in our next edition's top story! Sei sicuro di avere abbastanza inchioso per coprire tutte le mie avventure? Oh, we have plenty of ink. Enough to cover all your mess adventures in this good city. Trafficking refugees into our city is hardly a good luck. Especially when so many are absolutists and murderers. Guarda, non vado di barbaro, perché Oga comunque ce l'ha quella sua A. Non parte subito di nervetto, per quanto non sembra, quindi... Se credi a ciò che hai appena detto, dovessi sapere che farmi arrabbiare non è buona idea. Ferma l'articolo. I'm not afraid of you! Lord Gortash is a passionate champion of the journalistic arts. Attack me, and you face the Steel Watch. The headlines are loaded into the printworks already. Tomorrow, you will feel the power of free speech. Vox Populi, Vox Dei! Now, guards! I believe our distinguished guest was just leaving. Would you care to escort them out? Corcazzo! Madonna, che bella! Certo, per mancare Carla che siete messi male, eh? Mia cara signorina, rendiamo tutti quanti resistenti ai danni fisici? Visto che ci sanno delle sentinelle incazzate come delle faine, mi sembra il minimo. Tu stai a cuccia, merda! Ahaha, crippato, Oga! Io mi immagino proprio che mi stai toccando mia moglie, brutta merda! Mettiti le mani in culo! Console di ferro Axbok. What do we have here? Porca troia. Non stava giù Gortash? Perché sta la Gortash adesso? Cazzo, è sempre stato giù come una merda! Mo sta lì! Oh! Li ha ammazzati tutti! Adesso c'è solo lui! Ha ucciso tutti i Patriar, tutti gli attendenti, tutti i Lord. Adesso c'è Gortash! Ma forse perché abbiamo fatto quella cosa del giornale? Ma chissà che cazzo ha triggerato sta cosa allora? Non credo che sia successo tutto appena è partito il fight sopra, perché c'è, è proprio una roba che da computare, c'è proprio a livello di meccanica di gioco. È successo tra un long rest e l'altro sta sto bordello. Forse perché ne ho uccise alcune. Cioè non c'ho avuto dei plim, hai fatto la gazzata, nel senso, c'è qualcosa che mi aggiornasse. Madonna perché ho ammazzato due sentinelle. Io spero che sta cosa me la spieghino perché se no vuol dire che Gortash pia ha detto porca troia vi sgozzo tutti. Questo posto è un mattatoio? Che è successo qua? Ma zio, ma che cazzo stai a dico affrontato quattro sentinelle da sole di livello nove, gli faccio un ingandesimo addosso lo shot, oddio mio, ma che cazzo dici? Tu è il padroncino tuo di merda. Non ci troviamo con la nostra cara Oga, o almeno non Oga Oga, questa è la mia run in honor mode, perché ho scoperto una cazzata che se voi vi mettete su questa roba, parte l'host di Tav. Non ci troviamo con la nostra cara Oga, questa è la mia rune. E' bello che ha tutto il testo, ed è bellissimo perché un testo che parla del Dark Urge è una cosa veramente, veramente figa. Questo dovrebbe esserci anche nel capitolo 3, ma è bellissimo. Questa è One to Live con la lirica. Oh cazzo, questo è per andare giù. Ci avevo preso, c'è una prigione sott'acqua, addio Cristo. Allora, qui le domande le faccio io, tu rispondi. Chi è Cap? Hai ucciso una di quelle servitrici di Amberly. Ora ti vogliono morto. Dipende, dimmi tutto quello che sai sul Trono di Ferro. Ok, ecco dove stanno i familiari dei gondiani. Tu mi porterai al Trono di Ferro e io farò uscire i prigionieri. Siamo ritornati, oggi non mi aspettavo tant'altro Trono di Ferro. Non mi aspettavo qualcosa, un modo più chill per tornare. Ve l'ho detto, col cazzo che ci andiamo sotto le fugne adesso. E' un'altra roba. Fotti di Gortash. Tu stai spendendo molto tempo con il jove Carlac. Il affitta i tuoi mani e la tua intelligenza. Tu presenza qui è una threat per la survival dei hostiati dentro del Trono. Morto? Non mi serve, quindi ti guardo, dopo una forma. Ho preparato questa eventualità. E se tu interferi, ti destruirò il Trono. E' una fottuta missione a tempo, oddio madonna. Siamo finiti dall'Atlantide, sì. A prodo al Trono di Ferro. E' un'altra roba. E' un'altra roba. E' un'altra roba. Allora, bellissimo che siamo sott'acqua. Bellissimo. Queste sono tutte seggiori di gente che dobbiamo salvare, vero? Ehm, fammi controllare. Ho tante pozioni della velocità. Perché deduco che questo sia un puttanaio in cui dobbiamo correre come degli addannati. Scappa e raggiungi il modo del sommergibile prima che il Trono dà 5 turni. Che cazzo devo fare io in 5 turni? Barlume di libertà. Sfuggendo a morte certa, quest'entità ha più alla velocità di movimento. Ah, sta dentro la cella. Sciottalo questo perché tanto ce la fai. Appunto. Scappi da sola? Scarlac con il tuo totem dell'alce, bella guascona. Tu te la fai dritta. Solo due qua? Allora, scattino. Action surge per fare un altro scattino. Vieni qua, prossimo turno. Questa la riprendi in mano. Hai mai sentito queste parole? 92 HP. Suga. Ci arrivi a quell'altro? Ci arrivi. Vai, Oga, madonna. Smashagli il buco del culo. Mi mancava tirare sti da... Mi mancava tirare sta roba. Ah, eccolo il papà di Will. Obedienza immonda. Hai sentito che cos'è da obbedire? E io direi il mondo che la controllo direttamente. È affascinato. Donna mia, lo assaltano, lo deflagrano nel culo. Vaffanculo. Questa è cattiva. Questa è molto cattiva. Questa è estremamente cattiva. Prenditi un cura ferite di livello 6. Dio, madonna. Alzati e cammina, lazzaro di merda. Un'altra parola guaritrice. Su, sei resistente ai danni fisici. Vai. Vai. Dai che ce la fate. Dai che ce la fate. Cazzo, sono quelli da stadion che non ce la fanno. Scarlac, tu c'hai letteralmente l'esercito della salvezza davanti. Brì. Comincia a rispostarti di qua. No, cazzo, non si può chiudere. Vaffanculo. Ah, c'è la leva. Ah, ah. Su, cate, merde. Usa l'azione di scatto. Vai, 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 vai. Ok. Un altro ce l'abbiamo. Mettete là seduto. Vatti, cazzi, i tuoi. Dai, correte in animaligni. Eh, questi sono morti. Sono tutti morti, sono. A stadion, tu sei un cazzo di bardo, è vero, me lo sono ricordato adesso. Sono un coglione. Vedete che cosa succede se non giocate per tanto tempo. Canzone della velocità. Due bersagli. Uno, due. Tre metri di velocità extra. Però, effettivamente, mi hai ricordato un'altra cosa. Posso fare questa cosa? Nana bastarda, corri. Michia che clutch che ha fatto Carlac. L'ha bloccati tutti. No, non ce la fate. Ah, guardale quei due nanni maligni. Ah, guardale quei due nanni maligni. Ah, guardale quei due nanni maligni. Peccato. Potevo farla meglio. Adesso c'è a stadion. Che galleggia. Brutto strozzo. Povero. Greets you as the submersible slows to a halt. Unlike the Iron Throne, you remain intact. It seems most of the hostages from the throne share your fate. Duke Ravengard approaches you, looking confused. He's tight-pulled, but under my protection now. Just like you. His mind is his own again. I'm free. In my own mind again, wholly. I will not take it for granted. You acted quickly, decisively and compassionably. I, nay, all of us owe you no less than our undying gratitude. La voce dell'assoluta si è spenta, deve essere un sollievo. The absolute. Its voice was clear as crystal. Beautiful as a nip smile. It showed me the darkest lies and convinced me of their truth. To be free. It's like knowing the sun's warmth on my face for the first time. My thoughts are my own now. And my purpose is certain. I will wait at your camp. We can speak more there. Ah, non mentiva quando diceva sulle piaggi i cadaveri. Cazzo. Eh, questo ti serve un buon buffer, ma più che altro devi sapere anche che cosa stai andando a fare, Lilith. Questa è una di quelle classiche missioni che immagino che la prima volta, a meno che non sei proprio preparato, qualcuno te lo perdi. Però se sai che cazzo stai andando incontro, ti prepari, fai un bordello. I just, I, I can't thank you enough. I was certain that place was to be my cold, wet tomb. There were so many of us scattered through that place. To save so many was, it was brilliant. Just brilliant. We were kept hostage to control our families and the steel watch foundry. To keep them building Gortash's death machines. Please. They need to know what happened here. They have no reason to obey Gortash anymore. If they rebel, it'll put a dent in Gortash's steel might. Sai quanti ne ho salvati oltre al duca? Uno. Eh, vabbè. Ognuno il suo. Nella mia testa l'avevo calcolata bene, ma non avevo calcolato una cazzo di variabile. Chiama, si sono tutti gnomi di merda, quindi c'hanno il movimento ridotto. Non avevo calcolato quello. Va bene, aiuterò gli operai della fonderia a ribellarsi. Tu to ostr? What? Me, you've got to be kidding. Come quietly. The Sea Queen will judge you. I surrender, all right? You wouldn't hurt a harmless man, right? And you? Thanks for nothing, prick. Cosa non si fa per un bestie? Carlak! Allora, non glielo metterò subito. Ci abbiamo le cosce di Carlak! Sei! Tutto questo per stabito abbiamo fatto, in realtà. First you cleave my heart in twain. Now you shatter it to pieces. My son, a monster. Twisted beyond recognition. To think my blood flows through those veins. Is this my fate? To be freed from Gortash's hell, only to be trapped in yours? It isn't what you think. It never was. You turned your back on me. On your city. To chase the she-devil and her power. She stinks up the place even now. It is exactly what I think. Cazzo si è tirato una striscia di coca? È imbazzito di botto, si gli è salita al momento il vino. Tio figlio ha sacrificato la sua anima per salvare la tua, non aveva scelta. There is always a choice. Father, please. There's something I must show you. Ravengard's tadpole clenches as your memories and wills flow into him. By tears, rooms. I'm in your mind. The Grand Duke sees Mizorah and her infernal sisters. He sees the agony in Will's face as an impossible choice is set before him. No. My son. The past becomes present and Will's thoughts are laid bare. Ravengard sees Will partnering with Mizorah to defeat Tiamat's cultists before they could lay siege to Baldur's Gate. And he sees everything beyond. The nautiloid journey. The perilous path to moonrise. The astral prism. And the emperor within. Well. Everything I did, I did for Baldur's Gate. I did for you. Cazzo loro, sto zitto. My son. You sold your soul to save Baldur's Gate. And I cast you out for it. You gave yourself to the hell's eternal fire so I might walk free. By the gods. Can you ever forgive me? There's nothing to forgive. You wanted to protect the city. I only ever wanted the same. You are a better man than most. And a better son than I deserve. I'll yet make a man's but. My duty is first and foremost to the city and its people. There's something I must ask of you. Ovviamente. C'è sempre un'altra missione da fare. Però vabbè, Logan ha avuto effettivamente. Pensa che ti metti in mezzo tu a rompere i coglioni. Hanno chiacchierato e tutto quanto. Certo, potevi credergli fin dall'inizio. Testa di cazzo. Ti doveva fare entrare un parassite in destra. Non ti potevi evitare il tuo figlio, no? Comunque Will è proprio un legale buono standard. Dio Cristo. Dici che c'è una missione da fare. Eeeh. A meno che non vuole farsi togliere il parassite da volo. Quindi un occhio che parte. Credo di sì. Va avanti. Before I was captured, I was on a mission. Returning from Elteral, I discovered the plans of the Absolutists. I immediately realized the city couldn't defend itself against such an army. I didn't despair. Because the city has a secret guardian. A worm that sleeps beneath. He can be called upon in times of great need. This is such a time. You've been trained in the ways of the great champions and proven to be one of them. The worm will answer your call. You must seek him out. Do you mean Ansur? The worm is dead, father. Where we might have once found a friend, we found only his bones, animated by an old grievance. But the heart of the gate still lives in me, in my allies. In Ansur's defeat, I found my spirit renewed. For as long as devils and demons imperil the Sword Coast, they will be my prey. I am the blade of Avernus. Then go with my blessing. Be Feirun's great defender. Courage, insight, strategy, justice. Let these be the lights that guide you, my son. Hail, the blade of Avernus. Ah, viva, un drago. Bella sta missione molto lunga. Parca troia, un cocco bloccato tutte le missioni. Ma infatti, tu adesso. Ready and waiting. Lei sta qua soltanto per farsi vedere e basta. Serve un cazzo, non serve sta signorina. Ho capito, ma che posto di merda. Una mappa delle fogne sporca e a brandelli, realizzata con linee regolari e scrostate. C'è un'area contrasignata da una X. Accanto a questa c'è scritto bug, timbol, drago, tesoro della tribù. Mappa delle fogne. E non mi fa vedere la mappa delle fogne, vaffanculo. Biglietto scarabocchiato. Bel tentativo, mostriciattolo. Oh, no, dai. Bastardo. Ecco, infatti, se ci fate caso. Dove è morto lui? C'è una cassa rotta. Gli ha dato una finta mappa del tesoro ed è esploso, cucciolino. Oh, dai, cazzo. Bellissimo. C'ha il moncherino. Perché giustamente mi sa che le mani servono ad entrare. Lei per poter... Perché se tu arrivi davanti alla porta e ti manca una mano, puoi mozzarti la tua. Che figata. Questa c'ha 20-20. Cioè, no, c'ha 20-20-20. Master, ho aggiunto giusto due statistiche a cazzo sulla scheda. E niente di che, dio madonna. Questa è quella che per tutto il gioco noi leggiamo nelle lettere. Mi sa che era lei che gli Zentarim dovevano portare dell'orba. Tra l'altro c'ha un'armatura. Non so se è un'armatura unica, in realtà. Mi sa che è un'armatura di cuoio. Quella che possiamo avere anche noi. Più tre. Perché è tutta dorata. Signora Tetano. Signora di senteria. Ma che bello. Wow, guarda chi è. Scusa di vedere in la città. Spero di trovare abbastanza di coin in cazzo di Catterix. Siamo pronti per fare un'azienda? Ho trovato il contratto che hai firmato con Rafa, e il molle, lo vuoi? Voi lo perché mette? Perché tu, la benda di molle, puoi trovarla alla torre dell'alba lunare o da qualche altra parte, come oggettino da esaminare. Finirà male, molle. Chiunque accetti un fatto con un diavolo, pensa di avere il controllo. Io ho spaccato la testa in due. Idiote! Tu puoi uccidere il dolore e il dolore per tutto che mi dico. Ma Rafaela era il mio patrone. L'ho fatto promesse. Questo è solo un rischio, però. Io ancora sarò in questa città un giorno, con o senza Rafa, e quando lo faccio, la mia guida non si guarda a te molto amico. Allora, andiamocene di qua, zitti zitti. Oh, fighissimo! Perché era uno stand-off? Ecco perché erano spaventati, non perché c'ero io, perché era un bug, perché si stavano per mazzuolare Zentarim e Gilda. Ma bellissimo! Era quello che aveva menato Garlak, no? Eri tu piccolo, nonetto maligno. Io adesso che devo fare con te? Io adesso ti devo aprire il culo. Ah, non è che ho tirato di merda, è che è un ladro. Ha dimezzato tutti i danni. Brutta merda. Ha dimezzato tutti i danni. Ecco, questi nidi mezzi, però. Tocca Shadow, guarda che da qua sopra in realtà può fare cose. Uh, su tutti e tre bloccati, che bella, come cosa. Ah, perché c'ha una skill unica. C'ha una skill sua. Sì, vabbè, perché lei è buildata. C'ha una skill con cui può far lanci infiniti e c'ha una build sul lancio. Quanto pili vuoi i tuoi personaggi? Yes! Lanciatore di pugnale. Aggiunge il doppio del suo bonus competenza ai danni infatti con gli attacchi a distanza. Mani veloce, un'azione bonus. Per re da isolata ottiene i vantaggi dei colpi contro gli stronzi. Specialista dei pugnali può lanciare fino a tre pugnali per round. Queste sono robe molto fighe, però che potevano renderle magari presenti anche per i player. Sorbole, corbezzoli, non può essere. Please, my friend. Your noble tears will not make the confessing any easier. I wish to believe the Stone Lord's evil was the worm alone, attainting my thoughts with foul dung. But I see now the dung was within Minsk all along. So I wonder if Minsk can be a villain and Nine Fingers a hero must it be so with all creatures? Is there good and evil within us all? Heh. Boo calls this nonsense. Less thinking of bad thoughts says he and more breaking of bad bones. but still I would hear what you have to say on the matter, my friend. Cosa è quel momento in cui il barbaro fa i ragionamenti filosofici a cazzo? Tutti hanno la possibilità di fare del bene solo che per alcuni è sepolta in profondità e altri l'hanno persa per stata. Heh. It is strange. A one sits within my skull twisting my thoughts. but it is you that have made Minsk see the world anew. You, my friend, are the true parasite. There is good and evil in all. Let us go crack villainous skulls so that the virtue might leak free. Yes, Boo. I am becoming something of a philosophizer. Comunque, Minsk è un meme vivente, basta. Come andate il tuo ricongiungimento con Viconia? Eh? No, aspetta, voglio capire, com'è andato il tuo ricongiungimento con Viconia? Boo is overjoyed with our victory. Another den of evil vanquished and an old foe defeated. Well, Viconia was a friend for a short time beforehand but then a foe once more. Yes, Boo. A most wicked witch. The very mention of her name gives him nightmares to this day. Perché ha tanta paura di Viconia? Do not be afraid, Boo. She is not here. And you, bite your tongue until your eyes water and your hair curl. Ma perché con Minsk vuoi fare il figlio di puttana? Me lo spiegate? Viconia, Viconia, Viconia. Ma forchè, ma... Sto zitto. Good. Boo will tell you and it is good that you talk again. Boo forgives. You may speak. Viconia, Viconia. Ma che cazzo, dio madonna. Ti chiedo scusa, ma perché tanto pure di lei? Boo and Minsk have traveled far and wide and met many fine and not so fine people. It will surprise you to learn that even the wisest of friends do not always recognize Boo for what he is. Un criceto spiazziale gigante in miniatura? Exactly! The Drowl was a cruel witch, but a clever one. She knew what Boo was right away and she had never seen his like before. She wished to inspect his handsome magnificence and so she did. One night while he lay asleep twitching his whiskers in happy dreams. She crept upon his tiny bedroll holding a knife as slim as a toothpick. She meant to spill his miniature guts and study them. Comunque noi stiamo parlando di un criceto del cazzo che voleva essere cioè stava per essere aperto come una matriosca. State vedendo quanto è cazzo di animazioni c'ha Minsk. Grazie agli dei l'hai fermata. Minsk non ha stoppato e non ha bisogno. Boo non dorme in più mentre l'evil è nero. Si è spaventato in acione e quasi ha gli occhi è da qua. Andiamo a parlare con la signorina vai. Zenterim non ha la loyale ma ho pensato che i bambini avrebbero i contratti almeno sono molto buono per il mio buono credo. Ma ero in una pittà quando mi fuori fuori per questo sono grato. Era in una fossa, tirava delle bombe nucleari al posto dei coltellini da lancio, ma che cazzo dici? Ho bisogno di informazioni? Come mai conosci così bene il culto dei suoi capi? Perché quella di cui abbiamo letto nelle varie lettere stava... non è che stava con loro, ma bazzicava per quei luoghi. Ah ok, lei è qualcosa di Baldur's Gate 1 e 2 allora? Perché col fatto che è collegata già a Hera, magari pure a Minsk. Come on then, Stone Lord. If you mean to take my chair, you'll get no better chance than this. Minsk has no interest in your furniture, Ninefingers. Only in the wicked romp that fills it. What? You have been a stone in this city's boot for too long. And it will be no Stone Lord who reaches twixt border and sticky toes to dislodge you. It will be Minsk! I haven't got the slightest idea what he's trying to say. Giustamente! Entra parlando di mobili, Dio, madonna. Aaaaah! Ti sta minacciando, sentiti minacciata. Spiegale tutto, il girino, la salute, il periodo di Minsk come signore della pietra. A bizarre tale. But it fits this idiot, somehow. But if he's back to himself... Good. I'd rather you die as Minsk the mad Rashimar. It's silly, but... Do you know? You were something of a hero of mine when I was young. Even now your tongue twists the truth. When you were young and ten-fingered still, Minsk and Boo were stone, instatuated on a city square. Aye, I remember the spot. By a garden on the wide. A soft thicket near the market, with ample pockets to pick. Celestia itself to a street route looking for shelter. You might not have been wrestling monsters, but... You kept the wind and the rain off. Heroic enough for me. Bah! You tried to dampen Pooh's eyes. Do not think you will be spared his teeth. Evil is evil. Even if it was once innocent. Oh, I'm no innocent. But evil. Will you tell me? With the fist, the watch, and the council itself all licking the Absolute's boots. Who's the only one left standing to protect Baldur's Gate? She's right, Minsk. She's been an ally down through the years. A friend, even. A friend? Jahira, Boo cannot believe his ears. Has this city fallen so far in our absence? Are there no heroes left? Heroes come and go. But the guild has always been here protecting the city. Until the Stone Lord came to break us. Belli però sti scambi. Son veramente una Madonna, fatti di Cristo. Se non riesci a distinguere un alleato da un nemico, Minsk, forse non sei affatto un eroe. I am shamed. My death gun. Unworthy to fight alongside my friends. Ooh. What am I to do? I can't speak for your rodent. But I know something of debts. If you reckon you've got one to repay, well, we could always work together. With you? Pfft. Minsk has no lust for gold. That he would shake grandmothers by their ankles, or set Boo nibbling at their purse strings. I'm not talking about that. We've both got bigger enemies than one another. The city's enemies. And Tyr's honest truth, you gave my guild the wake-up call it needed. We've grown complacent. Lazy. Too sure of our standing. We never would have needed the Zent if we'd had a fight in force of our own. Swords for the city when the Watch and the Fist fail us. Like a berserker lodge of my homeland. No army or militia serving the local lords, but heroes working for the common good. Heroes? Sure. Very well. Minsk and Boo accept. I'm sorry, you... you what? Boo and I will be your berserker lodge. Taking the ugly ways of your guild and beating them into a more virtuous shape. That's... not even slightly what I was saying. I wasn't asking... You are right. I have proven myself unworthy. I cannot serve the city if I was so easily turned against it. If I do not know my own mind, perhaps I no longer know what is good. But you can see how beautiful animations you have. You are right. 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 All right. You are right. You are right. nine fingers keen and show her the ways of goodness you did say he was your hero estelle oh maybe you'll learn something oh can't we just go back to killing one another instead all right fine let's leave this particular fight for when the actual war is won shall we with the stone lord off my back i'll be able to bring my people out of hiding cobbled together a force so we're ready when you call on us you have my thanks though i'm still not actually sure you haven't made my life that little bit harder questa penso sia uno degli npc più belli del battles gate per come fa le espressioni facciali come si agita come controbatte tutto quanto e io sarò molto stupido ragazzi ma ho appena capito perché si chiama nove dita perché se vedete qua non è il mignolino sono un rincoglionito perché io per tutto sto scambio di dialoghi ho detto ma perché minsk sta sempre a parla deste dieci dita quando c'aveva dieci dita e compagnia perché effettivamente non ce l'ha più le dita quindi come ci ha detto anche la signorina lei tende a dare nomi de sto tipo alle persone quindi vuol dire che questa c'ha un ascesso questa c'ha il teddano che questa c'ha la malaria che questa c'ha la dissenteria lirux gula d'oro senti che madonna che bella che la danza bardica ti vorrei far notare che hanno lanciato un centinaio di monete per me allora in questo momento la mia mente è molto sporca lo ammetto però diciamo che mi incuriosiscono tutti quei denti lasciamola lì cioè secondo me è come mettere una salsiccia dentro altri da rifiuti però non si sa mai no stai calma lì te l'ho letto senza pensarci non devo farlo più desponiamo perché non se possono desponiamo questi e poi faccio despona io vai che cazzo è successo non ho capito sono implosi i zombie a poi hanno fatto tutti i danni necrotici ma vaffanculo ah si esplodono i ghoul minchia bello dio cristo me l'ero completamente dimenticato oggi siamo qua perché volevo andare ad esplorare verso di qua perché ho fatto un po' un giretto per la mappa e compagnia da sopra e secondo me questa non è la libreria sarebbe stato un po' troppo facile quindi andiamo per di là oggi mettere fin... ah ok ho fatto bene siamo in una tomba di divinity madonna ma che bello madonna ogni cassa è piena di esplosivo su tutte trappole tutte allora noi per adesso mettiamoci le mani in culo artiglio strisciante questi mica si rialzano ragazzi oddio c'è una mummia oddio mio ma quanti cazzo sono domanda risposta volevo vedere se era come nella gritta dell'avvizzito che se li lanci parte il fight va bene però sono sorpresi e io sono maledetto putrefazione magica subisce 3 di 6 danni necrotici per livello dell'incantesimo a svantaggio è tutti i tiri salvezza perché dovrei essere maledetto non mi è arrivato niente addosso allora karlak tu vai in ira prima di tutto no aspettate karlak ha ucciso qualcuno andando in ira infliggiotto danni psichici furia del midollo chi cazzo è morto ha visto karlak andari in ira gli è preso un infarto oddio madonna comunque le evocazioni del necromante sono diventate veramente una merda sono diventate veramente una merda ma schifose proprio unte luride parte che l'hanno debaffati due volte neanche una due perché ricordiamo che i ghoul hanno la scia per la paralisi tecnicamente quando un ghoul vi colpisce voi dovete fare un tiro salvezza su costituzione e se superate o fate dieci non venite paralizzati questi ghoul quelli evocati sono depotenziati perché l'unico modo che avete per essere paralizzati e se fanno uno diventano più per mitigare i danni perché appunto come diceva Ale li attirano no no ma infatti che non è più un necromante è un mago della divinazione però l'avevo utilizzato in attimo perché sembrava un fight difficile invece un cazzo è chiusa come se è arrivato qui ok lui prendeva le persone disperate le trasformava in servitori e perché non ti ha ucciso subito aaaah madonna che cosa ansiogena cioè lui infila i canopi dentro le persone la parte superiore di questa pergamena descrive gli incantesimi rituali necromantici madonna che qua sbagliava alla fine utilizzati per inserire porzioni dello spirito di una creatura all'interno dei suoi organi estratti ok sì no effettivamente sono più orcrux che compagnia per poi sigillare questi organi infusi all'interno di urne funerarie e nascondere per preservare la forza vitale in essi contenuta la parte inferiore della pergamena è invece attraversata da uno scarabocchio di lettere storte che si decifrano come segue un'idea brillante ma non geniale come quella che mi ispira dove nascondere un tesoro così prezioso nel corpo animato di un guardiano che non è nemmeno al corrente sono morti gli altri tre zombie ragazzi vogliamo ammazzacar dobbiamo ammazzarli stanno là dentro che io mi immagino è una cosa ambigua perché lui che li fa a pezzi magari li apre mette dentro sto coso e poi li fa ricampare che cazzo di ansia dio madonna so dove carcame nasconde il suo vaso canopo è dentro il tuo petto zio come cazzo hai vomitato un canopo un canopo sto vaso di merda dio madonna vabbè che è un non morto che cazzo gli frega pure se fosse vabbè grazie ma sono un rincoglionito dio madonna ma lui mi stava dicendo dove stava dove stava lo zombie con cui abbiamo parlato ma sono un rincoglionito perché giustamente quella era una cosa che dovevo far prima ma porca puttana e invece sono andato a depredare le tombe si raga capita anche i migliori io mi sono fatto una citarella per le tombe dio madonna gli altri mausolei non li voglio depredare di roleplay diciamo che per un attimo oga gli era pigliato il momento un po' magico vabbè che saranno sicuramente maledetti come minimo allora distanza di sicurezza usiamo il nostro coltellino svizzero magico anche detto eldritch bla gli ha fatto un cazzo ragazzi gli ha rimbalzato contro ah hanno debolezze uniche la fiammella tua madonna graffio stavi a tanto così tio madonna ma i mobili sti cazzi mi è fregato il cane tanto sono da la taverna quindi questi mi attaccano appena io entro ma gli altri sono ancora invisibili com'è possibile sta situazione ah ma la droga è rimasta ah aspettate scusatemi comunque veramente le fight ai livelli alti di buzzes gate sono tre attacchi continuo a dire marchiare i deboli è uno degli oggetti più forti del cazzo del gioco cioè poter rendere una roba che è immune debole a un tipo di danno fisico è senza pari è fuori è veramente fuori non so come ti ringrazio possiamo finalmente essere liberi qui porra prendi questo penso che è valutabile e non lo necessiterò non ora Karian è morto oh buono è un anello che ti permette di castare e creare non morti questo ti fa spawnare una mummia di quelle che abbiamo affrontato fino ad adesso a difesa di suo padre Tybolt Allegra Ollu non aveva paura degli zombie Allegra aveva paura degli squai della liquidizia degli arazzi degli artefatti nederesi dei cappelli quelli grandi delle aree esterne delle aree interne dei cappelli quelli piccoli dei secchi per il latte i zombie erano una dannata passeggiata che cazzo ho appena letto esorcizi di scrittura esorcizi ah oddio perché non sa scrivere una serie di esercizi di scrittura delineati da trumbo indirizzati dai miei fratelli sotto gli esercizi diversi tentati di scrittura le lettere dell'alfabeto nessuno dei quali porta ma madonna io ci ho appena pensato adesso madonna che porca il tizio del cimitero è un bambino morto ecco perché si comporta da stupidino e stava sulla tomba della sorella è un bambino che è stato risvegliato in non morto gli esercizi per la scrittura è perché è un bambino e voleva farla a nascola madonna mia che depressione qua c'è kit è il suo drago è il suo drago che si è trasformato in dragonite perché giustamente gli è stato dato la diamante chissà quanto cazzo è forte quando voi arrivate dalla pattuglia dei kit quel drago se ci passate sopra il mouse si chiama kudenos perché tecnicamente i draghi quelli potenti tipo quelli antichi insomma quelli un po' più grandi hanno la possibilità di avere una forma umana giustamente come se lo porta in giro e compagnia rendendolo un dragonite bello 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 ho recuperato il martello the prince of the comet is not dead the prince of the comet will come again the prince of the comet will liberate us from the lich queen's tyranny the prophecy is one step closer to fruition among the gith yankee one gift is esteemed above all others the silver sword take it take it wield it in honor of gith the great liberator and her unforgotten son is tick now that you have the hammer you must find a way to enter the astral prism once inside smash orpheus's bonds his cry will shake the planes and i will fly to your aid the prince of the comet will fear the heavens again first we'll defeat the absolute then we'll let the lich queen tremble think again i will not permit your entry bellissimo che lui va toh prendi tutti gli oggetti grazie che ci stai dando a mano ma io non te volevo dare il martello che cazzo vuoi eeeh bella is tick friend to orpheus together we will end the elder brain which shakes this city then i turn my sight to vlachith the queen of deceit mi immagino oca no io eeeh boh poi ne parlamo eh se sentiamo sul telefono se è andata ma infatti spetta dio madonna ma io tecnicamente posso liberarle tutto quanto non posso farlo post bordello c'è un posto di oh bro guarda spetta due settimane dio madonna che sta arriva l'apocalisse dei tentacoli dei cazzo di entai poi devo tol il martello bene due di sei più sette un'arma più tre è un di sei se sei un git che rottura di coglioni resistenza più nega git se sei un git anche tieni vantaggio niente sì sì solo se sei git è reverse race è qualcosa di incredibile posto di merda stefogne che posto di merda sì sicuramente va oh è vaffanculo raga questo l'avrei detto pure il roleplay fossi stato in una partita che cazzo poi però mi immagino l'ultima trappola mentre è in fiamme non ha più i capelli le sopracciglia clic ok questa è disarmata vaffanculo oh oh è tu Arabella sembra che non ti capisci come ti approcci è così intenzione a examinare un peccullo stone come si è unbothered da le corpso liti sull'interno Arabella esamina la pietra Oga con il suo occhialetto allora io che non ci capisco un cazzo la conoscenza nel cervello hai ragione quella pietra è incredibile ho visto gli eventi passati come se ci fossi stata io stessa è rimasta da sola per tutto questo tempo questa veramente ce la ritroviamo in butler's gate 4 dobbiamo entrare nella fabbrica ma io non credo che possiamo entrare deduco dalla porta principale no eh ma credo che se busso mi spezzano le tibie conosco la so alfa me ne vado no non si può entrare vaffanculo andiamo furtivi l'ho capita io non voglio il sangue stasera stasera voglio essere pacifico vorrei essere pacifico vediamo quanto dura questa roba qui vediamo quanto cazzo dura sta roba qua tutti furtività tutti di sotto come niente sangue per adesso più tardi si menano tutti parte che sono macchie dove lo troviamo il sangue ah piano piano buono buono maia tra dieci minuti attivo Gale col telecomandino mi faccio esplodire allora aspetta piano perché c'è quella roba lì piano che cazzo andate avanti brutti stronzi indietro chato arte se ti fai beccare si va avanti a botte di turnistica noi stiamo puntando a quella porta lì adesso quando terminiamo il turno devono passare sei secondi perché tocca il mondo è come in dndd abbiamo usato la bomba di polvere l'unica dobbiamo trovare un altro modo per distruggerla fonderia vedete che c'è un altro modo per distruggerla allora eh meno male meno male cazzo molto cittosa non è cittosa è dndd tecnicamente in dndd ragazzi un elefante può tipo volare al terzo piano di un palazzo con un salto paradossalmente io sei entrato a kamikaze no stasera lavoro di finesse vediamo se io in realtà ogni volta lo dico se c'è del puttanaio vediamo quanto so quanto dura schillatissimi che una roba va super furtiva perché la furtività e quelle robe in dnd sono una merda gli altri sono in furtività mi apro il culo si ma è bello che il glifo di interdizione ragazzi addormenta cioè non è che c'hai gli hp no 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 addormenta a cazzo totalmente vieni qua fai questo colpisce con 18 ottiene 14 provi di come un po' sta male vuol dire che io ho tirato 14 e quindi l'ho missato cioè perché molte volte non ho capito se tiro da un'altra parte è un bordeaux perché certe volte ti dice no non chi lo sta tirando ma chi lo sta subendo perché ha fallito il tiro salvezza ti dovrebbe dire oh il tizio se sta a prendere l'attacco o non se sta a prendere l'attacco e ha fallito il tiro salvezza non ha fallito il tiro salvezza perché se no è un bordello 19 l'altro ottiene 7 successo critico cioè perché quell'altro il pugno bad dog sta dormendo quindi lo prendo per forza ah ok sono i collari con cui li controllano devo distruggerlo vabbè karlak disattivalo vai ah ci vuole un'azione cazzo ci vuole un'azione e uno se lo sembra ah cazzo ma ognuno di loro dov'è ognuno di loro ah bellissimo perché ognuno di loro c'ha uno desti cosi che son fatti apposta perché se si ribellano e magari ne riescano a uccide uno si attiva in automatico che figata è per non far scattare la ribellione e ordinagli quello che cazzo vuoi è immobilizzato vuol dire che adesso si prende tutti i crit su per il culo godo vaffanculo ma signor fabbro che idea del cazzo che idea del cazzo hai buttato per terra tutti i tuoi menomale sei una di quelle che è sovravvissuta ah cadraia lo è non preoccuparti oh il mio cuore ho pensato che si è perdita mi daria più che solo il mio santo per mantenerla segnata il nostro destinato è il neurositore il centro nervo del watch guidami e faccio il resto d'accordo è ora di finirla miei miei gondianni fuori questa prison meno male che me ne sono accorto porco meno male che me ne sono accorto no dav stranamente l'ho ripresi per i cazzo di capelli ora muoviono tutti speriamo di no se lo meriterebbero si vieni qua per eservare la vita che ci sta stranamente bene alla situazione di merda in cui siamo in questo momento raga ve lo giuro mi stavo per infartare disarma sta stronza arma a terra ok perfetto l'abbiamo ripresi per i capelli ma l'abbiamo ripresi ragazzi ma sta per tirare un cazzotto in faccia all'ognomo sta così non ci sarebbe il duello obbligato devono morire raga devono morire si cazzo di gnome di merda devono morire questa è veramente la legge di darwin che nulla eviti eh questa è la legge di darwin che dice ho detto che devono morire devono morire e per forza perché se no non si può dovrei avere una pergamena del globo dell'invulnerabilità quello che cacchio è da qualche parte no proprio quella del globo perché il santuario ne salva uno è la legge di darwin all'ennesima potenza deve prenderli tutti non l'attaccare stai riflettendo sulla cazzata che hai fatto stai riflettendo stai riflettendo avete visto che cazzo di place che ho appena fatto ti apro in due veramente come un compasso sì sì è la legge di darwin io sto con cioè sta lì lui che aspetta con le mani tanto prima o poi muoiono questi non ci sta scampo perché stavo uscendo perché ho paura che questi corrono verso l'uscita e si beccano l'altra stronza questo chissà che intreccio dei quest e dei crypt che si è fatto perché quelli sicuramente non dovrebbero stare più qua è quello raga io ve posso provare salva sette orte ma a un certo punto il tristo metitore vi vuole dalla loro posso provarci quando cazzo vi pare ma se volete morire dovete morire che ve devo dire io mo me sto a spaccare in quattro per roleplay e compagnia ma a un certo punto te la cacciano fuori non l'attaccare per favore date spero stai ponderando la scelta del cazzo che hai appena fatto questa arriva alla fabbrica è stato leggermente caotico ho buggato tutto si ce l'hanno soltanto costruite loro quelle cazzo di sendinelle ancora non hanno imparato il motivatore di prinsky è il metodo banita supremo di coercizione ma è utile solo come deterrente non come arma quando viene innescato chi lo impugna solo pochi momenti per disattivarlo prima che le cisterne esplosive della prigione dettonino e gli ostaggi muoiano ecco perché shadow art gli stava pieno infarto cioè se io pensavo che era tipo per controllarli mentalmente o qualcosa no 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 fa esplode esplode tutto ma spero quelli del collare cioè quelli che ci avevano qua sotto perché se no è avvine facendo sì che la nostra arma di ricatto contro gli artefici condiani venga perduta minacciate con convinzione ma non spingete mai la detonazione effettiva a meno che l'intera fonderia non sia caduta in mano ai nostri nemici dettagli fintanto che impugnate il motivatore siete al sicuro dei condiani perché sanno che se venite attaccati i loro cari moriranno tuttavia per prevenire un massaggio involontario il motivatore può facilmente essere disattivato inserendo un apposito codice ah se leggevo questo potevo farlo direttamente non preoccupate troppi dei prigionieri ai lavori forzati saranno troppo terrorizzati per accogliere un motivatore caduto sono deboli e cotardi prede naturali dei baniti scusate e io qua che stracristo devo fare devo combattre perché non è che ci stanno molte cose karlak tu sarai quella che toglierà un sacco di danno agli avversari voi vi chiederete come karlak è una maga del disarmo arma a terra 1 ah me l'attacco d'opportunità su gai che puttana arma a terra 2 per fare questa cosa questi guanti qua questi guanti qua sono proprio la pappa reale di un cazzo di guerriero battle master perché dà svantaggio alle manobre ma a temare che io devo sprecare alcune delle mie azioni perché gesù santissimo quel bellissimo bambin gesù l'ho dato questi non non possono fare sì sì tecnicamente lo sanno pure perché l'hanno costruite sono finite le parolacce mannaggia la ma prendono un cervello ci attaccano un parassita mind flayer lo infilano nella sentinella dio santo che orrore bellissimo ecco perché se distruggi la fabbrica si disattivano tutte è un server gigante di sentinelle sì quello è un ascensore quello letteralmente fa esce il boss parte la musica di dark souls invece di fare queste supercazzole qualcosa che non va è un'esercizio It shames me to admit this But you must face this beast of Gondian folly alone I would be crushed in an instant When it raises Its shields Strike it with every scrap of magic And might you possess And pray to Gond that it does not Fire upon you Good luck my friend Ah lui dice Vabbè guarda zio cazzi tuo Dice ma torno più tardi E tu spacca lo di legnati mi raccomando Oh Madò Madò ma è bellissimo Guarda che c'è i propulsori Esistenza leggendaria Incapacitata Questa entità ha più 10 al suo prossimo tiro salvera Contro un'incondizione incapacitante Può usare questa capacità 3 volte È resistente ai vari danni È vulnerabile al fulmine Esistenza immutabile Questa entità ha gli effetti incantesimi Che alterano la forma E non può essere rimossa da questo piano esistenza Multiattacco Quando sei però non mutilato O trattenuto Resistenza magica Mi contiene vantaggio contro incantesimi D'effetti magici So io sembra facile Domanda No ma infatti poi esatto C'è la cia molto Ma forse perché c'è qualche capacità Ma che tocca a lui Per fare le porcate Sicuramente Per carità Però il tuo prossimo turno è morto Domanda Questa cosa Fino a che distanza rimbalza Ragà È morto qualcuno a casa Mi si è fritto il computer Per caso Perché secondo me è arrivato Che cosa ho tirato La madonna Vabbè raga Si va normali Shish kebab Plus ultra Figlio di dro Ah ok Eh zio Mi sa che è un po' troppo tardi Per fare sta cosa Non puoi redirti Protocollo difensivo baluato Che si deve accovacciare una posizione incrollabile E può lanciare Matrice di riparazione Missile di fuoco infernale Protocollo di repulsione Eh la madonna Che cos'è Questa entità può essere danneggiata Solo dagli attacchi Che infliggono 15 o più danni Zio ti sto per smaitare in testa Ti faccio implodere Non so se l'hai capita sta cosa Alizio Del turno di questa entità I suoi servo sistemi La curano Fai esplosioni a top Da 96 a 576 Qua hanno tirato i dati Hanno detto Pia di ste statistiche Che non rompe i coglioni Peccato Perché se avevo iniziato meglio L'avevo fatto in un turno Eh che gli devo divare Poteva tirare più alto all'iniziativa Ah peccato Non gli posso mettere addosso Tagliari deboli Ah perché se gli rompi la stance Si disattiva Ok Rovesciare il grande popolo A sto punto Orin Se non c'è qualcosa di particolare Gli smaito in testa con un colpo La finisco Io ve lo dico Gli faccio tagliare i deboli Gli gritto Gli smaito Morta Io avviso Oh A stai viene diventata una macchina Gli smaito in testa con un colpo Spaccatuto Spaccatuto That was a hell of a show Oh my friend Forced us to build his steel watches But no more Take the city Let the iron hands reign supreme I just wish to go home And hold my daughter Tobin ha ragione È finita Please Ok grazie Il gioco Il gioco che me la dai Perché questo veramente È soltanto un cazzo di Veramente terrorista Perché Prima di tutto Avete visto Non ci serve la Bomba atomica Per forza Cioè fa esplode tutti e tutto Puoi farlo senza bomba Quindi GG per Baldur's Gate Questo Boh Non ha ragione Dice Guarda Dovevi morì come uno stronzo Te e tutta la tua famiglia Ma che cazzo vuol dire Barbaro Intimidire Vattene Spaccherò in due Con la tua testa dura I thought you were Rebel in arms I see now You were but a snake Waiting for its moment To strike Keep your precious Gondians But know That I will not rest Until this city Is rid of them And their bootlickers When the day comes My hammer will find Your skull And crack them Wide open Iron hands Move out Abbiamo fatto un'altra quest L'esplosione Devo dirla Bruttissima Orribile Non ti avvicina Muori Immaginate In una partita di D&D Questo che dice Ah se devo morire Voi verrete con me Accende il cerino Esplode tutto Tipo V per vendetta E poi ci stanno comunque I personaggi che fanno Ma che cazzo è successo Dio ma Stermi da niente Ma poi non gli ha fatto Un cazzo di danno Scondri con i botti oggi Patums Voglio legarmi nuovamente Al mio giuramento Offri il denaro Sarebbe insieme il tuo giuramento Il prezzo è pagato Dio mi Perché vuoi Reklamare il tuo diritto Solo tornando in possesso Dei poteri Che ho perduto Potrò ottenere Ciò che voglio E il mio destino E il mio diritto A greater calling A greater calling Kneel Oathbreaker You swear to deliver Righteous retribution Vanquishing your enemies And aiding those Who suffer at their hands The oath of vengeance Is once more years To fulfill Ma raga Ma è una madonna Sta cazzin Quindi era verde Perché era il Cosa della vendetta Come avevo detto Top Tempo fa Prima di andare poi A combattere contro Orin Ne Gortash Volevo ripristinare Il voto di vendetta Di Oga Perché deve Fare roba It's hard to keep A good woman down Isn't it I don't know You managed it For a solid decade I never meant To harm you dear Merely to help you Realize your vast potential You sent me To the hells You let Zaryl Take my heart As though any of it Was yours To give away The greater good Carlack Something I wouldn't expect You to understand Don't lecture me About goodness You don't know The first thing About it But I do I give a shit I don't hurt the people I love And I keep my promises I'm in silenzio I'm sorry you feel wronged By how things ended Between us All those years ago But now We must look to the future You make it sound like What was happening No way He'd hurt me I thought He betrayed me For reasons I still don't Quite understand But I suppose Evil has no real cause It just Is Until It Isn't You Utter brat You're going to burn this place down Good Di addio Gortash No You have to stop her Do it Now It's finished It's done I need to see him up close I need to know He's dead So Gortash is nothing more than a pile of flesh Same as the rest of us Intuisci che sta riflettendo Non dire nulla I feel like there should be a sunset For me to ride off into Or an orchestral swell Or Something But there's nothing is there I killed the bastard Who ruin my life And my prize Is that I get to crawl into a corner And die Am I fucking missing something? È tanto da digerire una volta sola È normale sentirsi sopraffatta E gli è arrivato Fino adesso non ci ha mai pensato Pensava solo a Gortash Gli è arrivato Il pugno I'm beyond overwhelmed I'm I'm finished He's dead And he's no fucking sorry And now Than he was before What was the point I'm still dying I'm dying I'm going to die Allora so che la farà incazzare Non è necessario che sia così Puoi ancora tornare a Tavernus I don't want to go back to hell And what then Off to the city of judgment To waste into oblivion Into the dirt To get eaten by maggots Is that it for me? Is that fucking all? And you You'll just keep going Won't you? Watching the stars Warming your hands On the campfire Dancing Eating Making fucking love All night All of it All of it That's my reward For everything I suffered That's why I survived Ten years of torment The fighting The clawing The loneliness The fucking loneliness All of it So I could rot Because the person I trusted the most Gave me away to the devil It isn't fair I don't want it like this Allora c'ho la pelle d'oca Veramente fino a dentro Al buco del culo Porca troia Però qua peccato Qua peccato Che non hanno messo Un'interazione Mentre era in fiamme Ti dovevano dare Magari la possibilità Di abbracciarla Anche se te scottavi No? Sarebbe stato molto bello De madonna mi sta venire Da piangere Dio Cristo No vabbè Ma a morire Non credo muori Kyle Cioè Cioè vai vicino Però anche il provarci No? Per poi scottarti Spogati è il momento Non lo so Ma qualsiasi cosa sia Penso che dovremo farlo insieme Io devo andare dalla mia Ragazzo di waifu Tu Gorta Ci aspetta qua E non rompere i coglioni Ero preoccupata per te Stai bene? Bello come In realtà Carla che si aveva Quel personaggio Un mega ultra bonaccione Che però ogni tanto C'ha i suoi momenti Cioè Parte Ce l'ha anche lei La sua linea Non proprio Ma mi sei mancata Non avessi avuto scelta Deve aver seguita Fino ai confini Il Ferun Ma noi abbiamo ancora un futuro Non sarà il futuro Più duraturo del mondo Ma questo Non lo rende meno bello Carlac Prima o poi Mi sbotta Mi sgozza Hai mai preso in considerazione Di tornare a Tavernus Anche solo per un po' Per guadagnare tempo Non sarebbe per sempre Solo il tempo che ci serve Per trovare una soluzione E riparare la tua motrice Credo di aver Ma si prenderà Dico al alone Un minuto E mi possessed E mi portare In plявola Non posso farlo Nonostro Ci vorrei for death every day let me go out surrounded by things i love not things i hate speaking of which there's something i wanted to ask you will you stay with me when it's time for me to go i think i can do anything if you're there even die madonna che belle ste robe che belle sei mesi ci ha messo per doppiarla sta roba se succede sì ma certo amore mio certo thank you now enough tragedy i'm not gone yet and our schedule is packed with important heroics isn't it plus if i cry anymore i'm gonna run out of tears and start leaking motor oil thanks for everything darling i love you a lot ci ho pensato adesso che esiste questo specchio prima ho detto che io l'avrei abbracciata una bruciatura in faccia per quanto non era questa la cosa che gli avrebbe causato onestamente oga si è bruciata bello che con la mano gliela mette proprio sulla bruciatura è bellissimo perfetto mai scelta più saggia ho fatto oh così c'è te fanno incontrare il meme il bbg ahahah degli altri matters gate com'è possibile ma che cazzo ma poi al sedi ma che bello primo sangue questo era prescelto di bale questo fai fai culetti per chi magari non sta accadendo e gli altri immagino si oh sendai la gente che ha ucciso orin l'ha portata al tribunale questa qua era la dro che abbiamo trovato morte che si moltiplicava è quella sendai quando il fantasma di muore sarevo che diventa velocizzato non potrà essere paralizzato né trattenuto la soluzione di movimento non può essere ridotta in alcun modo sarà come tra la sua cia di sei ah madonna e quanta c'è nemmo ah oh oh dai 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 poteva andare peggio you gaze upon murder's progeny child his most ill trusted zealots his faithful departed prodigal servants each returns to do his bidding eternally this man is known to all balderians and his presence sparks dread in the pit of your stomach before you is saravok arnchev a balist who almost brought balder's gate to ruin a century ago this is the court of the dread lord's tribunal i am its custodian here come those who seek to transcend aspirants of his most profane order the would be unholy assassins above che domanda del cazzo sei tu la ragione per cui ci stanno tutti i stomicidi come se parli con hitler è colpa tua se l'ebrei no ma chiede non si sa mai ma che cazzo ma che domande di merda sono vabbè che giustamente se una persona non sa anche se te lo dice la narratrice come fai ad essere ancora vivo a long while ago with me as the gate's everlasting poison but no more for poison is too slow a death now is the time for slaughter with these killings the glory of the ballists has risen beyond what we dreamed possible during those dark days but the worship of my lord is led by another now my granddaughter arryn the youngest unholy assassin ever to follow in bal's bloody trail and his chosen minchia orin è nipote di sarevo dio madonna com'è possibile orin è tuo nipote cioè perché è proprio in linea temporale che posso però figata in realtà perché vedete quella cosa che avevo detto che i changeling non per forza nascono ghi 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 ma gli si è infilato qualcosa di particolare nella linea di sangue che ha fatto usci fuori una changeling bella come roba e cazzo non me li son portati chissà che cazzo di reazioni ne avevano davanti a lui effettivamente mica chi piava un coccolone my very blood and by extension his ball has never had a more gifted prodigy arryn's gift surpassed even her mother's her mother knew this and she could not bear it when arryn was but seven years old she tried to smother the child as an offering rose up through her throat the lord of murder speaking through the child lay not a finger on this child he said nor let any other for this child will serve me with unholy ardor protector in my name si comunque gli piace parlare si sta dicendo tutto l'albero di famiglia praticamente una bella famiglia felice uno senza una mano immagino sia anche morta aspetta infatti madonna ho collegato adesso bonnie come fa orin a essere sia la nipote che la figlia vuol dire che sare voc si è fatto la figlia si incesto però cazzo mi è arrivato qua come un mattone perché io nel dialogo nel mood col vocione non avevo collegato il prima dice nipote poi dice figlia tu fai che cazzo vuol dire erano altri tempi ho capito però sento il chitarrino si disguito malabama di madonna tua nipote ha ucciso tua figlia la tua famiglia sembra profondamente disturbata mio lord ma non so se tu hai capito che prima dovessi imparare a fare le domande e poi a dare tutte le risposte nel senso tu potevi entrare e farmi ma senta signora lei chi cazzo è perché sta qui davanti a questa giuria di persone molto sane ovviamente non mi permetterei mai e poi magari gli racconti tutta la tua famiglia dio madonna adesso gli dico guarda in realtà sono venuto qua scapocciato dio madonna che cazzo ma perché dovete parla sempre tutto subito mi avvicinerò solo per prendere la tua testa mostro di merda da quando è che io sarei in arcanista perdonami tanto sarevo che temporaneamente ostile guardalo che c'ha la stance unica sta tipo ma ti apro il culo via qua guardalo che bello ciao sarevo come stai tutto bene la famiglia te spavento allora hai spaventato su sarevo che bloccare persone 90% madonna shadow art quanto cazzo ti amo quanto cazzo ti amo guascona però in realtà shadow art può fare una play con i contro coglioni shadow art può fare una mega play fa questo qua se sposta circa qua bloccare persone di livello 4 deve essere un umanoide ah cazzo non ci avevo fatto caso viene calcolato giustamente come mostro e allora si fa un bel comando supplica non può essere un non morto cioè o allora o non è umanoide ma è non morto questo è il master che ti dice no zio non le puoi fare le tue cose mettiti le mani in culo va bene mi metto le mani in culo va bene però esiliare non costa niente adesso sarevo sta da solo ma questo invece lì è il player che sa rispondere perché sa che cazzo c'ha in mano aia giustamente c'ha la rage questa entità può usare assalto del ladore di morti fino alla fine del suo prossimo turno cosa fa porca madonna va bene va bene sono contento per te brutto strozzo dio madonna siete veramente dei rombi coglioni e vaffanculo gli meno normale dio madonna to vai così va bene sei contento parca puttana su becca va bene gli è meno e basta gli è meno ok va bene va bene va bene c'ha santuario sei sicuro che non attacchi guarda me ne frega un cazzo che te prendi della roba extra non me ne frega assolutamente un cazzo non vuoi attaccare va bene non attaccare vai vai non stiamo attaccare va bene va bene hai fatta tu sta scelta non l'ho fatta io tu no questa gli sta mantenendo la velocità un'azione ovviamente la usiamo per scattare Oga si è svegliata Oga si è cazzo svegliata sei sicuro di questa scelta che hai appena fatto guarda che Oga ci viene vai 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 da sola pure hai già fallito il tiro salvezzo povera bestia di satana vieni qua dai vieni qua dai dai ce ne ho di azioni tranquillo ce ne ho di azioni ora ah ma sei vivo pure tu cucciolo vieni qua dai tranquillo ho tutte le azioni del creato ce ne ho pure un'altra se te gira male hai visto da torniamo su da Saravoc dai ah Saravoc che tu morirai anche nel modo più stronzo che ci sa dovevo pensare poco dovevo menare e basta qui sono registrate le richieste di sangue il patrimonio dei cadavoli dei nostri segfinici preso dalle loro mani morte dopo la registrazione e la decurtazione della parte che aspetta l'assassino il resto deve essere consegnato alla guida del tempio e non più al maggiordomo come in passato ah il maggiordomo è quel maggiordomo è quello del dark urge quello che segue è un dettaglio un dettagliato registro finanziario del bottino dei bersagli di omicidi sempre accompagnato e indulgente e prosa scarlata che descrive la loro causa di morte la pagina è stata fatta da quello che sembra essere un libro di memoria di Saravocankev o Ancev o come cazzo si nomina il sangue di Bal non deve mai essere sprecato ma solo moltiplicato mi fu chiaro dal momento della sua nascita e lo fu ogni giorno di più vedi la bambina diventare una donna Elena la mia bellezza muta forma mia figlia e il grembo in attesa di Bal ha ingravitato la figlia Elena la mia bellezza muta forma madonna ecco perché è uscito un cazzo di changeling dio madonna che oh cioè Saravocankev non solo ha fatto il figlio con sua figlia la quale era una muta forma e ha cacciato fuori la nipote che giustamente visto che è figlia di un doppelganger è uscita changeling ecco che cos'era quell'andicchia di strana che era nel sangue di Diorin il fatto che la mamma fosse una muta forma ok bello però che torna inquietante in lei piantai il seme del mio signore e così generiamo l'agnellina di sangue Orin la figlia di mia figlia ah minchia ci hai proprio confermato se tu avevi dei dubbi la figlia di mia figlia nonché il sacrificio di Bal in attesa non aveva idea che sarebbe diventato Orin la favorita di Bal piuttosto che Elena ma non importa Orin avrebbe contribuito a far nascere un nuovo mondo nel nome di Bal un mondo battesato nel sangue aspetta a dire inquietante guarda l'unica cosa che può superare onestamente no non lo dico perché sennò c'è chiappo non lo dico perché tanto con queste cose c'è piglio quindi lasciamolo per fare i mori oh perché se è stata fregata perché gli abbiamo dato quella lettera con cui c'è azzeccata e quindi ha cominciato a indagare l'attimo mannaggia grazie per mi fregare così rapidamente non ho idea cosa quelli di Balist Burks avevano planato con me ma queste cazze stavano iniziare a chafferci però io vorrei che che ti avessi pensato prima di mettere la scuola per il matrimonio su questo povero rifugiato beh almeno è finito ora sì ma più che altro perché t'hanno lasciato in vita cioè i baliti se per sbaglio starnudi ci fanno oh questo lo possiamo sacrificare perché lei che stava in mezzo ai coglioni l'hanno lasciata qua incatenata sì tra l'altro gli hanno lasciato anche la pipa che magari se era veramente Sherlock Holmes si liberava con qualche inciucio ah perché la prova sarebbe stata uccidere lui figa come roba che prova del cazzo cioè piuttosto dimmi vai a uccidere qualcuno di importante un libro di memoria che descrive in dettaglio la visione di Bal vista da Saravoc anche dopo la sua morte nel tempio di Bal secoli fa i miei fratelli e sorelle mi chiedono spesso com'è stato morire si aspettano i ghio presenti un conflitto l'illuminazione la sconfitta nel braccio di Bal il dominio di Bal è una terra rossa e desolata bello bello questa è una cosa figa ti parlano del dominio della divinità è quello che vi ho detto mille volte cos'è tra virgoletto nel paradiso io sono un chierico o in genere una persona che prega Selun se io vado in quella parte di dominio faccio le cose che devo fare quando muoio Selun prende la mia anima la mette nel suo dominio che è tipo chiamiamolo l'espansione del dominio no? che ci sta pure bene Bal in questo caso è tutto rosso è sangue che è una roba che dà conforto a loro fermo nel tempo prima dell'ultimo tramonto del sole lì vagai assaporando la fine di tutte le cose finché non fui trascinato indietro dal precipizio legato di nuovo a un involucro vivente dal mio beffardo fratello all'inizio non lo sopportavo avevo dimenticato come respirare e mangiare tutte le funzioni animali dei meschini che si aggrappano la vita ma quando fui crudelmente risuscitato la mia fede fu rafforzata più della mia morte che dalla vita avrei realizzato il finale perfetto di Bal lo scioglimento del sole cremisi sopra i laghi di sangue tutto questo accadrà e il mondo sarà scolpito su immagine e somiglianza bellissima per accedere a te più di Bal dovrai attraversare il bardo dei morti macellati ma se sei debole come questo aspirante il massacratore ti negherà il passaggio sconfiggilo o muori il massacratore io vado istantaneamente in furtività se mi dici che c'è sta il massacratore questo è proprio il trappolozzo quello te evocano tutto sotto al culo tutto quindi voglio un attimo più che altro arrivare alle spalle per pararmi il culo no c'è qualcun altro che mi sta a guardare perché se non può andare in furtività c'è qualcun altro c'è qualcun altro qua bellissimo guardia della porta della morte è inarrestabile porca puttana bersaglio di rituale barita come parte della sfida per entrare nel tempio questa entità è diventata il bersaglio di un cultista del canto il massacratore che può lanciare parola del potere uccidere di Bal a termine del suo rituale profano allontanarsi a più di 55 ma ton ma così ma così dio madonna ma poi perché se Oga non sta in fight che cazzo vogliono da me Gale me ne servono guarda sicuri facciamo 6 ah perché è incorporeo è incorporeo è incorporeo ma si è incorporeo merda ma si sono dati scusate non erano qua ah ma perché era uno stronzo che si teletrasporta a cazzo in giro cioè loro dovevano parare il culo a sto figlio di puttana era quella la gimmick cioè io sono andato a ammazzare subito quello che dovevo ammazzare ma vaffanculo io pensavo che fosse ok allora è bilanciato come scontro perché io pensavo che fossero x di sti stronzi che te fanno te castano parola del potere morte quelli erano veramente sbroccati così secondo me loro hanno fatto ci abbiamo la trappola io ho shottato l'unico che non dovevo è già finita quanto pare si franca ah era quello il massacrato madonna mi aspettavo satana tre metri di cristiano che mi menava fortissimo in nome di ball era uno stronzo che faceva unga bunga donga banga ma andatevene a cagare balliti di merda no tutta la gente che ha ammazzato lei non ci ho fatto caso è gildro questo boni perché c'è la madre se è così schizzata di tutte le persone importanti che ha ammazzato la madre sta da qualche parte a parte il pisello animato e il durge guardate che tanto gli ha fatto la stessa cosa che succede ad alfira l'ha sacrificato a ball fortissimo bello che prova a salire ma è tenuta perché sei stata esposta in questo modo che ti è successo perché hai cercato di uccidere la tua stessa figlia la facciamo smattare madonna te prego te prego dimmi che posso fargli pigliare la para per tutto il cazzo di gioco ti piglia per il culo gioca con te come se fossi il topo madonna sa che sarevo che ti aveva ordinato di ucciderla andiamo a menare orin let go oki doki i i Minchia Alzin, stai attaando così da morire Come la salvezza offerta da tua madre Ti ha attaccato per ordini di Sarevok Per ordini di tuo padre No, 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 no He didn't, he didn't Filthy pig mouthed little liar Grandfather loved me, he worshipped me These patty smearings will not save you Sarevok è tuo padre, Orin Abusato di tua madre Abusato di te No, Orin You did this for me Ma, father, they lied to me They lie Hush, child No more doubts No more fears No more Orin Become murder Ecco lo Slayer Porca puttana Cazzo Cazzo però Madonna Inarrestabile 12 E greve Allora Dobbiamo toglierle L'inarrestabile In tutti i modi possibili Io ti dico Facciamoci furbi un attimo però Karlak Tira la granata a velocità Qua per terra Perché così abbiamo tutti un turno di velocità Poi Dardo incantato Così l'inarrestabile si va a togliere Action surge La spaventiamo Ci proviamo almeno L'ha superato La riproviamo a spaventare un'altra volta Ok È spaventata però Andiamo in ira Quelli staranno a fare qualche rituale Alzi Ne siamo visti Bella per te Dobbiamo togliergli la sua merda Dadosso Prende 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 Inarrestabile Non c'è più No non uso Danza macabra Uso che gli spacco la testa In due Corri qua Perché voglio un'azione extra Soltanto per fare una cosa Visto che siamo a fa Chi c'è il cazzo più grande Orin Guaschione Come va la vita Hai mai sentita questa parola Plus ultra Puttana Grado In quanto l'abbiamo fatta In un turno Nella mia testa L'ho pianificata tutta Io volevo che Oga Fossi di due taglie più grandi Apposta A metallica tang Fills the air As the slayer's form Is drained of life Ashes to ashes Blood to blood You have robbed another god Of his chosen So We have the final stone I need to see it for myself There it is So innocent But such potential You have done very well indeed The nether stones pulse With psionic energy Permeating you Pulling you In line With their rhythm The thrum quickens Rising Cresting On a single feeling A location A morphic pool Beneath the city Itself So that's where The chosen Imprisoned the brain Non sono ancora pronta You are right to be cautious A fight with the most powerful being In all the realms Is not to be entered into Ill prepared Once we cross into The elder brain's domain There will be no Turning back We will end this One way or another In death Thralldom Or freedom Finish your business here Before you proceed The brain will be waiting for us Guarda che pure lui è armato Ha uno scettro Oh you came for me Thank you I feared Orin's accursed smile Would be the very last sight I beheld Every breath in this place Reeks of corruption I will return to camp The air is cleaner there Sapete qual è una cosa bellissima Se fossimo in D&D E che lui tecnicamente Non sa che non stiamo più nei boschi Cioè noi stiamo alla taverna Lui torna al cazzo di hub Dice Dove cazzo stanno tutti E che rimane da solo nei boschi Riguardo Orin la rossa Sorellina Cosa ne faremo di te Nelle grigie distese A balla non importa Mai che tu perda tempo Mettendo in posa Le tue bambole cadaveri A balla non importa Se gli offri il cadavere Di un povero Di un re In fin dei conti Il padre vuole solo morte In massa Morte per quantità Per spazzare via La vita di questo mondo Noioso Nel modo più rapido E capillare possibile Tu pianifichi complotti Tergiversi E gli fai perdere tempo Balla non ha bisogno Di noi per pensare Tu cidi magnificamente E hai un talento Nelle magie Delle tue forme Che io non avrò mai Ma non capisci Nostro signore Ball Forse è un difetto Del tuo sangue diluito In quanto semplice nipote Non esistono altri Purosangui diventi Oltre a me Non accetterò alcuna sfida Da te Finché non mostrerai Un po' di dannato rispetto Raga Questo è il Durge Questa infatti Mi sembra troppo chill Come stanza Per essere quella di Orin Ma se lui sta qua Lei l'ha sgozzato nel sonno L'ha sgozzato nel sonno E l'ha messo qua Deathly silence The air is stale And putrid It's close Have the stones ready Your blood slows Your senses strung so tight They could snap In an instant The air is stale You think you know Why you are here You think that by Killing the chosen And taking the nether stones You can destroy me You are wrong It's missing with your mind Don't listen to it Use the stones Non siamo là Siamo nella nostra mente O nella mente collettiva Domina il cervello Ma quale persona Se la sente così calda Da dire Domina il cervello Perdonami Se ci volevano tre persone Dio Cristo Prima c'erano bisogno di tre persone Non è che era cazzo Perché ci voleva la volontà forte Dei tre persone Con dei che gli stanno di tra culo Attinge la piena potenza Della forma fisica E usa per perforare Le difese del cervello Perchè do mio Dobbiamo fare un tiro Per ogni gemma Eh Fali tutti e tre Ci ho pensato adesso Star Nulla è impossibile Influenzare Configgi il cervello Che è il tuo potere Che c'ho il più 5 Dio madonna Che c'ho il più Che c'ho il più Che c'ho il più per portare a me. Non l'avevano sorrenderti soltanto, quindi gli ho dato ciò che vogliono. Come? È proprio sufficiente che avrebbero giochere la loro parte nel mio design. La loro parte ha finito. I prossimi soldi saranno io. Non lo faccio. Inoltre, dominatelo! Sei forte. Sei invincibile. Domina il cervello. E tu? Tu avessi il tuo ruolo per giocare, anche. Chi pensi che ha parlato dei bambini sull'Astral Prism? Chi pensi che abbia pensato che abbia pensato di Orpheus'e potere e il rischio di quello che potrebbe fare? Quando il Chosen senti i miei thralli per rinforare il Prism chi pensi che letti il Emperor ripartire il suo legno? Per rinforare il suo legno per rinforare il suo legno. Per rinforare il suo legno per rinforare il mio libero e il mio libero e il mio libero liberatore e il mio libero e il mio è il suo fanno è perché ho una personalità incredibile, no imperatore non è che hai una personalità incredibile il cervello l'ha fatto apposta a lasciare uno stronzetto che girava per i cazzi suoi perché gli serviva come parata di culo ah c'è vabbè mi stai dicendo che questo è l'inculata finale, qua non puoi vincere che bella cd, si immagina adesso che cazzo sarà, è su forza domina il cervello quante mi stanno a piave di culo this is not over a piave di culo 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 No, no, no. La situazione è worse than I thought. This is an elder brain, no longer. The magic of the crown has caused it to evolve. It has become something more. A nether brain. Allora, c'ho il cazzo durissimo. Cioè, io ho il battito cardiaco. Quanto è stata figa sta roba. Bello che non è più un cervello, no. È diventato un cervello netherese. Perché giustamente si è baffato con la magia. La fascia del polpo sta dentro quel piano particolare, Fiora. Ma perché quello non era la verità. È come se fossero su un altro piano quasi mentale, probabilmente. O forse dentro al cervello stesso. Sai quando i film finiscono il budget alla fine vanno cagate. No, l'aria non gli è fregato un cazzo. Parte qualche pop-up brutto. Però figata. Sì, tra l'altro ha la colonna vertebrale perché dovrebbe essere parte di qualcosa di più grande. Ma figo. Crevevo che le gemene terresti ci permettessero di dominare il cervello. E te ne vai via. Voli via come uno stronzo. Guarda. So cazzi. Enormi. Grossi. Neri. Fallacei. Enormi. Eh, vado a piammare il caffè. Poi sei vero. Il mio lavoro è finito. Ma non hai fatto nulla per fare sempre una bellissima cheat. Dove vai? Ma stai a andare a liberare Orfeus. Tutto sto bordello e poi lo liberi. Ma te scrocchio le corna, sa? No. Perché si vuole evolvere pure lui? Se vuole mangiare tipo il cervello di coso? O qua ti avrebbe dato l'altro parassita per farti evolvere? I have assessed our encounter with the Netherbrain from every angle. I know why we failed. The problem was not the stones. The problem was you. You can make only one move at a time. But the Netherbrain calculates every possible move at once. It knows what you will do. It knows everything you could possibly do. You cannot outmaneuver it. To defeat it, you would have to think like an illithid. Better yet, be one. Your mind is not capable of this. Mine is. You will give the stones to me. I will assimilate Orfeus. And then I will be able to leave this prison to face the brain. This fella in his ultimatums. But he's forgetting one thing. We could become illithid. I mean... I could. You could trust me to do what needs to be done. No, no. Non diventi un cazzo di polipo. Tu te ne torni ad Avernus. Costi che te carico dentro la valigia. No. Tu stai a cuccia. Perché io capisco perché vuole farlo. Perché tanto dice moro. Perché moro. Piuttosto se posso fare qualcosa di incredibile nel mente sopravviverà anche perché il suo corpo lo abbandona. Ok. Ma no. Quando parli di assimilare Orfeus. Che cosa intendi dire? Il fatto è che c'è crea un altro illithid mega giga evoluto dandogli pure le gemme. È greve. Cioè se lui vuole assorbire Orfeus. Ok. Però dagli pure le gemme è pedicoloso. Perché se poi questi gli piani cinque minuti. Comunque è un mind flayer. Cioè per carità è l'imperatore. Balduran. Ghi cazzo fosse. Non me ne frega nulla di Orfeus. Ma voglio essere io utilizzare le gemme. Quindi dovresti diventare un mind flayer. È l'unico modo. Hai resistito a così tanto la vita. E questo sarebbe una evoluzione completa. E tu sarai un illithid per il resto dei tuoi giorni. È questo veramente qualcosa che tu sarai capito di accettare? Guarda. Dobbiamo parlare questo. C'è questa la fine per te. E te ne dovessi andare come Carlack. Non come un mind flayer. Nessuna di noi si trasformerà in un mind flayer. Se questo significa rinunciare alle gemme. Così sia. Bellissima perché lei fa sti dialoghi proprio. Oh se qualcuno deve andare a fanculo ci vado io. Mi sta facendo venire i lacrimoni. Però oddio madonna. Devi vivere. Io ti credo. Fai ciò che vuoi pensi è vero e io ti stando con te. Ma se ti cambii la mente. Dice così. Sto per metto a piano. No boni. Perché devi essere dei dati? Perché non esistono i tifling al mondo? Va a fanculo. Butta fuori tutto. Prendi le gemme. Mi fido a lasciartele brandire. Grazie. Grazie. Now stand aside. I will assimilate the Githyanki's power in your stead. Ma ho capito zio. Ma tu lo potevi mangiare pure più normalmente. Cioè bellissimo di regia perché ti mettono in prospettiva di Orpheus per fartelo sembrare che ti salta addosso a te no? Io madonna. L'hai stappato come una cazzo di Peroni. Cioè un cazzo da fare. L'hanno pensate tutte. Cioè per carità questa è la cosa più easy eh. Bello perché giustamente il corpo che si rinfila deve poter accedere a delle informazioni nel cervello. Se non c'è non può dirtele. Oh che è là davanti? Perché c'è una holbear? Quella è una holbear? Cioè non è che è Mosoni è una holbear. Ah è Alcine che si è trasformato. Che cazzo vuol dire? Non è una holbear? Che cazzo vuol dire? 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 We will fight to the last The Moon Maiden's silver light is a shield in dark times Today it is mine to wield And I hold her sword Whatever strength I have to lend, I will lend it I will make my city proud again I made some improvements to Ramazos' arcane artillery Give the word and the sky falls on any who stand in your way I'm in the mood to crack some skulls after that fuckery in the Temple of Baal The City Watch will be glad to oblige me Not sure what I have to offer a mind flare, if I'm honest But I hope my words of encouragement and reassurance will strengthen your, oh, resolve The journey has been brutal But I stand here a Hellrider once more And I would die a proud man if I died this day I want my city back And I've brought the toughest bastards from the Guild to get the job done My people have never hunted a monster this large They are eager to join their fray All the strength of the lands we healed flows through me And from me to you And whatever company you keep Nature's servant awaits Glad to have you with us And not a moment too soon The air is thick with anticipation All eyes are on you They're expecting a speech Something to stir their hearts and put fire in their bellies for the fighter head Io ho la tachicardia in questo momento Com'è cresciuto DeBotto? Ma che bella sta roba, Dio Cristo Che bella, Dio Madonna Abbracciate il vostro coraggio E lasciate che vi guidi nella battaglia Non arrendetevi alla paura Madò ma guarda lì Madò ma guarda quanta cazzo di gente abbiamo radunato We face the greatest evil our realm has known And we do it together On your word The sword of Seluna will fall upon our foes Come on Speeches are done All that's left is the doing Onwards There is no reason to linger here Press on This will all be over soon And then My gods, I'm having something very strong indeed Today We take back the city La Floric non ha dubbi Don't look at me This is your charge to lead And no one better to do it Ma infatti scusate ma Valeria Ma che cazzo fa? A parte a morbare i coglioni degli avversari The sooner we get this done The sooner we can get a pint Assuming there's an inn Still standing Bello come stiamo per andare a fare il fight finale Tutti stanno pensando a farsi una birra Però questa è una cosa veramente bella Perché ti fanno capire tutto quello che hai fatto Durante la partita Bello come con lui cambia totalmente Il rapporto rispetto all'inizio gioco Bellissimo Stai per affrontare il cervello neterese Vuoi procedere? Andiamo, sì There it is The crown The very thing that has been amplifying the netherbrain's power And the very place that we will be able to dominate it That's where we should use the nether stones Well that's just disgusting Well that's just disgusting There you are The Ratcatcher The Ratcatcher You are spectacular specimens You will make spectacular thralls Ok Per quanto magari se ne va a fan cool Però te lo fanno affrontare un drago Drago Perché giustamente se magari schippi Un missicoso Ma guardali che belli Vincolo pacificatore Contromisura guerriero Ma guarda Che cazzo di figata Che è sta roba 145 HP Sono personaggi di livello 12 questi eh Contromisura barbaro Bello In realtà questo è come un po' se il master Ti mette contro la roba Ti mette contro il guerriero Il barbaro Fighissimo Ah ma che tra l'altro ci ho fatto caso Lei ti mette contro Di te stesso Ti mette contro il tuo stesso party Più un drago This is our chance Will not Will not Isard Even bound Its will is stronger Than anything you've ever felt The chains shake Threatening to break At any moment It's vulnerable But not defeated Use the Having Brutto stronzo Ma fare sta cosa all'inizio della merda di turno? È iniziato il turno E tocca a noi Falla partì sta merda no? Cioè io mi ero infilato subito nel portale Madò Però sta roba che cazzo di bellezza Non mollo un cazzo di nessuno dietro Attaccami la waifu di nuovo Pezzo di merda Sì sì attacca attacca Ma sì vabbè ma questo che c'ha? C'ha bo il cosetto da chimico dietro Ogni volta gluk via se li dà Vai Carlac Mi immagino che fa ciao cara come stai? Tutto bene? Lei team si è riunito Cerchiamo di non morire come degli stronzi per favore Ah perché c'è Starion con un punto vi... Eh sì vai Ho capito ma non c'ha senso sta cosa Cioè nel senso che cosa mi metti la turnistica se tanto succede questo? Cioè io qua non posso fare niente Perché tanto questo espro... Cioè devo andare là L'unico modo in cui a Starion può sopravvivere è andando là Dimmi che è in azione bonus Oh Secondo voi lo shottiamo? Smite di livello 4? No non lo so perché non abbiamo tagliari deboli Madon! Becca! Putana Vaya fanculo Resist Impossible Pain Fear Terror Reconsider Assess Implore Surrender Subtune At last It begs for its life Save me Join me Wield me Become absolute It pleans because it knows I'm its master I will finish this The brain is on the cusp of its final thought And it's taking all of the emperor's strength to keep it there An opportunity perhaps Madonna Così True power No Avanti Ordina il cervello di distruggere tutti i girini e poi se stesso I must I must Obey I must End Hopes Nightmares And the screams of legions upon legions of unborn illipids The pain rips through you Obliterating all thought All feeling Your tadpole burns in your brain Silence For the first time in a long time Your thoughts are entirely your own And then Gravity And then Grazie a tutti. 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 Dovremmo restare in città aiutare con la ricostruzione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, Carla, che resta con me possiamo ancora salvarvi. No, 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 non la rischio. Non me ne frega niente. L'ha detta nell'anima. Nel canon l'ha detta. Perché lo sapete che io, madonna, mi ero venduto a Raphael. A Raphael. se lui mi diceva che diceva posso salvare. che io l'anima gliela davo, gliela davo si sei fighissima no, stop, i won't allow this, karlak, you're coming with me, back to avernus, we can't let her die, not like this, not now Will, senti, datte in culo, karlak, amore mio, non posso vederti morire, Will, andrò io con lei, devo essere io a farlo, d'altro è bellissima come frase All right, all right, but we have to go, now Hurry, I'm going to, I don't have much time It's over, and it's all because of you You, who were destined to become a thrall Thanks to you, there will be no illithid empire No death gods tyranny You have earned your place amongst the legends of the Sword Coast You are the saviors of Baldur's Gate Well soldier Here we are It worked My engines calmed down I shouldn't have let you come here This isn't going to be easy, you know Zahril's going to come at us with everything she's got Gods, right clockwork They'll be on us soon They'll be on us soon But there's just enough time Thought I was done with these But then, there was you Imps are fast, but careless Don't let them tire you out Just get rid of them And don't forget You asked for this Better let these fuckers know I'm back And this time, I'm not alone Try to burn too To Lauren Payne It's unlimited To be greater Porca Madonna yelling When the invitation came You were hip deep In Lemyal slime Swarmed by Hellwasps And about to drive the killing blow on a magmaclaw M'Claure, cutting through the dreadful buzz of the wasps and the screams of the damned, a familiar, comforting voice echoed in your mind. Withers, you requested your attendants in Faerun to gather with your friends and allies, those who stood against the Absolute at your side. A reprieve from the blood war, a few hours of respite with the stars above and good company to cheer you. Karlaq's heart can take the strain of leaving Avernus for a few short hours, but it might burst with joy to see those friends again. Thou wert called here, some from above, some below. For with thine bond, together thou hast kept the wheel of fate spinning when it threatened to halt. Though thou wert drawn far apart in the months after the collapse of the Absolute. Tonight, fate renews thy bond once more. Thou shouldst take care to preserve it. It is a great weapon wielded in the hand of good. Go. Know one another once more. Fatto nell'accampamento iniziale. Oh, minchia ma ci stanno proprio tutti. Calzoni caldi, realizzate con uno stile Rudy. Questi calzoni sono resistenti al fuoco, a prova di sangue difficile da indossare, a meno che tu non sia una grande donnuna Barbara. Oh, guarda che c'è Gail con Tara. Ciao, bello, come stai? vedo che alla fine Mistra non ti ha punito. No, perché non sono stronzo. Abbraccialo. Well, that was quite lovely. I'm glad you're as pleased to see me as I am you. I have to say I'm quite grateful to just be Gail for the evening. I fear my students find me somewhat intimidating due to my, uh, explosive former reputation. They seem to put the fear of the gods into them or the fear of Mistra to be more specific. I surrendered the crown of Cassus to her as I told you I would and in return she cured me of the orb at last. Even now I struggle to put the feelings into words. It was like exhaling for the first time after holding my breath for so very long. Of course I haven't clarified with my students that the orb is no longer a threat. The legend of my explosive capabilities is an excellent means of controlling a classroom. Too good if anything I spend most of my time trying to convince them how much fun the study of magic can be but it'd be easier to crack a smile on an intellect to devour than some of my pupils. Che bello però ti danno proprio tutto quello che gli è successo. Non preoccuparti posso dire per esperienza che sei un insegnante eccellente. Questo è durante le primissime live che ci fece fare il trucchetto e c'era quell'intimità tra loro due. Ah so you still remember our little lesson. It was quite something to share such a moment with you though it vanished all too quickly. You were of course indulging me in submitting to such a lesson. Teaching you was hardly an effort at all not like my present cohort of apprentices. Oh they try their best of course and they can manage to stay awake the cheek of them nothing a well-placed swipe from Tara can't fix though and what of you what are you making of this newfound lease of life we earned bello questo è da da Rollplay duo ho trovato l'amore della mia vita direi che sono ben più che felice Mickey ma tutta sta roba l'hanno aggiunta dopo che è uscito il gioco e raga ma qua facciamo le due cioè se ogni persona con cui parliamo è tipo adesso Gale è alla fine io continuo a dirlo le patch note gli update gli altri fanno abbiamo aggiunto abbiamo modificato due che cazzo è esploso là dietro Astarion chi ha fatto esplode il gatto di Gale è successo cioè fanno due patchire loro boh roba si esatto e poi è roba figa insegnare ai maghetti del futuro a spaccare qualche testa sembra divertente ma però In realtà è stato Gale ad aiutare me. Mi piacerebbe molto, grazie per l'invito. No, raga, però questa è una cosa che in realtà ti fa venire dei feels, se te lo sei giocato, perché lei sta parlando della quest dei piccioni. Cioè, se vanno a riprendere queste cose è qualcosa di devastante. Ma cioè, vuol dire proprio che loro hanno messo, ok, IF hai fatto quella quest in quel modo. Oh, shit. Oh, my God. He wasn't kidding. Where is, you mad bastard, you brought us back? Ha, ha. Commander Zula won't know where the fuck we went. Ha. Oh, man, I can't wait to say hi to everyone. Look at them, they're beauts. Rest up, soldier. My tin can will be alright for the night. And you and me will get to sleep with both eyes shut for the first time in six months. Then again, maybe we won't sleep at all. Più che altro adoro il suo cappotto. Che cazzo, che bello. Ma è bello che gli hanno fatto tipo il cappotto unico per sta scena. Mi piace il suono di quelle parole. Me too, my love. See you soon. Before you go, I've been thinking about those blueprints we found. Zariel's probably got a load of cambions guarding that forge. I'm sure she knows I'll want in. She'll do anything to stop me from fixing this thing. I might have an inn with one of the guards, though. An old acquaintance called Flo. Not sure she'll help us, but maybe. We might get to come home permanently. Maybe even sooner than we think. No, dai, questa è un'espansione. Larian, se tra sei mesi e un anno non mi fai uscire un'espansione in cui vada a riparare il cuore di questa qualscuna, te vengo a pigliare, eh? Me ne frega un cazzo! Bonnie! C'è stata vestita da tizia di Selun. Una domanda, Shadward. Perché sei scalza? Ho visto dei piedini. Stai scherzando, ho contato i giorni! Lo sapete perché questa animazione è bellissima? Perché loro ne hanno fatto molto probabilmente due. Questa animazione era così perché Oga, di taglia più grande nel modello, magari se ero più piccolino la abbracciava in un altro modo, perché è proprio la presa di borso. Prendo come un complimento, anche tu hai un bel aspetto. Per l'altro ci ho fatto caso adesso, non ha più gli occhi neri. Ha gli occhi castani. Prima ce l'aveva tipo nero, boh, appunto, nero shadow art, no? Come cazzo posso dirlo? Dopo neri, neri, neri. Come gli diceva Gale, vedo degli occhi vuoti e tutto quanto. Figata, perché se vede che proprio l'ha persa totalmente la morsa. Raccontami un po' di te. Dai, raccontami tutti i dettagli. Dove sei stata? Che cosa hai visto? One of my first stops was the House of the Moon in Waterdeep. It's the largest temple of Saluna in existence. It seemed like the perfect spot to reflect on my parents. On where they came from. And where I came from, too, I suppose. Hard to imagine, isn't it? Me, of all people, and the lair of the Moon Witch herself. Gods, your truest act of heroism was putting up with all that char and drivel. I was spouting for so long. Waterdeep, hai detto? Hai incontrato Gale? We had tea on his balcony. Tara, even dame to sit on my lap for a while. You know, I think entire forests must have been fell to quench that man's thirst for books. He seems to be doing well. In his element. Che ti aspetta adesso? I don't know. Which is just the way I like it just now. Perhaps I'll just stick a pin in a map and see what I feel. to find or head to the docks in the morning and scrounge a birth to find somewhere new. I'd like to see the islands, maybe, or head south to Arm. I heard there's an enclave of werecats that hunt the followers of dark gods by moonlight. I'd love to see if there's any truth to that. But enough about me. What have you been up to? Ma i gatti mannari? Ma scusa, posso raccontargli un cazzo? Termina. Bella se siamo visti, Shadowheart. Mi hai mai rotto i coglioni. I've missed wine. Had to resort to making my own cider recently, which isn't bad. Don't get me wrong. But a girl can't have fun with apples alone. Ma posso avere un altro abbraccio? Cazzo vuol dire? Potresti avere un futuro in una produzione di Sidro, magari creando una tua etichetta specialità di cuore oscuro, che in inglese è pure più bello. You might be on to something there, though the name might need work. Somehow it sounds rude, even though I know otherwise. Ah, breathe deep poo. This smell of heroes sings from every stone in this place. Ah, to meet again where your journey began, my friend. An honor. For Minsk and his hamster both. Oh, and for Happy also. Ah, perché giustamente in inglese si chiama Happy. Vabbè, ma potevate chiamarlo Felice, eh? Esiste in Italia. Il mio nonno si chiamava Felice. Perché Felicio? Dio madonna. È bello rivederti, Minsk. E anche te, Boo, e... Felicio. Ha! See how your very presence snatches the breath from his chest? And it is no wonder. It is just this day that Happy learned of your legend. while we gazed down upon the very city you saved. He dangled me from the high hall, upside down, for two hours. Eh, the guilt should not go creeping in high places if they do not have the stomach for them, hm? It is well for Happy the strange portal appeared when it did. Minsk's arm was growing exome. Sono felice che tu sia venuto, è passato troppo tempo. That it has. Minsk once idled away a century in stone, but he and Boo have been busy in these months since we parted. Nine fingers forbade any looting of the Illithid's fleshy vessels, and so Minsk guards what remains of the battle site, even from her. But where Minsk might once have thrown any sneaking scoundrels from the tower top, now I tell them of you, how you ruled the wickedness within, how they might do the same. Yes, yes, I'll rule it, I'll be better. No, of course. It is still for Boo to decide if they live or die. Oh. Oh, God. But enough, my friend. I cannot tell your tale if I do not know the whole of it. Minsk and Boo would know where you have been, what you have done. Comunque ogni volta che parlo con Minsk me rincoglionisco, c'è sta cazzo da fa. Sono rimasto negli inferi con Karlak a combattere diavoli e a cercare un modo per riparare il suo cuore. Oh, Boo. Do you know what it would mean? To find a cure for Karlak's heart? Exactly. Her heart would be cured. Oh, when this day comes, you must come and bunk with Minsk and Boo. Fear not. We sleep in that sewer no longer. It is a different sewer, much less damp beneath the bedroll. Now, halfling, Boo will not have you embarrassing him in front of his friends. So you ought to know the rest of the company you keep. We'll raven guard, the blade of frontiers, devil-horned and angel-hearted. Astarian, who is banished by the sun itself for fear his spawnish soul might outshine it. We visit him much down in the dark places, though he often moves his lair without remembering to tell Minsk square. Gale, the man who would be a god, but then thought better of it. Boo thinks better of him for it, too. Shadowheart, two gods dogged at her soul, but she managed to keep it all for herself in the end. Wait, Boo, did she do something with her hair? Halsin, arch-druid of Archer, is somewhere. He is a much better man than he smells. And there, the champion of the hells herself. Karlock, demon's bane. Devil's bane. Merkle, ball, and bane, bane. Once the guild is made of goodness once more, Boo shall scratch the hells wide open and find a way to bring her back. And finally, Jahira. If this is a name you do not already know, then not even Boo can save you. Study them well, sneak thief. For the best among them will be a guide for your guild. Heroes who put the city before themselves. Who never fought or in their duty. And more than this, who never arrived to a party without even a gift for the host. But wait. Go, my friend. Be among our friends. There is much work yet to be done before this one is fit to join them. Sì, Minsk è bellissimo. Ma più che altro è anche uno di quei personaggi che giocato in una campagna di D&D è talmente semplice che anche appunto ti crea degli spunti di roleplay, di giocate, anche da vivere. Senza che tu dici, ah beh, devo sta a pensare questo, questo, quell'altro. È il buon accione che se si incazza ti frolla le legnate. Però è super buono, gli pigliano quei momenti come questo in cui dice tutte queste cose fantastiche. Tra l'altro ha detto una cosa molto interessante. A Starion c'ha una tana per Baldur's Gate, perché giustamente non ce l'ha più. Ci sta facendo un riassunto dei personaggi a modo suo. Madonna, madonna, e lì qua? Come to meet again? Friend! You came! Big brother Scratch too! Happy! Madonna, fottolo, pettalo tutto! Potevi togliertelo almeno l'armatura. Ero per un attimo tornato a Tavernus. Sono andato a ammazzare due imp e sono tornato. Cosa hai fatto dall'ultima volta che ci siamo visti? Molti! Faccio amici con una turtola, un ucchio, un kraken! Un kraken com'è il mio ucchio, amico, quindi cuido, cuido! Con i ucchi, sono forti! Tired! Ora? Vuoi dormire? Vuoi cagli? Hai bisogno di qualcuno che si prenda cura di te? Che ne dici di Alzin? Bear Man? Mmm... È grande, ma non più grande di me. I like him. I go to him. Ma toh! Ma hanno fatto pure le animazioni così! Ma queste sono tutte animazioni uniche, ma rimangono nei posti o si spostano piano piano? Perché se fanno tante robe è una figata! Sì, comunque girano per l'accampamento e si spostano, sì! E fanno roba! Ma io adesso sono curioso! Graffio! Graffio! Scratch can't quite speak around the thing he has in his mouth. Sono felice che a Pizziti si è ricordato di invitare il mio cagnolone preferito! So am I! I've got a nice home in the city now! A girl named Mindy says I'm her best friend! She's mine too! Also you! And Albert! I've got so many best friends! I hardly know who to snuggle! I missed your smell! But this thing I found had you all over it! I brought it for you! And I thought... Perhaps you'd like to... Threw it! Cioè lui vuole che gli tiro la prigione ancestrale là! Che tra l'altro sono stati furbissimi che l'hanno fatto molto simile a un D20, sì! Sono felice, sapete che te la sei che è avata bene dopo i nostri viaggi insieme! I certainly have! And I always will! Forever, I think! And so will you! You would think someone of my vintage would be in newer to the passage of time! Yet these past six months have seemed endless without your company! But now our paths cross once more! È incredibile come io abbia probabilmente vissuto meglio Minsk che Alcine, purtroppo! Il sentimento reciproco mi sei mancato! We have all pined for each other company, I sense! I cannot imagine otherwise, after what we shared! That bond was forged in a crucible that can never be stoked again, Oakfather Willing! It is a bond that can weather any distance, any passage of time! I know it can, for I feel the longing for old friends in my heart each day! Sembra proprio che tu abbia bisogno di un abbraccio! I always do! Should I ever decline? Assume a doppelganger has taken my place! That was more than worth the wait! Prima tu Alcine, raccontami della vita che hai condotto, delle persone che hai aiutato! In that case, very well! Our community grows rapidly! In six months, we have turned what was once a shadowy wasteland into a true home for all! In another six months, I would wager the scars of the past will be entirely invisible, even to those who remember them! The old masonry of Moonrise Towers and Rithwin have been repurposed into new homes! And the land is rich with harvest and bountiful trees! Nature and civilization are in harmony! Stronger together! E' questo l'equilibrio che desideravi! In a manner of speaking, yes! Though it is a more complex, evolving beast than I could ever have anticipated! True balance is no simple, fixed thing! I see that now! We welcome folk from all walks of life! Anyone who wishes for a new start! Naturally, it can be chaotic at times, but it is a thrilling sort of chaos! It thrives in ways I could never have dreamed of! Sono felice, che tu sia felice! I may age more slowly than most, but I do believe I've gained some new laughter lines of late! Now, please, tell me all, and spare no details! I shall not lie! I have an ulterior motive in wishing to hear all! It is the children, you see! My charges, their appetite for bedtime tales is greater than I could ever have anticipated! Another story, Daddy Halcin! Another is the chorus that greets me each nightfall! I have all but exhausted my repertoire in but a few short months! No mean feet given the lifetime I have lived! I desperately need new material, please! My reputation is at stake! Immagino che ci saranno alcune storie che dovranno aspettare fino a quando non saranno più grandi! More than a few I should think! At least I should be equipped to explain the birds and the bees when the time comes! But I hope that time is quite a while off yet! Avernus si è dimostrato... Mh... Bivace! Ma almeno Karlak al mio fianco! La sua risata è in grado di squarciare le nuvole! Che bella! Cazzo! Di frasi! I am glad you and Karlak have an enduring friendship! It shall serve as a strong lesson for the children! As well as a stirring tale! Now, it would be cruel of me to hoard you all to myself for the evening! As much as I would like to! I shall leave you to the others for now! Unless there was anything else! Daniel e Oliver! They come and go as they please! But with so many playmates to avail of! They are far from strangers! They ask after you often! What you did for them will never be forgotten! I can see it in the land all around me! But more importantly... I see it in their faces! Whenever they visit! To make a child smile is to dabble with the power of gods as far as I'm concerned! Temo di averti assegnato una responsabilità senza averti prima chiesto un parere! La tua nuova comunità potrebbe avere uno spazio per un orso gufo ben educato? Do you truly even need to ask? Of course! Who could not open their home to a befeathered hero of Baldur's Gate? Ah, and I did promise the children I would bring them back a surprise! Ah, imagine their faces! Before you go, I have something for you! Just a little keepsake, really! Do you remember how I told you I like to whittle? I made this! Ducks are my favorite, but I thought they were particularly fitting in this case. They are migratory birds, of course, traveling far and wide with the turn of the seasons. Yet, they always find their way back to where they belong. Just like old friends find themselves back in each other company. Bella sta cosa, cazzo. È adorabile, grazie. Just a token to remember me by. Now, I've taken up enough of your time. Go on. Enjoy the festivities. We can speak again later. Well, now. You can make yourself presentable when you have in mind too. Ah, che tu mi sei mancata già era. Ah, how nice to be understood again. I have spent the past months bickering with builders and bankers. All to restore the city exactly as it was. Same twisting alleys for purse pickers. Same wooden buildings ready to get burnt by next year's dragon. Same cisterns overflowing. Huh? Is that a fire beastie? Hmm, what else? Helping. Whether I ask for it or no. Harpers have come from half the world over to land aid. Farmers, masons, healers. My own son, Jord, has been wooed to their ranks. Already he plans crop cycles in Worms Crossing. Not so for my daughter. Ryan's rejoined the flaming fist. Temporarily, you understand. To organize the craftsmen. Though she spends more time locking up comrades for pocketing eight ones. They might learn a thing or two if they don't expel her. Again. Bene, questi sono nomi che magari potremmo risentire in Brothers Gate 4, in future, in altre cose. E Minsk invece? The beloved ranger? Oh, beloved wherever he goes. Winning all sorts over to our rebuilding efforts. Minsk has the guild and nine fingers on board. Deep down, it seems even the wicked can be moved to care for the city that made them. Of course, many of the wealthy fled the city when danger struck. Huh. Perhaps the thieves only want to lure them back. But for now, their hands are busy laying bricks. While I hover around. Mistake me not. There is still much to be done. Plans to make. Maps to be frowned over. But my children are more than capable of doing it. Even the young ones tire of me peeking over their shoulders. This night offers them a brief respite from me, at least. In this place, now I look at it. It is where you all spent your first night together, no? A fine spot for an adventure to begin. A fine spot, indeed. Non farti venire strani idee solo and darteli di nuovo. I tuoi figli hanno bisogno di te. And I them. But I cast a little more shade than I would like. And they are only beginning to see the sun. Which is my way of saying... I'd like to see the open road once more. Just for a time. I'll find my way back. As I always do. I admit defeat. Baldur's Gate is my home. But that is the thing about home. The only way to see it clearly is to leave. And look back. For a little while, at least. For all your travels. I hope you have arrived where you want to be. Home. Whatever that means to you. The place where we are now, this campamento, is my house. Even when I'm at miles and miles away. Oh, sentiment. With the greatest affection, I can think of better ways to sour our stomachs. I must inspect the refreshments. You never know. Some ne'er-do-well might have tempered with the wine. Hello, darling. I wasn't sure our withered old friend could live up to his promise. But here we are. And look at you. Straight from the hells. Still reeking of brimstone. I take it you've been having fun. Ma è bello che in tutto questo, Avvizita ancora non gli ha detto che è Gergal. E non glielo dirà. Cioè, perché loro dicono, vabbè, potente. Per loro sono incantesimi di resurrezione. Ma in realtà, è mei coglioni. Astarion potrei abbracciarti, quascone. E tu, invece, come sta la mia sanguisuga preferita? Astarion, uno dei buoni. Chi l'avrebbe mai detto? Qual è il tuo prossimo passo? Continuerai a condurre una vita da persona buona? Hardly. Good people don't spend as much time lurking in the dark as I do. You know, it's funny. At first, I thought I was trapped by the shadows. Cursed to live in them forever. But in time, I realized that darkness is as much a part of me as my fangs. This is only a curse as long as I refuse to embrace the shadows. So, I decided I would. I decided not to be defined by the choices of other people made. By what other people did to me. My past may be done. But my present. My future. They're mine. This is who I am. In all my glory. For better. And for worse. È diventato il vero caotico buono. Lui. Sono felice di sentirtelo dire. Dall'accettazione derivano molti sentimenti positivi. That being said, I haven't completely given up on returning to the sun. If the opportunity presented itself, well, I wouldn't say no. But until then, I am happy. We've had quite the journey, you and I. From the moment I first threatened you, I knew you were someone special. Someone to take on the world with. I will miss our time together. But then again, maybe this isn't goodbye. So much as it's... See you later, darling. Madonna, quel sorriso. Quanto è più sincero rispetto ai primi sorrisi che faceva. After everything. This feels nice. I have a chance to take a breath. Metaphorically speaking. Che è tra l'altro un modo intelligente per far notare dei vampiri ai vostri player e facendogli fare un tiro su percezione passivo perché i vampiri non respirano, non battono le palpebre, non c'hanno il fiato. Piccole chicche. Fammi vedere qua, che è? Sei mesi dopo l'assassino e la Ciduca Cortas. Testimoni incontra progeni vampiri che sovravie per raccontarcelo. Piccolo sole. Visita il nuovo distretto costruito dai profughi elturiani. Oh, si sono messi là i... i... tifling d'Elturel. Figo. La tenuta genet ospiterà una serata di arte e cultura per celebrare la salvezza della città. Nuo collegio bardico fondato da un tifling ottiene un finanziamento della città alta. Questa è Alfira! Alfira ha fatto un collegio, madonna sì! Spero che state insieme e ve sposate voi due. Guida di volo a Baldur's Gate. Bardo in cerca di contributi per la nuova edizione. Oh! Ultimi cultisti rimasti allontani dal Tempio di Bal. Vie di navigazione bloccate dai relitti del trono di ferro. Commercianti rivolta. I coloni si dirigono a monte. La maledizione non esiste più, dichiarano. Ok, per tornare nella zona dove c'era la maledizione. Risotto il caso d'omicidio della servitrice delle onde. Ravengard recupera forza e salute. Le sentinelle d'acciaio non sono più una minaccia. Assicurano i gondiani. Scoperto l'assassino. È un ballito impazzito. I cavali di Kityanki hanno aiutato a salvare la città? Eh. È figata? Guardate st'immagine quanto è bella. E quanto spiega. I gondiani si sono infilati dentro le sentinelle. Cioè, quindi adesso c'è un halfling. Con sotto la corazza. È bellissimo. Sei mesi dopo. Torre di Ramazit ancora senza un mago. Perché? L'esercito di Torm scacciato dalla frontiera balduriana. Il rinnovo delle merci. Intervista al nuovo signore della torre di Ramazit. Ah, ok. Esclusiva. Signore di Pietra ucciso dal bene amato Ranger. Cioè, praticamente questo coso dice che Minsk si è ammazzato da solo, eh. Ma dettagli. La caduta dell'altarpista. La fine dell'eroica druida. Ah, si è ritirata, mi sa già era. Si è finalmente ritirata. Torte di mandorle di Avernus. Profughi di Avernus proprietari del nuovissimo caffè della città. Condividono la loro ricetta. Fonderia esplosa ancora inaccessibile secondo i pugni fiammanti. Belle queste cose. Perché non ce l'hanno mai spiegato. Ma i gondiani, raga, sono artificieri, eh. Perché non ci sta nel gioco, ma hanno di classe artificiere. E l'artificiere, cioè, come sottoclasse è quella di creare il mech. Può crearselo il mech, non sto scherzando. Oppure c'è che si può fare le corazze che hanno la modalità forza, la modalità velocità. Per questo i gondiani sono particolari. Perché gli hanno messo che sono maghi, ma non sono maghi. Qua è la madonna di Cristo. E che cosa è tutta? Oh, oh, di... Madonna, padre Pio, vedi questi tutti... Arca, puttana. Vedi, io dovevo far finale cattivo. Dovevo ammazzarli tutti. All'incarnazione più fedele dell'orismo dei Reami. Abbiamo seguito da vicino la tua avventura dal giorno dello schiamato dal Nautilo, dal corpo finale che ha inferto al cervello di Teresa, la cui letale minacce incombeva sulla costa della spada. Noi siamo solo un umile gilda che si vanta di raccontare storie, non diverse da quelle che hanno scritte su di te per molti anni a venire. Quanto siamo stati ispirati nel vedere le tue gesta impressionanti e terribili. Le vite che hai salvato e spezzato e le amicizie che hai trovato. Per questo motivo abbiamo pensato di estenderti i nostri saluti per ringraziarti di aver affrontato l'avventura con una tale determinazione creativa e un tale coraggio da toccare profondamente i cuori di ognuno di noi. Con la nostra più grande gratitudine, gilda del grande genio. Questi sono gli sviluppatori. Questa è una lettera degli sviluppatori. Lettera di art? Ah, no, è che di stima conoscenza. Ti scrivo dalla veranda solleggiata, dalla locanda dell'ultima luce... Ah, coso, ok. Ogni tanto soffio una leggera berezza. Le persone entrano ed escono, costruttori, visitatori, bambini di tutta l'età affidati alle cure di Alzin. Non riesco più a tenere in mano una penna d'oca, né a mangiare senza assistere. Quello là che abbiamo salvato, che è stato intrappolato per chissà quanto. Un gentile amico sta trascrivendo questo testo per me. Daniel, di congiunto, siccome la Olivera ha promesso di stare con me quando arriverà la fine. Perché giustamente questo si spegne. Cioè, quello è un umano che è stato bloccato per totta anni. Quello piano piano si spegne, povero Cristo. Non ci stanno cazzi che lo salvano. Perché là è proprio l'anima. Cioè, là è l'anima che è vecchia, che è diverso. E, mentre le nostre vecchie canzoni si perdono nel vento sempre più forte, so che mi restano pochi giorni. Morano alcun timore. Se non fosse per il tuo aiuto, questa terra sarebbe ancora avvolta nell'oscurità e io sarei ancora perso al suo interno. Sappi che il mio cuore è pieno di felice e sono grato per i miei ultimi momenti. Basta trovarci ancora un giorno e se hai tempo di fermarti sulla tomba di un vecchio soldato di pugni fiammati, sappi che mi farebbe piacere vederti. Artkullag, madonna. Queste lettere sono Fils. Ah, di Ravengard. Alla persona più importante di Baldus Gate che ha sconfitto l'assoluta e ha salvato tutti noi. La città sarà per sempre in debito con te perché senza il tuo valore, la tua audacia e il tuo sacrificio non potrebbe dire di conoscere il rinnovamento. E bada bene, non è di templi, casa e locande che parlo, ma di cuore. Bellissimo. E io, raga, non le voglio schippare queste cose perché noi ci siamo fatti 120 e passa ore di Baldus Gate e questa roba che stiamo leggendo e vedendo è la nostra cazzo di campagna. È quello che abbiamo fatto. Baldus Gate non potrà mai essere la città che era prima di subire il tocco dell'assoluta ed è esattamente così che dovrebbe essere. I sopravvissuti hanno assistito alla quasi distruzione delle loro case, e si sono pentiti di aver chiuso un occhio sulla crudeltà che Gorta ci ha ammascherato da sicurezza e protezione. E capiscono proprio come ho capito io che la fiducia, la compassione e l'unità sono le vere fondamenti dei Baldus Gate. Bello. Questo si va a vedere nel finale che tutti se cominciano a proteggere tra del loro e caricano. Le nostre porte sono di nuovo aperte e rinnegate agli sfollati. Pugni fiammanti impareranno ad essere veri servitori e io mi dedicherò a liberare la città dalle vergognose paure che hanno permesso al male di entrare nelle nostre case e sedersi ai nostri tavoli con ammirazione Uldar. Ehi tu, sono Arabella, ti ricordi di me, vero? Come faccio a non ricordarmi? Una volta l'uomo osso mi ha detto che dovevo trovare l'equilibrio, dove la creazione incontra la rovina, dove il mattino incontra la notte fonda. La radice di tutto l'essere, un discorso pieno di paroloni, ma aveva ragione. Dopo aver toccato quell'idolo nel boschetto, è stato come se un grande albero avesse iniziato a crescere nella mia testa e in tutti questi strani pensieri, sentimenti e poteri sono spuntati sui suoi rami come grandi foglie nere. Dovevo capire come muovermi, così ho seguito la trama, come aveva detto l'uomo ossa. Non so come ho fatto a sapere cosa fare, l'ho fatto e basta, è diventata uno stregone. Uno stregone, sì, di eredità druidica. Dopo aver schiacciato il cervello è arrivato l'uomo barba. Ha detto che la trama ha condotto lui da me e me da lui. Chi è l'uomo barba? Mi sta insegnando a dare un senso a tutte quelle foglie sul mio albero della testa. Dice che devo usare la magia in modo irresponsabile. Dice anche che non devo chiamarlo l'uomo barba. Ti farò sapere come andrà. Cazzo è l'uomo barba? Ah, l'uomo barba, non è Dino, è coso, è il Minster, l'ha trovata il Minster. Minchia greve, questa ce la ritroviamo in Baldur's Gate 4 tra vent'anni. Cazzo è muaraj, araj, 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 non ho preso che babba Baldur's Gate. Araj, araj, araj oblodra, maestra delle arti sanguigne. Ah, la dru esplosiva. Mio amico, no, mio, mio caro. Saluti da Menzon Beranzan, marcazza puttana di che cazzo di nome. Dove il sangue che mi hai così gentilmente fornito è pronto a fare la sua parte per far risorgere il glorioso casato. Ob, ob, mar, oblodra. Che infatti è tipo un gioco di parole perché sarebbe oblod sangue. Dal momento in cui ti ho visto ho capito che avevi un potere, sapevo di poterlo sfruttare, sapevo che poteva essere mio. Presto scenderò nell'abisso che la mia gente chiama, crepa artiglio. Ai cerca della mia magione, perduta nelle sue profondità, sarà pericoloso? Oh sì, molto pericoloso. Ma non temere tesoro, ma che cazzo vuoi tu? La tua forza mi accompagnerà, troverò le rovine della mia dimoria. Quando rimergerò sarò come la madre di un casa adorinato. Tutto grazie a te, tutto grazie al potere del tuo sangue. Al nostro prossimo incontro tesoro. Araj, bob, oblodra. Maestra delle arti sanguigne e compagnia, va bene. Dopo tanto tempo nella cella di un vampira e quello che si era fottuto a Starion, avevo quasi dimenticato come si scrive. Non importa cosa scrivere, ma cosa puoi dire alla persona che ti ha aperto la gabbia ridandoti la vita? O una specie di vita, quantomeno. Dopo che hai ucciso Casador e hai aperto le nostre celle, siamo fuggiti dall'Underdark. Eravamo migliaia, un'ondata famelica, impazzita di libertà e in cerca di sangue. Ed è il sangue l'abbiamo trovato. Siamo sciamati su ogni mostro del rito che si è capitato a tiro. Però figata, vedi? Nella cosa si sono bilanciati, cioè sono andati a ammazzare bestie dell'Underdark. Siamo sciamati su ogni mostro del rito che ci capitava a tiro bevendo quello che potevamo. Abbiamo perso centinaia di progeni lungo il cammino, alcune a causa delle bestie, ma la maggior parte è semplicemente scomparsa nell'oscurità. Ok, è una via di mezzo qua. Non è stato facile, ma alla fine il gruppo di progeni del palazzo di Casador ci ha calmato e ha preso il controllo. Ok, hanno creato una sorta di roba, figo. Abbiamo trovato delle vecchie ruvine che potevamo chiamare case, ed allora siamo rimasti lì a costruirci una nuova vita. Non siamo liberi qua giù, l'oscurità ci incatenerà per sempre, ma non siamo nemmeno i prigionieri di una volta. E questo cazzo è te che hai guardato le nostre gabbie e hai visto persone, non mostri. E qui nell'ombra stiamo cercando di essere all'altezza. Cazzo è ora e per sempre, Sebastian. Caro amico, ho dubitato di te per tanto tempo. Bastarda maledetta, perdonami. Forse lo sapevi già, nonostante i miei migliori tentativi, hai dato prova del tuo valore più volte. A riposo di Woken, alle torri dell'arba lunare, alla roccia del dragone e ancora dubitavo. Brutta stronza. La sconfitta del cefano di Terese avrebbe dovuto dimostrare il tuo coraggio, eppure era ancora più dubbiosa che mai. Lo credevo uno stratagema, un sogno, un inganno. E vabbè, la prossima volta vado a pia pizza, schicchere sulle gengive mistra e vaffanculo. Finché una sera senti una canzone per venire al canto elfico. Era un ritornello raucola, scivo, senza alcuna melodia e dei doni ubriachi. Non avevo mai sentito nulla di più terribile e più bello allo stesso tempo. Alzai la voce e mi unì al coro. In quel momento tutti i miei dubbi si sciolsero e furono sostituiti da qualcosa di più prezioso. La speranza, bellissimo. Badus Gate sarà di nuovo intera, avrei potuto dubitare di te, ma tu non l'hai mai fatto. Oh no, Alfina. Ehi, compare, mi dispiace che sia passato così tanto tempo dall'ultima volta che ci siamo sentiti. Ma ho una notizia incredibile. Ti ricordi che la grissa faceva dei turni assurdi la tavena del canto elfico? Beh, una mattina mi ha svegliato, tutta eccitata e mi ha detto che aveva una sorpresa per me. Mi ha portato in una casa della città bassa che aveva una targa appesa all'esterno. Una targa con il tuo nome e quella di Liala. E sotto la scritta, scuola di musica. Ah, mi hanno dedicato a una scuola di momaton. Sono scoppiato a piangere, non potevo crederci. È la cosa più carina che tu possa aver mai visto. Con un grande spazio aperto al piano di sotto e un piccolo soppalco dove possiamo dormire. La voce si è sparsa in fretta e, prima che me ne accorgissi, avevo una stanza piena di apprendisti bardi da Candlekeep e Waterdeep. La grissa ha persino dovuto lasciare il canto elfico per dare una mano. Oh. Ah, è vero. Ecco, madonna, non me lo ricordavolo. Non è vero, è la maestra. Ma-do-o. Insegno giorno e notte e cado a letto completamente sausta ogni sera. E non sono mai stata così felice. Vieni a trovarmi qualche volta, ci farebbe piacere averti con noi. Con tanto affetto. Alvira, sì, te sei messa pure con la grissa. Ma non... Ma non fare finta di niente che quella ti sta leccando i piedi. Ah, idiope! La scorsa notte ho fatto un sogno. Cioè, non che ci sia davvero notti qui. Era un sogno su di voi, tutti voi. Eravate qui con me e avevo servito pane e marmellata, biscotti d'avena e formaggi e abbastanza da dissetare un deserto. Avevo sganocchiato e seggiato e sorriso e riso. E mi hai chiesto se ero felice. Ti sembro scontento, Oga? Nessuno me lo chiedeva da così tanto tempo che non so dire se qualcuno me l'abbia mai chiesto davvero. Non avevo le parole per risponderti, così ti ho guidato attraverso la mia casa e ti ho mostrato tutte le anime che sono qui con me. Un tempo erano di Raphael, ma ora appartengono solo a loro stesse. L'archivio è una galleria d'arte, il boudoir è una grande cucina, le prigioni sono un rifugio per qualsiasi animo o creatura ferita che trovi la sua strada verso di noi. Sono felice, non lo so, ma sono speranza e persisto grazie a te. Questa in inglese è più bella. I am hope. Sì, è quella nana lì, perché lei ho scoperto di facendo, vedendo cose, che letteralmente e semplicemente è l'incarnazione della speranza. Ho pensato di iscriverti per prima, per una volta, brava stronzo. Finalmente ho avuto il mio bambino, e sì, sorpresa, non era una bambina come sosteneva Ethel, è un bellissimo maschietto. Non posso credere di aver pensato di rinunciare a lui, urla a squarciacola per tutta la notte e io dormo a malapena, ma sono felice di quanto sia mai stata. A parte nel giorno del mio matrimonio, ovviamente, ho deciso di chiamarlo Connor, e spera che non lo fai diventare uno zombie pure questo, perché se ne ha a fine, come suo padre. Dopo la scomparsa di Ethel, io e altri sopravvissuti alla Meggere abbiamo fondato la nostra casa editrice. Finora abbiamo stappato solo qualche opuscolo, ma sono a metà del mio primo libro. Io, una scrittrice, sembro uscito da un sogno. Ti ripresenta che parla di come uccidere le Meggere, ma sai come si dice, iscrivi sempre di ciò che sai. Con ogni opuscolo che pubblichiamo aumentano le persone che partecipano ai nostri gruppi di sostegno. Per quanto tutto questo mi renda felice, mi spezza il cuore vedere quanto male ha fatto Ethel. Ma finché vivrò, un'altra Meggere non metterà pieta a Vadosgate. È la mia parola. A ogni modo, il motivo per cui ti sto scrivendo non è solo quello di farti la morale. Per ringraziarti per aver salvato una giovane ragazza spaventata che pensava di essere una madre terribile. Non avrei potuto sbagliarmi di più. La prossima volta che ci incontreremo, le birre le offro io. Oh, avete visto. Sei arredenta alla fine. Zeblor! Dai che la mia voce sta andando. Ecco ragazzi, sto diventando. Però che la mia caligrafia si è migliorata un po' negli ultimi mesi. Quando sono entrato per la prima volta in città, tremavo così tanto che riuscivo a malapena a sorreggere la zuppa che i sacerdoti mi spremevano dalle mani. Che vuol dire mi spremevano dalle mani? Beh, becca di sto succo di arancia con tutti i... Beh, basciamo... Figuriamoci a scriverti e ringraziarti come meriti. Ah, perché dopo la battaglia, minchia, lui giustamente era bello sciolto. È solo quando la città stessa ha iniziato a tremare che ho sentito le mie mani diventare più ferme. Insieme agli altri veterani che si rifugiavano al Tempio, scarti della legione indegna di El Torel, ho visto quelle mostruosità alzarsi sulla città alta. Non abbiamo provato paura, solo rabbia, disgusto, scopo e con essi... Oh... Voi immaginate questa scena che bella a livello proprio di D&D. C'è sto gruppo dei paladini che tremavano perché erano deboli, sa, sentivano veramente moscia. Dicono, porca puttana, io devo aprire il culo a quello. E gli ritornano i poteri. C'è... Meravente... Come si chiama? Voto della vendetta proprio. In realtà penso forse del difendere i giusti, più che altro, potrebbe. Non so a quale giuramento ci aggrappiamo ora. Né quanto durerà, ma lo useremo per assicurarci che questa città non soffra come ha sofferto El Torel. Che ci voglio o meno. Che intanto questa è una cosa che mi è successa anche molto su TikTok di chiacchierare. Ragazzi, come ho detto spesso, i paladini non vanno sulle divinità. I paladini vanno sulla potenza e quanto loro credono nel proprio voto. Poi per carità i poteri provengono da qualche dominio divino, ma non è specifico. Per questo i paladini castano su carisma. Perché è quanto loro credono in quel giuramento. E quella è la cosa figa. Quello che ti devo è più di un semplice ringraziamento. Nessuna parola può fare ammenda per ciò che ho fatto alla mia agenda. Ma è giusto che sia così. Ogni giorno arrivano altri al tempio per aiutare con i soccorsi. E se mi è permesso di lavorare al loro fianco, tanto basta per essere contento. Vieni a trovarci quando potrai. Zevlor. Bellino. Salve compadre, spero che questo messaggio... Se è il tizio... Oh, è quello che abbiamo... Era l'ultimo arpista che era rimasto de... Già era. Oh, bellino. Però che questo messaggio riesca ad aggiungere ai tuoi occhi. Ounque tu sia, volevo solo ringraziarti e chiederti un favore. Sarò nominato membro della guardia. L'altra arpista mi ha proposto al consiglio degli arpisti per servire la città. Non so bene cosa significhi, ma so che non fosse stato per me. Sarai tornato a togliere le erbacce nel giardino di mia madre. Mi è permesso portare un ospite alla cerimonia in cui sarò nominato davanti al consiglio. Tu hai già parlato per me una volta. Capisco che probabilmente sarai sotto un mare di impegni, ma sarei tornato se lo facessi di nuovo. Vi ricordate quando noi siamo andati dove erano rimasti gli ultimi arpisti di Già era? Ed erano tutti doppelganger tranne uno che ha fatto capire a Già era. Oh, ci stanno in culà. Quello là Già era gli aveva detto vattene, non diventare arpista. Abbandona sta vita. Io ho detto no, deve scegliere lui. E lui adesso è diventato un me coglioni, mi ha chiesto guarda puoi riveni a parlare per me. Cioè puoi farmi tipo da galante. Bellissimo. Aspetta, la tua risposta quando puoi, ma spero presto. Il balance del mondo è restato. Il balance di queste vie, mortali e altrimenti, è portato a capire. Sì, me. Sì, me. Sì. Sì, me. Sì, me. Sì. Sì, me. Sì, me. Sì. Sì, me. Sì. Sì, me. Sì, me. Sì, me. Sì, me. Sì. Sì, me. Sì, me. Sì, me. Sì, me. Sì, me. Sì. Sì, me. Io mi sono commosso anche perché ho ripensato a tutte le cose. A tutte le volte che mi hanno detto, oh, io ho cominciato a giocare a D&D, i party, il sentirti parlare della lore mi ha fatto appassione a D&D, prima mi non mi interessava, adesso che ho visto le live me lo sono comprato. Queste sono quelle robe che mi scaldano veramente il cuore. Cioè, sono come quei momenti in cui mi dite, oh, io mi sono comprato Dragon's Dogma. È quella roba che voglio trasmettervi. Io non vedo l'ora di fare il Corjanza. Saranno uno dei Corjanza più lunghi, ragazzi. Adesso ho 300 clip, circa 20 ore di clip. Farò per capitolo, muo vedo. Questa serie ho conosciuto le capo e tanta gente stupente e adesso io mi sento tuttissima felice per quello che ho trovato. È vero? Tu non scrivevi mai in chat e poi ti sei palesato. Pensa a essere l'ultimo nome della fine, con i genitori, chi sei chi? Mamma, mamma, ho lavorato a Badosgate, ci sta il mio nome? Sei ore dopo. È quello che ha sbattuto le palpebre, porca puttana, deve rifarsi tutto. Madonna, ma sai che borde... Ma infatti io, uno pensa sempre a sviluppare i videogame, ragazzi, ma parliamo seriamente. Ma i titoli di coda? Pensate che voi avete sto muro di testo infinito su Premiere. Se per sbaglio su Premiere andate oltre un tot, gliccia. Sta roba. Ma fate un software apposta per farla, perché se no si spiega. Gustav for being Gustav. Grazie, Anna. Queste sono tutte frasi che gli hanno fatto mettere. Grazie al mio cane Zoltan. Wolfgang e Mingus. A mia madre, mia sorella, la mia famiglia e mio figlio. Ecco, questa invece è una cosa che me commuove. Vedere così tanta umanità dietro a un prodotto mi riporta... proprio quel calore di un tempo. Cioè che ci mettevano proprio il cazzo d'amore dietro ai videogame. Mauva, grazie per l'amore, la pazienza e il supporto. I pacchi... I pacchi di... C'era uno che ha scritto i pacchi di Gio. Bello. Ci abbiamo un italiano all'Ararian. I pacchi di Gio. Vedete? Perché vedersi i titoli di coda? Sì, ho capito però. Dai. Un meridionale, sì. Ah, è bellissimo. Bellissimo. Un amore. Oh. No, ma questo è bellissimo. I figli che gli sono nati durante lo sviluppo. Lega il bit. Oh. 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 Dai. Dai. Ehi. Granny Animation. Cosa cazzo sto leggendo? Te prego. Te sopplico. Sono stati bellissimi. Ve li meritano. Non lo faccio mai. Death Base Madonna faccio alta F4 e disinstallo il gioco quando finisce. Ve li vedo tutti. Però dai. No, ottimo parto di tutti i copi. No. Va bene, sto qua. Non posso schiappare da questa cosa. Ho detto che ce li vediamo e ce li vediamo. Dio Madonna. Ma attaccateli. Non mettete tutto sto spazio. Cazzarola, avete scritto pure in fondo piccolo. There thou art, the dead three. Thy faces gods, thy actions barely worthy of the name. Didst truly believe thy ploy would succeed? Didst believe I would not notice? Thou soughtst to bolster thy strength by taking away the souls of mortals. But souls vanish when their hosts become mind flayers. Didst think the other gods would not notice? Gods thou may be. Yet thou hast proven thyself fools. Everyone. The supplication of Bane. The whimper of Baal. The death mule of Merkle. Felled by mortals. I overestimated thee. They did not. Vermin away. Thou wilt trouble us no more. Bello. Questo è per farvi capire che alla base di tutto Baldur's Gate ci sta la solita cosa degli dèi. Hanno fatto tutto sto gigantesco bordello. Perché facendo caos, morte e distruzione muoiono persone. Muoiono persone. Guadagnano potere perché prendono anime. Però Gerga gli ha fatto... Fortissimo. Leggero. Passato davanti al nasino. Così gli ha fatto col cazzo. Bello. Io ragazzuoli vi ringrazio per essere stati con me all'interno di tutta questa lunghissima e bellissima serie. E niente. Vi ringrazio veramente per questo bellissimo viaggio. Bello. Grazie a tutti di aver visto le live, di abbonamenti, pubblicità. Il semplicemente esserci stati molte volte fino alle due di notte. E ricordate che probabilmente non è un addio. Ma è un arrivederci. Ciao. Ciao. Grazie a tutti.